della situazione. Mai prima d'ora un colore di capelli è stato così intenso. È l'ultima novità di Testa Nera. Il nuovo Briance con Color Intensifier. Con il 20% in più di colore. Intenso più che mai. Colori brillanti e durevoli, come diamanti. Nuovo Briance da Testa Nera. Un tempo si credeva che la terra fosse piatta, proprio come un puzzle. Ma ora non più, la terra è rotonda, proprio come Puzzle Ball. Le sue tessere di plastica si montano facilmente e senza colla. Il risultato è assolutamente perfetto e incredibilmente solido. Puzzle Ball, l'unico puzzle sferico al mondo, da... La tua camicia usata. È brillante come nuova. Succede. Con Ace Blu protezione attiva. Smacchia a fondo e aiuta meglio delle altre candeggine a proteggere i bianchi dall'ingiallimento. Candeggio dopo candeggio. Ace Blu protezione attiva. Smacchia a fondo. Protegge il bianco. Alba, assegnate il brindisi. Felicità. Alba, e mo' ci hai scocciato? Eh. Con i team. Il tuo mondo è sul telefonino. Anche lo sport. Tende da sole, tempo test. Parà fin dalla notte dei tempi. Eccoci. Grazie, grazie, grazie. Buonasera a tutti. Buonasera. Verdi, venerdì. Siamo qui al gran completo. Buonasera Elena. Buonasera Giovanna. Buonasera. Allora, vedete che le nostre ragazze sono pronte a comunicarvi qualcosa di importante. a Giovanna in mano una sorta di mazzolino di fiori, ma ci spiega esattamente Elena di che cosa si tratta e perché ne parliamo. Sabato 13 e domenica 14 marzo in 2000 piazze italiane saranno distribuiti 400 bulbi di calle colorate per l'iniziativa Fiori in Città, promossa dall'associazione italiana Sclerosi Multipla. Rosso, rosa, arancioni sono i colori delle calle con cui potremo dare un contributo alla raccolta fondi per la ricerca scientifica su questa malattia del sistema nervoso centrale che in Italia colpisce 52.000 persone. Per informazioni si può consultare il sito www.aism.it. Per sapere in quali piazze si trovano le calle dell'Aism potete chiamare il numero 840 50 20 50. Perfetto, grazie ragazzi, molto importante questo. Segnatevi questo numero, questi sono i bulbi. Grazie ragazze, grazie Giovanna, grazie Elena, give me five. Via! Giocate, giocate, accomodatevi, accomodatevi. Fori il primo, il primo che commette il doppio errore. Come sempre sono sette, ma ne rimarrà solamente uno. Sapete che da ieri abbiamo un nuovo campione, il nostro Everardo. Buonasera Everardo. Ciao, Matteo. Ti presento Everardo, ti presento Everardo, gli avversari, partendo da Carlo. Carlo arriva da Bologna, è pensionato, è sposato con Giovanna, ha un figlio Davide, ha anche una bellissima nipotina che ormai ti ha fatto perdere giustamente la testa, si chiama Ellison, vero? Vero. Ellison. Allora Carlo, sei accompagnato da chi intanto? La mamma di Ellison. Ah, la mamma di Ellison che si chiama? Si chiama Lani. Lani, buonasera Lani, buonasera, buonasera. Buonasera. E da? Mia nipote Claudia. Perfetto, ciao Claudia. Buonasera. Buonasera a te. Allora Carlo, beato tra le donne, accompagnato dalle donne. Manca la terza. Manca la terza, vedi? Prima domanda Carlo. Secondo un modo di dire, il pessimista cronico vede sempre la metà vuota di che cosa? Del bicchiere. Del bicchiere, per il pessimista è sempre mezzo vuoto e non mezzo pieno. Maria Grazia, ciao Maria Grazia. Ciao. Maria Grazia è nata a Bisceglie, però vive a Bollate qui vicino Milano. Consulente di sistemi informativi, sposata con Diego. Qui Diego, eccolo qui. Ciao Diego. Avete un sogno, mi ha detto che tua moglie ha un sogno che è quello di avere tanti figli, ma per poterlo fare dovete comprare casa, perché attualmente vivete in un piccolo... Un monolocale. Un monolocale e quindi ovviamente insomma... Il sogno è quello, allargare questo monolocale. Allargare questo monolocale, buttare le pareti insomma. E infatti. Allora ci vuole la vincita all'eredità. Eh, speriamo. Subito, Maria Grazia ti chiedo. Della nazionale di calcio. Giovanni Trapattoni è il CT. La T sta per tecnico e la C sta per... Non lo so. Diego? Consulente. Non consulente tecnico, commissario tecnico. Il commissario tecnico della nazionale. Non lo sapevo. Vai Maria Grazia, un errore per te, eccolo. Cristina, ciao Cristina. Ben arrivata. Ciao. Da... Eh? Ah sì, certo. Dimmi, Adela. Ho sentito di Cristina che abita in un appartamento piccolo. Piccolino, sì. Quanti metri quadrati sono? Scusa, quanti metri sono? Trenta. Trenta metri quadrati, quindi... Siete fortunati. Perché? Abitano in una tomba di famiglia praticamente. Cioè, si vogliono... Io non ce la faccio più, ragazzi. Ma come? Questi vivono due cuori e una capanna abiti in una tomba di famiglia. Ma è possibile che tu parli solo di tomba? Eh, insomma, ma dai, dai. Ma come una tomba di famiglia? Due cuori e una capanna. Ci sono i cuori? Ti porto anche a questo. Cioè, ma non è possibile. E 30 metri quadrati, ma mica è un loculo. È... Una tomba di famiglia. Una tomba di famiglia. È un po' più grande. Mamma mia, ragazzi. Toccate tutto ciò che avete. Che porta. Ferro. Ok. Diego pure. Cristina, buonasera Cristina. In quanti metri quadrati abita? Un po' di più. Un po' di più, quindi. Sì, sì. Da Torino, vero? Torino. Torino. Si sente, eh? Eh? Si sente, un pochino. Ancora no, perché... No, no, la cadenza. Ah, la cadenza. Vabbè, mica... Noi abbiamo il nostro badante, che è di Torino. Torino, lì che ogni tanto si sente anche lui, però è bello l'accento di Torino. Mica tanto. Come no? Io adoro gli accetti. Lavora nei negozi di mobili dei genitori. Yes. Si definisce terribilmente sfortunata. Ma come? È abbastanza. Ma come? Dice, non ha il fidanzato, mi va tutto storto, sono andata a vedere la Juventus, pioveva. Eh, giocava contro l'Inter. E come è finita? Eh, ha segnato la Juve, ma non ho visto il gol. Come non hai visto il gol? Eh, ho visto per tutta la partita, quell'attimo lì che mi sono girato a parlare con il mio vicino, quella dove si è domovato, che è successo? Ha segnato la Juve. Ma è incredibile, Cristina. È incredibile, che ci vogliono fare? Dobbiamo togliere questa sfortuna. Come? E come? Cominciando a vincere l'eredità è il primo segno di fortuna. Proviamo, Cristina. Se chiamo Putin, se io chiamo Putin e il suo ufficio di presidente, in quale palazzo di Mosca squiderà il telefono? Cremlino. Brava il Cremlino. Bene, Cristina. Matteo, buonasera Matteo. Buonasera, ciao Matteo. Dalla provincia di Como, esattamente. Esatto, Cavallasca. Cavallasca, DJ a Radio Planet. Sì, di Milano. Di Milano. Passione che ha da molto tempo. Manti anni. Tra l'altro metteva anche i dischi alle feste della sorella più grande che credo che sia. È qui con me, accompagnato. Eva. Eva, ciao Eva. Buonasera, era bravo a mettere i dischi? Bravo. Lui metteva i dischi e tu ballavi e così. Eh sì. Quindi lui era quello che non cuccava mai perché chi mette i dischi in dischi... Lui guardava solo i dischi. Lui guardava solo i dischi. C'è tanto il mito del DJ ma è quello che lavora tutta sera comunque. Eh certo, è quello che deve guardare solo i dischi quindi. Matteo, attenzione, prima domanda per te. Sì. Tirando una volta un dado a sei facce, quante probabilità ho che esca il tre? Una su sei. Bravo. Maura, buonasera Maura. Maura, Maura, nata a Roma, vero? Come no? Vengo da Roma. Ah, vieni da Roma. Ma sono nata a Firenze da famiglia fiorentina. Ah, per bacca. Però mi hanno portato a Roma che avevo due anni. Però hai mantenuto, hai conservato il tuo accento fiorentino. Io lo sento, lo vabbè, come no? Tu sei molto pratico di accenti, potresti fare l'imitatore. No, io adoro gli accenti, quindi avendo girato molto l'Italia mi piace. Ci senti, mi fai molto bene. Grazie, grazie. Sposata con Ivan. Sì, il terribile. Ivan il terribile, posso dirlo da 47 anni. Da 47. Congratulazioni. Dov'è Ivan adesso il terribile? Neanche con due pistone dietro la schiena ci sarebbe venuto. Niente, proprio... Si vergogna. Si vergogna, è un chimico. È schivo, diciamo è schivo. È schivo. Mamma di cinque figlie, nonna di nove nipoti e mezzo. Che sarebbe, mezzo sta per... Nasce a Giugno, Leonardo. Ah, perfetto. Sì, però prima o poi mi dovrai far dire tutti i nomi, perché... Come no? Al prossimo giro te li faccio eletta. Al prossimo giro. Prima domanda, Maura. Ci tengo, no? Quale stato del continente americano deve il nome al genovese che scoprì il nuovo mondo? Genovese? Sì. La Colombia. Brava! La Colombia, da Cassavolo Colombo, brava Maura. Lorenzo, ciao Lorenzo, da Padova. Da Padova. Padova. Studente universitario di economia e commercio. Sì, a Padova. A Padova. Giovanissimo, Lorenzo, quanti anni hai? Vent'anni. Vent'anni, giovanissimo. Suona il violino e passa tutti i pomeriggi in palestra. Ah, suonai il violino? No. No? Il violino lo suona a casa. Ah, il violino a casa. In palestra? In palestra faccio dell'altro. Fai dell'altro, ovviamente. Ti piace, insomma, sei uno sportivo. Sì, sì, mi piace molto lo sport, curare questo aspetto, fitness e tutto il lavoro associato. Ah, perfetto. Sei pronto, Lorenzo? Sono pronto, sono accompagnato da Paolo, che è qui dietro a me. E chi te l'ha chiesto? No, giusto. No, giustamente. No, giustamente, tu dici di portare a me. Paolo, ciao Paolo. Ciao a tutti. Buonasera. Anche tu suoni il violino? Suoni il violino? No, no, io no. Vai in palestra? No. No, niente. Niente. E in corso con me? E quando vi incontrate, visto che lui suoni il violino tutto il giorno e sta in palestra tutto il giorno? Compagni di scuola. Ah, compagni di scuola, sì. Di liceo e di corso adesso. E di corso. Bene, Lorenzo, prima domanda. La giacca a falde lunghe che i signori indossano nelle serate di gala ha la coda di quale animale? La coda di un pinguino? No, coda di pinguino, coda di rondine, quella coda di rondine. Ah, Lorenzo, un errore. Ecco, l'ho segnalato. Non ti preoccupare, è il primo. L'importante è non commetterne due. Everardo! Everardo! Everardo da malavicinamante. Everardo, sapete, se avete seguito la puntata di ieri, ma ve ne sarete accorti anche all'inizio della puntata odierna, che parlava un po' di un... Com'è che l'ha definita? Tomba di famiglia. Ah, tomba di famiglia. Ha un'impresa di onoranze funebri, ereditata da uno zio. Colleziona foto di carri funebri antichi, tra gli altri da Cavalli, è accompagnato dalla fidanzata... Graziella. Eh? Graziella. Graziella, certo. Buonasera, Graziella. Buonasera, ieri divertente. Graziella ci ha raccontato anche il vostro incontro, tutto quanto, insomma. Come andai? È stata... Guarda, abbiamo passato... Hai vinto 2.000 euro ieri, eh? Quindi sempre 4.000 delle vecchie lire. Siamo stati contentissimi. Ci avete portato in un posto bellissimo, cena a lume di candela, suite con il letto che gira attorno, c'è una roba proprio... Vedi? Ma penso che l'abbiate fatto opposta un po' per farmi arrivare stanco oggi... No, perché vogliamo trattarti bene, non si sa mai. Ah, dici. No, ma non vogliamo che tu vada a casa... Com'è stata l'esperienza? Ah, un mortorio. Vabbè, invece noi vogliamo che tu sia allegro. Questa notte ho fatto un sogno brutto. Nel salotto hai fatto un... No, questa... Sì, questa notte ho fatto un sogno brutto. Brutto. Ho sognato che mi hanno rubato la bara. E penso... E sì, perché dovete sapere, lo ricordiamo a casa, che Everardo ha già la sua bara, cioè, che è antica. 700 piemontese. Un 700 piemontese. Brutto, ha detto la fidanzata di Piodi, ragazzi. Non ci capisce nulla, eh? No, eh, cioè, non ne so. Di certe cose. E te l'hanno rubata questa notte? E penso che sia stato un furto sul commissione, magari di qualcuno qua dello studio delle rudità, per te. Ah. Guarda. No. Fammi far un giro, va. Fammi far un giro, grazie. Fammi far un giro qua sul cornello. Sarà stato Santucci. Santucci! Buonasera, è stata lei? No, non ho queste ambizioni ancora. Vabbè. Allora. Però, Amadeus, non ho capito una cosa di Cristina. Non hai capito una cosa di Cristina. Ho detto che fai mobili o vendi mobili te. Vendo e li faccio. Ah, li fai. Cavolo, io cercherei una tipa come te, ti spiego. Perché ad Amadeus, cioè, non per innamorare, scusa, sa rabbia quella da altri venti, è terribile. E siccome che io, ad Amadeus, tu non lo puoi sapere, gli ho fatto un'idea sulla sua cassa, sulla sua barra. Ma che cosa? Ma non lo voglio sapere. E voglio una consulenza, giusto? Ma come una consulenza? Ecco, ti spiego. È l'impero, è una cassa che non è più in produzione, una barra che non è più in produzione. C'ha le colonne, quelle romane, di una volta. E io penserei che il frachè, tu sai benissimo che legno è il frachè, è un legno per chi non lo sa, è un legno esotico, assomiglia al miele, ha delle venature nere, cioè, penserei a Amadeus che tu lì dentro, quando arriverà il tuo giorno, fai la tua bella figura. Col frachè? Puoi fare un cassa? Cavolo, è un legno che... Per una persona... Ma io ho detto un giorno. No, certo, certo, è il frachè. Vabbè, intanto ci siamo portati avanti, vabbè. Va bene. Ok. E... Comunque è un'ottima scelta, è un'ottima scelta, è scelto bene. Ma non, che ci mettere pure tu che hai scelto bene. No, non c'è un fatto. Basta! No, non c'è una prima domanda. Ma, prima domanda. No, 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 mi rifiuto di legge questa domanda. Mi rifiuto. Come muore un gelato? E non si può. Come muore un gelato che viene annegato nel caffè? Non c'è, allora. Si scioglie. Eh? Caldo, caldo, caldo. Un gelato che viene annegato nel caffè. Quando vai al bar, cosa gli chiedi? Mi dia un... Un affogato. Un affogà. Ma che gli importa a lui come muoio? Non è basta che muoio? Everardo, annunci. Mi corre l'obbio di fare una precisazione perché a volte i casi del destino sono incredibili. Pensate. Noi facciamo le domande giorni e giorni prima e non sappiamo a chi capita una domanda. Quindi questa domanda che si è capitata Everardo è veramente una probabilità assolutamente bassissima. Eppure è capitata. Però quello che lei mi sta dicendo non è che mi tranquillizza. Everardo? Ti vede un po' pallido, Anna. Un errore per te, ecco, signor. Carlo. È peggio della maratona. Mamma mia. Se i napoletani vogliono dire ora o adesso, quale termine dialettale usano? Mo. Mo, mo. Bravo, Carlo. Maria Grazia. Grazie. Attenta che è un errore. Lo so. Quale tipo di munizione per arma da fuoco divisa a metà indica una persona che vale poco? Sei? Mezza tacca. No. Mezza cartuccia. Aiaiai Maria Grazia, doppio errore. A rischio di eliminazione. Io non l'ho mai fatto, Maria Grazia, e non lo posso fare. Ti posso chiedere una coltesia? Dio. Punta il dito contro di lui. Sto scherzando. Guardati intorno. E punta il dito contro... Lorenzo, perché mi sta di fronte. Lorenzo! Vediamo, vediamo, Lorenzo. Allora, Lorenzo, tu sai che ci sono tre sfere, l'A, la B o la C. Con quale delle tre vuoi tentare la sorte? Eh, proviamo con l'A. Bene, insomma, vediamo qui il duello tra Maria Grazia e Lorenzo. Vediamo se va bene per Maria Grazia o se va bene per Lorenzo. A causa dei grossi debiti accumulati, che cosa fu condannato a fare il commediografo Plauto? A spingere una macina. A trascinare un aratro. O a riscuotere le tasse. L'auto l'abbiamo anche studiato al liceo, però non ricordo questo particolare. Proviamo con spingere una macina. Spingere una macina. Allora, Plauto era un attore girovago, investì ciò che aveva in rischiose operazioni commerciali, perse tutto, poi pensate che nel tempo cominciò a scrivere delle commedie che gli procurarono questa fama di massimo commediografo latino. e tra Lorenzo e Maria Grazia il primo concorrente ad essere eliminato è Maria Grazia perché spingere una macina è la risposta esatta. Bravo Lorenzo perché non era facilissima. Maria Grazia consegna a Lorenzo la tua parte di eredità, la sua parte di eredità e quindi Lorenzo a 100.000 euro. Lorenzo da Padova continua a giocare. Maria Grazia ti consegno il videogioco che occupa poco spazio, già la scatola ne occupava di più, è stata in 30 metri quadrati. Mi dispiace, un grande bocca al lupo, due cuori e una capanna. Grazie ragazzi, ahimè, sei stata eliminata. Ciao Maria Grazia. Cristina Liff, Matteo qui. Parto da Cristina con il vero o falso? E attenzione Cristina, ti chiedo, i cibi congelati crudi prima di essere ricongelati devono essere cotti, vero o falso? Vero. Brava, infatti non si scongela un cibo, ne si mangia un po' e poi lo si ricongela, assolutamente no. Brava Cristina, risposta esatta. Matteo. Pensa che le sorelle di Ilari Blasi si chiamano Misery e Tiffany, in omaggio a due noti film che erano amati dai genitori, vero o falso? Falso. Bravo, si chiamano Silvia e Mallory, bravo. Bravo. Maura, un pallone da calcio, un pallone da calcio, prima dell'inizio della gara deve pesare non più di 400 grammi, vero o falso? Vero? No, falso, anche un po' di più, 450 grammi. Ai Mauro, un errore, eccolo, segnalato. Non l'ho usato mai. Lorenzo, lo Stato federato dell'Unione indiana del Kashmir ha due capitali, una è una capitale invernale e l'altra è una capitale estiva. Vero o falso? Proviamo col vero. Bravo, perché una sorge a 1600 metri di quota ed è Snigar e l'altra è Giammu che sorge a 300 metri a sud ed ha un clima migliore e praticamente hanno queste due capitali. Bravo Lorenzo, risposta esatta. E Verardo. San Cono, San Cono, come il gelato di prima, San Cono, molto venerato in Sicilia, è il santo patrono di Naso, vero o falso? Falso. E invece è vero, perché San Cono, che è nato a Naso, in provincia di Messina, è un santo molto venerato in Sicilia e santo patrono di questa località. Un errore per Verardo, eccolo, segnalato. Carlo, secondo una ricerca inglese, i giapponesi sono il popolo più geloso al mondo, vero o falso? Falso. Bravo, anzi, tra gli ultimi popoli, insomma la gelosia in Giappone in realtà non esiste, il popolo più geloso pare che sia quello dei brasiliani, al secondo posto gli svedesi, strano ma vero, gli svedesi e anche noi italiani non siamo messi male. Bravo Carlo, risposta esatta. Cristina. Il comune di Perugia risarcirà un'automobilista per lo stress subito da una contravvenzione ingiusta, vero o falso? Vero. Brava, la Corte di Cassazione ha condannato il comune di Perugia a risarcire con 100 euro, credo, un'automobilista umbro per lo stress dovuto alla illegittima contestazione. L'hai sentita, l'hai sentita, vero? Perfetto, brava Cristina. Matteo. Cleopatra era regina d'Egitto negli stessi anni in cui Gesù predicava in Palestina, vero o falso? Falso. Bravo, falso, Cleopatra morì oltre 50 anni prima che Gesù iniziasse a predicare in giro per la Palestina, bravo Matteo, risposta esatta. Attenta, Maura. Prima di Simona Ventura fu Raffaella Carrà l'unica donna ad aver presentato il Festival di Sanremo, vero o falso? Falso. Brava, molte donne, la Carrà, la Fenec, la Carlucci, Loretta Goggi, insomma tante, tante donne. Brava, Maura, risposta esatta. Lorenzo. I coccodrilli non possono fare la linguaccia perché hanno la lingua saldata al pavimento della bocca, vero o falso? Falso. E invece è vero, e invece è vero. Eeeh, niente. Non lo sapevo. Lorenzo, mi dispiace, un errore per te. Ecco, l'ho segnalato. Attento, Everardo, che hai già un errore. Nell'antichità i guerrieri greci andavano in battaglia con spada, scudo e mitra, vero o falso? Falso. È invece vero, non la mitra questa, era una fascia in tessuto, quelli che servivano ad avvolgere, diciamo, i guerrieri per difendersi. Ahi, Everardo, doppio errore. Il nostro campione. Attenzione. Guardati intorno. E punta. Chi non lo guardate? Nessuno lo guarda. E punta il dito contro... Maura. Maura. Attenzione, Maura. Accompagnata dal pubblico? Sì. Hai visto? Duello quindi tra Everardo e Maura. 50 e 50, quindi insomma 100.000 euro. Chi continuerà a giocare? A, B o C? B. B. Ancora sport e ciclismo. Chi è stato l'unico italiano capace di vincere due campionati mondiali di ciclismo consecutivi? Fausto Coppi, Francesco Moser, Gianni Bugno. Questa impresa è riuscita... Su strada, no su pista, eh? Vicecampionati mondiali di ciclismo consecutivi, su strada, su strada. Fausto Coppi. Fausto Coppi. Vediamo. Tra Maura ed Everardo, il prossimo concorrente ad essere eliminato è Maura, perché Gianni Bugno, Gianni Bugno. Hai Maura, consegni la tua parte di eredità a Everardo che continua a giocare 100.000 euro per lui. So che prima di salutare Maura c'è l'elenco dei saluti, assolutamente, prego Maura. Saluto Silvia, Ludovica, Guglielmo, Andrea, Bianca, Lucrezia, Jacopo, Sofia, Vittorio e Leonardo arriverà. È già una bella impresa, proprio i nomi, ricordarsi perfettamente. Brava Maura, un bacio a tutti quanti. Grazie a tutti. Ahimè, sei stata eliminata. Ciao Maura. Attenzione, tocca a Lorenzo, sede in 5, è il momento della patata bollente, prima però Elena. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Attenzione, Lorenzo, tre opzioni di risposta che sono le seguenti per la patata bollente, ovvero una vasca da bagno, una zattera di bottiglie e un maggiolino. Io la passo. A chi? A Carlo. A Carlo. Ok, Carlo. Nel 63, due bolognesi compirono un'impresa eroica attraversando lo stretto di Messina a bordo di... Tempo. Un maggiolino. Un maggiolino. Attenzione perché avete pochi secondi, eh. Un maggiolino ed è la risposta esalta. Bravo Carlo. Bravo, bravo. L'errore va a Lorenzo. Ecco, l'ho segnalato. E Verardo, vorace, svogliata, irrequieta. La passo. A chi? A Lorenzo. A Lorenzo, che se commette il secondo errore è già a rischio di eliminazione. Attenzione, Lorenzo. Giovanna, vieni che non voglio parlare e dire delle cose a pronunciarle male. Perché se... Se a Napoli, se a Napoli una madre dice... Sta creatura da nell'artetica. Vedi, sta com'è che si dice? Sta creatura da nell'artetica. Ecco, se dice così una madre napoletana, cosa vuol dire che sua figlia è? Mia nonna me lo diceva. Ecco. Irrequieta. Irrequieta. Vorace, svogliata, irrequieta. Eh, la nonna c'era ragione. Arteca, irrequieta, è la risposta esatta. Bravo Lorenzo. Grazie, è artetica. Grazie. E Verardo, mi dispiace, un errore per te. Ed ecco l'ho segnalato. Carlo. Quattro, otto, dieci. La tengo. Ecco, leggiamo. Lo scorso gennaio ho trovato 50.000 lire. Quanti anni mi restano per poterle convertire in euro? Tempo. Ai, ai. Cosa avresti detto? Otto. Otto. Peccato, perché avresti detto bene. Proprio otto. Carlo, un errore per te. Eccolo, eccolo, l'ho segnalato. Cristina. Canarino. Pare, sì, paserotto, paresotto. Passerotto. Fringuello. La passo. La passo è chi? A Lorenzo. A Lorenzo. Lorenzo, attenzione. Cosa fa un cane sulle strisce pedonali? Attraversa la strada. Come è detto questo tipo di indovinello? Passerotto. Passerotto. E che indovinello è? Cosa fa un cane sulle strisce pedonali attraversa la strada? Viene chiamato uno scherzoso indovinello che sembra porre un quesito difficile ma in realtà la risposta è banale e la palissiana. E viene detto passerotto. Bravo, Lorenzo. Esposta esatto. L'errore per Cristina. Eccolo, segnalato. Lorenzo, vogliono eliminarti ma non ce lo fanno, eh? Fa duro a morire. È dura, è dura. Dura a morire, non lo devi dire. Non lo devi dire, dura a morire con Everardo vicino. Matteo. La storta. La rustica. La monaca. La passo è Everardo. La passo è Everardo. Eccola, Everardo. Quale di queste non è una località che fa parte del comune di Roma? La rustica. La rustica. Ai, 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 ai. Non è la monaca. Anche se c'è Torbella monaca. In realtà è la monaca che non c'è. Everardo, doppio errore a rischio di eliminazione. Sempre tu adesso devi puntare il dito. Contro? Cristina. Cristina. Ma come prima cerchi collaborazione e poi la vuoi eliminare? Se devo fare il funerale te lo faccio io. Mamma mia! Cristina. Mi tocca. Che ci devo fare? Sceglila più facile, ti prego. Abbi il cibo. Perché con la spiga che c'ho. Pure tu con la spiga che c'hai, è vero. Facciamo A. A. Quale politico appare nel film così lontano, così vicino, diretto dal tedesco Wim Wenders? Mikhail Gorbachev, Ronald Reagan, Helmut Kohl. Gorbachev. Eh? Gorbachev. Gorbachev. Tra Cristina e De Veraldo, il prossimo concorrente ad essere eliminato. Tu dici che sei sfigata? La sfortuna è finita. Perché Everardo a essere eliminata. Incredibile. Gorbachev è la risposta esatta. Vedi Cristina che la sfortuna finisce. Ti prendi l'eredità di Everardo, 150.000 euro e continui a giocare. E Everardo? Sono qua. Hai qualcosa da chiedermi? No. Diciamo che... Sì, sì. Magari... Oh. Prima o poi ci si rivede, eh. Ciao, Everardo. Ciao. Grazie, sei stato eliminato. Grazie, simpatico Everardo. Devo dire, molto simpatico. Lorenzo, lì, Matteo, da questa parte, da questa parte. E un saluto naturalmente anche alla fidanzata. Coppia molto simpatica. Attenzione. Parto da Carlo adesso. Sicuramente questa sera abbiamo e avremo un nuovo campione, una nuova campionessa. Ed è il momento. Lei o l'altro. Via. Carlo. Cos'era, cos'era Galatea, di cui Pigmalione si sarebbe perdutamente innamorato, secondo una leggenda? Una stella o l'altro? Una stella. Una stella. L'altra una statua. Pigmalione era un famoso scultore che aveva scolpito questa statua d'Avorio, la figurante e a Frodite, della quale poi si innamorò perdutamente. Un errore per Carlo ed ecco l'ho segnalato. Cristina, a Ravenna la leggenda vuole che la donna che bacia la statua del capitano Guidarello Guidarelli si sposa entro l'anno o l'altra? Questa. Questa. L'altro è Resta Zitella. Allora, Guidarello Guidarelli era un capitano al servizio di Cesare Borgia, fu ucciso a tradimento da un altro capitano. Nell'Ottocento si diffuse la credenza che chi avesse baciato la statua del capitano si sarebbe sposata entro l'anno e da allora pare che sia stata baciata da, credo, 5 milioni di persone. Bene. Pensa, e vedi, Parisotto, bisogna metti in giro sta voce. Chi ti bacia si sposa entro l'anno, vedrai che a quel punto... Cristina, brava, no, no, risposta esatta, no. Matteo. Frank Sinatra. Frank Sinatra all'anagrafe non era registrato solo come Francis, ma anche con un altro nome, mi si dire, quale? Vincent o l'altro? L'altro. L'altro. Albert, Frank Sinatra e Francis Albert Sinatra. Risposta esatta, bravo Matteo. Lorenzo. Qual è lo sport nazionale del Bhutan, stato dal territorio montuoso, confinante con India e Tibet? Lo sport nazionale è il tiro con l'arco o l'altro? Ottengo. Tiro con l'arco. Non l'arco. L'altro è nascondino, no, ed è tiro con l'arco, tra l'altro riservato esclusivamente agli uomini. Bravo Lorenzo, risposta esatta. Attento Carlo che è un errore. Cantava Gianni Meccia nel 1961, il pullover che m'hai dato tu, sai mia cara, possiede una virtù. Quale? Il profumo che avevi tu o l'altro? L'altro. L'altro. Il calore che tu davi a me. Sentiamo. Il pullover che m'hai dato tu, sai mia cara, possiede una virtù. Cede una virtù, hai il calore che tu davi a me, mi ha e mi loro di stare in braccio a te. Pam pam pam. Bravo Carlo! Cristina. Che cosa inventò nel 1905 il figlio di un assaggiatore di caffè di Brema? Un decaffeinato o l'altro? L'altra. Ai ai ai, dopo il gong, l'altra cos'è? Il tè in bustine, comunque avresti sbagliato perché erai il decaffeinato. Un errore Cristina, eccolo. Matteo, quante pubblicità presentava ogni sera Carosello ai suoi esordi? Tu sei giovane, non te lo ricordi. Noi andavamo a letto dopo Carosello. Quattro pubblicità o l'altra? L'altra. L'altra. Dieci. No, erano quattro pubblicità, però ogni pubblicità durava molto, o più di due minuti, era un piccolo film quasi, insomma. Quindi, a volte anche cinque pubblicità, ma insomma mai dieci. Matteo, un errore per te ed ecco, l'ho segnalato. Lorenzo. Come si chiama l'ottava sonata per pianoforte di Beethoven? Beethoven, patetica o l'altra? Patetica. Patetica. L'altra è stonata e invece è patetica, che sta per passione, non per una cosa, poveraccia. Bravo Lorenzo. Carlo. Come si chiama il bambolotto paffutello inventato da Gervasio Chiari nel 62? Ciccio bello o l'altro? Ciccio bello. Ciccio bello. L'altra è parisotto. Eh, vedete, se ci fosse parisotto nei negozi giocattoli Ciccio bello avrebbe paura, perché tutti andrebbero a struccare parisotto, invece è Ciccio bello. Bravo Carlo. Cristina. Il 7 febbraio scorso, 100 uomini hanno manifestato a New York per ottenere il diritto di indossare la gonna o l'altra? L'altra. L'altra. Portare i tacchi alti. Eh, ecco perché è andato a New York lui. Che ci sarebbe andato a fare parisotto a New York? E mi ha detto, devo andare a New York 3-4 giorni. E io dicevo, ma chissà parisotto che ci va a fare a New York. Allora, uomini di diverse età, è vero, taglia e provenienza, di cui un italiano, hanno manifestato a Times Square il diritto di indossare, anche per una questione estetica, sottolineando che un'Europa, sino alla prima della rivoluzione francese, questo era permesso, la gonna. Cento uomini vogliono indossare la gonna. Ah. Cristina, non si capisce più niente in questo mondo. Le donne sono sempre i pantaloni, gli uomini vogliono andare in gioco alla gonna. Eh, che salato. Non si capisce più niente. Non si capisce più niente. Cristina, doppio errore a rischio di eliminazione. Tre uomini. Carlo, tu nessuno in gonna, eh. Punta il dito contro. Carlo. Carlo. Carlo, vediamo che succede. A, B o C. A. A. Ecco le sfere, scelta la A, via la B e la C. Nel moderno dizionario latino pubblicato dal Vaticano. Che cosa è chiamato? Ex longinquo direzio. Il telecomando, il grattacielo o la freccia direzionale? Il telecomando, il grattacielo o la freccia direzionale? Vediamo. Tra Carlo e Cristina, il prossimo concorrente ad essere eliminato. È Carlo, perché la risposta esatta è telecomando. Cristina. Che miracolo sta succedendo. È un miracolo questo. Te va la parte d'età di Carlo. Sali a 200.000 euro e continui a giocare. Ecco, 200.000 euro per Cristina. Mi dispiace Carlo. Grazie a te. Grazie a voi. Sei stato eliminato. Ciao Carlo. Cristina, lì al posto di Carlo. Voi rimanete lì. Attenzione a non prendere la scossa. Giovanna. Eccoci, eccoci. Buonasera Giovanna. Buonasera. Allora, che scossa facciamo questa sera? Prima della scossa per i concorrenti? Una veloce veloce. Oh, oh. Oh, oh. Perfetto. Però aspetta, aspetta. Devo fare gli auguri alla signora Donatella di Milano. Auguri. Baci baci. Perfetto. Auguri naturalmente. E adesso scossa. A vita tão bella mi chama pra dançar, pra samba, sauti, a faz pro mundo. E vai! Grazie. Baci baci. Grazie, grazie Giovanna. Baci baci baci. Attenzione a casa a questa scossa, eh? non prendetela e soprattutto Cristina, Lorenza e Matteo l'11 febbraio scorso un tale Luke Trezoglavic ma insomma un signore, non ha importanza il tanto il nome prima di liberare la sua gamba ha dovuto guidare la propria automobile attaccato a poi vi racconto ovviamente la storia però più di questo non vi possiamo dire diciamo che lui ha dovuto guidare l'automobile con qualcosa attaccato alla sua gamba che era una lastra di ghiaccio una rete da calcio uno squalo un blocco di cemento la fidanzata poi l'hanno liberato però un pezzo di parquet una trappola per topi la pattumiera un pitone o una pinna da sub c'è una storia ovviamente legata a questo strano e curioso aneddoto Cristina non è una lastra di ghiaccio una lastra di ghiaccio tu dici magari si può anche sciogliere quindi insomma anche se avesse la gamba in una lastra di ghiaccio scossa brava Cristina infatti non è una lastra di ghiaccio Matteo non è un blocco di cemento un blocco di cemento però magari lavorando ha messo il piede ma hai tirato fuori prima che diventasse duro prima che diventasse duro brava giusta osservazione bravo Matteo scossa infatti benissimo non è Lorenzo non è una rete da calcio una rete da calcio uno si può anche organizzare da solo per togliere una rete insomma se il piede finisce in una rete da calcio scossa infatti Lorenzo bravo Cristina la fidanzata la fidanzata la fidanzata una fidanzata attaccata alla gamba è lui che guidava con la fidanzata attaccata alla gamba è un po' troppo violenta non ti voglio più non mi lasciare scossa bravo non era la fidanzata Matteo io direi uno squalo uno squalo a meno che non aveva una station wagon a meno che non aveva una station wagon scossa aiaiai ed è questo il motivo questo ragazzo questo Luke era in acqua vicino a Sydney in Australia a un certo punto uno squaletto di 60 centimetri che però fa la sua bella figura e ha zannato una gamba lui è uscito ma lo squalo non si staccava dalla gamba allora lui che ha fatto ha preso con tanto di squalo attaccato alla gamba si è messo in macchina ed è andato in un centro un club di bagnini che era lì poco vicino e il club di bagnini poi sono riusciti a liberarlo se l'è cavata con una serie di punti di sutura degli antibiotici però ha avuto il sangue freddo come dire di prendersi lo squalo di 60 centimetri attaccato dal polpaccio e di guidare la macchina fino al posto diciamo di soccorso ahimè Matteo hai preso la scossa Lorenzo Cristina Cristina A, B o C Cristina ma tentiamo sempre con l'A sempre con l'A che ti ha portato bene vediamo il comune di Arborio in provincia di Vercelli è noto per aver dato il nome a quale prodotto grappa mortadella riso il riso il riso e tra Cristina e Matteo il prossimo concorrente ad essere eliminato è Matteo perché il riso è la risposta esatta Cristina ma la sfortuna non c'è più speriamo che sia un inizio buono ti prendi la parte di eredità di Matteo 250.000 euro per Cristina e ovviamente continua la sua avventura all'interno dell'eredità grazie Matteo per essere stato con noi saluto tutti quelli che mi conoscono in special modo i miei colleghi di Radio Planeta Milano benissimo ciao Matteo sei stato eliminato ciao ciao e tra poco una nuova ultima sfida troppo crissima grazie ciao Giovanna lo sai che ho una star da farti conoscere? una star? sono curiosissima arrivo ciao Ama oh ciao Giovanna ah scommetto che lei la star sei a Tibiza è proprio così con se a Tibiza guidare è un vero piacere ma guarda che linea che design giovane dinamica curata nei particolari come se non lo sapessi sai mi piace perché elegante ma con una forte personalità hai ragione infatti la gamma a Tibiza è dotata di motori tecnologici benzina e diesel che offrono grandi prestazioni certo che se a Tibiza è bella fuori ma anche dentro non scherza è bella e negli interni è soprattutto comoda anzi su se a Tibiza la comodità del climatizzatore e la sicurezza dell'ABS e del doppio airbag sono di serie insomma tutto compreso nel prezzo in più grazie ad un'iniziativa dei concessionari Seat oggi su tutta la gamma a Tibiza c'è un finanziamento a tasso zero in 36 mesi fino a 11.000 euro allora vogliamo andare a farci un giro di piacere? ah certo devo dire con grande piacere il piacere di guidare una Seat eBiza andiamo anche i capelli hanno sete allora bevono bevono latte vegetale Garnier Ultra Dolce crea il nuovo shampoo idratante al latte vegetale per una morbidezza irresistibile senza appesantire Garnier Ultra Dolce shampoo e balsamo al latte vegetale idratante Garnier con riso scotti la salute mangiando e dai suoi chicchi di riso nasce Kikolat riso da bere Kikolat 100% vegetale senza lattosio senza glutine senza colesterolo Kikolat per una prima colazione buona e sana come fresca bevanda o per preparare saporiti dolci Kikolat riso da bere grazie dottor Scotti felicità Alba basta stasera a letto senza telefonino eh io vado al mercato tocca a te a pulire ehi non hai una ricetta per pulire tutto questo? sì nuovo Mastrolindo sgrassatore aranciattivo uno spray è il mio potere sgrassante con le strati di scorza d'arancia e addio grasso stinato facile ehi ragazzo un mago sei Mastrolindo sgrassatore contro il grasso fa furore la magia al suo potere anche Mastrolindo è tra le stelle del pulito qualità ad un prezzo irripetibile da prendere al volo dall'amore per la tradizione le lasagne emiliane barilla per gustare tutta la passione delle vere emiliane lasagne emiliane lasagne emiliane barilla ci senti la passione mamma non mamma non mamma mamma oh 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 regina carta camomilla la nuova carta igienica con quattro soffici veli e una profumata essenza di camomilla quattro volte soffice Actimel con più di un miliardo di fermenti e le case immunitas aiuta a rinforzare le difese naturali noi di Danone ne siamo convinti bevi una bottiglietta ogni mattina Actimel rinforzo siamo i primi a crederlo davvero Actimel il tuo rinforzo ogni mattina la grande festa Vodafone continua fino a 31 marzo puoi avere tutti i cellulari Vodafone a 30 euro in meno Vodafone tutto intorno a te Così fresca e invitante Certosa Galbani da oggi è ancora più buona e ancora più cremosa semplicemente irresistibile Certosa Galbani tutto il gusto del benessere l'inforzare l'inforzare E' un attacco all'Europa. La terribile strage di Madrid cambia il mondo, cambia la nostra vita. L'11 settembre dell'Europa, il giorno dopo. Edizione speciale Ballarò questa sera alle 21 su Rai 3. Eccoci tornati all'Enerità per l'ultima sfida. Prima di iniziare a giocare con i nostri concorrenti, con Lorenzo e con Cristina, ci tenevo a comunicarvi che a partire da oggi, quindi oggi, domani e dopo domani, le principali stazioni italiane e i treni nazionali di media e lunga percorrenza parteciperanno per la prima volta a una campagna sociale di sensibilizzazione raccolta fondi per aiutare la ricerca per i trapianti. Nel 2004 ricorre il cinquantesimo anniversario del primo trapianto d'organo coronato da successo e da allora pensate che quasi 800.000 persone hanno ricevuto un trapianto e hanno continuato a vivere invece di morire o di dipendere da una macchina. Quindi fai viaggiare la ricerca una tre giorni ferroviaria per aiutare la ricerca sui trapianti. Avevo piacere di comunicarvi questo. Attenzione, Lorenzo, attenzione Cristina, Lorenzo Padva, Cristina Torino. Iniziamo da Lorenzo che è la parte minore di eredità. Pronto Lorenzo? Pronto. 3, 2, 1, via. Prima domanda, vediamo chi arriva prima 5 e chi è il nuovo campione o la nuova campionessa. Ti chiedo Lorenzo, quale città un tempo, Repubblica Marinara, si trova in provincia di Salerno? Amalfi. Amalfi, esatto, 1 a 0. Cristina, come viene chiamata comunemente la cute del corpo umano? Pelle. Ed è la pelle, certo, 1 pari. Lorenzo, con quali organi di respirazione i pesci assorbono ossigeno ed espellano anidride carbonica? Con le branchie. Con le branchie, perfetto, 2 a 1. Cristina, di che colore sono le strisce che delimitano sull'asfalto i parcheggi a pagamento? Blu. Blu, perfetto, 2 pari. Lorenzo, il principe Alberto di Monaco ha due sorelle. Una si chiama Stefania e l'altra? Carolina. Carolina. Torniamo a Cristina. In che paese, in piena rivoluzione nel 1789, venne proclamata la dichiarazione dei diritti dell'uomo? Francia. In Francia, certo, durante la rivoluzione francese. Torniamo a Lorenzo. 3 a 2 è il punteggio a favore di Cristina. Cosa si augura in Gran Bretagna dicendo Happy Easter? Pasqua. Bravo, buona Pasqua. Perfetto, 3 pari. Cristina. In quale regione italiana si trova la barbagia? In Sardegna. Brava, in Sardegna. 4 a 3. Lorenzo. Ti chiedo, con quale nome è conosciuta la patologia che rende opaco il cristallino dell'occhio? Cataratta. Bravo, la cataratta. 4 pari. Attenta Cristina, puoi diventare la nuova campionessa. Nella Divina Commedia, in quale delle tre cantiche Dante si imbatte in dieci bolge? L'inferno. Ed è la risposta esatta. È Cristina. È Cristina, è la nuova campionessa. Brava Cristina. Bravo Lorenzo. Accomadi la sfera, pronto a gufare. E con Cristina si va all'eredità. Via. Vieni Cristina, grazie, grazie Giulia, grazie Giannina. È Cristina, nuova campionessa da Torino. 250.000 euro, Cristina. Dice, sono... Ha iniziato la puntata e dice, sono sfortunata nel gioco, in amore, vado a vedere la partita, segnano quando sono girata, come paperino. Come paperino. Con tutte le sfortune del mondo. E invece, questa sera sei campionessa. Vuoi vedere che gira la cosa? Eh. Oh, facciamola girare bene. Facciamola girare, dai. Collo luminoso, Cristina, intanto. Sette domande. Ovviamente ti auguro di rispondere a tutte e sette in maniera esatta. Vediamo quello che accade. Partiamo subito. La prima domanda, ovviamente, con la doppia risposta, così per le prime cinque. Eccola. Domanda numero uno. Quale costellazione veniva raffigurata dagli arabi come un mulo con due barili d'acqua? Bilancia. Pesci. Gemelli. Capricorno. Acquario. Un mulo con due barili d'acqua. Dagli arabi. Beh, io dico bilancia. Bilancia. Prima risposta, no. No. Era troppo banale. Acquario. Acquario, la controlliamo dopo. Domanda numero due. Eccola. Tra le regioni italiane bagnate dal mare, quale ha il minor numero di chilometri di costa? La Basilicata, il Molise, Friuli, Venezia e Giulia, Veneto, Abruzzo. Il Veneto non penso proprio. Penso che sia abbastanza esteso. L'Abruzzo anche. Friuli non lo conosco tanto bene. Azzardo col Molise. Molise. È la tua prima risposta ed è la risposta esatta. Infatti. Domanda numero tre, Cristina. Eccola. Che cosa fa lo struzzo per avvertire i suoi compagni che non ci sono pericoli in agguato? Che non ci sono pericoli. Sì, che non ci sono pericoli. Sbadiglia. Tossisce. Sputa in aria. Starnutisce. Strizza l'occhio. Strano, eh? Eh, sì. Lo struzzo di rango più elevato del gruppo, poi lo struzzo capo, fa una di queste cose e permette quindi a tutti gli altri di stare tranquilli, rilassati e dice, va, non ci sono pericoli. Tossisce. Tossisce. Prima risposto quella. No. No. Sputa in aria. Sputa in aria. E poi lo verifichiamo. Domanda numero quattro. Per ottenere una frittata soffice e gonfia, cosa si può aggiungere alle uova prima di sbatterle? Due pugni di farina. Un pizzico di zucchero. Una bustina d'amido. Due cucchiai di latte. O una punta di cannella. Direi due cucchiai di latte. Diresti due cucchiai di latte. Cucini? Ma un po' qualcosa faccio. La mamma? Sì, lei è uguale. La mamma. È brava. È alle tue spalle la signora Angela, vero? Angela. Buonasera Angela. Buonasera. Buonasera. Ma insomma è sfortunata questa ragazza. È un po'. Un po'. Un po'. Un pochino. Questa sera lo è di meno. Stasera lo è di meno. Questa sera lo è di meno. E frittata, cioè per fare la frittata, due cucchiai di latte, è la risposta esatta. Brava Cristina. L'ultima domanda con la doppia risposta, la numero 5. Leggiamola. Di cosa è fatta la gamba artificiale del capitano Aqab, che è lo spietato cacciatore che odia Moby Dick? Legno di un timone. Osso di balena. Ferro di una fiocina. Una vecchia ancora. O carapace di tartaruga. Ferro di una fiocina. Ferro di una fiocina. No, non aveva la gamba. Anche perché poi per camminare si piantava. Legno di un timone. Legno di un timone. Anche questa la controlliamo dopo. Attenzione, domanda numero 6. La prima con risposta secca, eh. Poi avrai la 7. Leggiamola. Un pocherista che punta il doppio della posta senza aver visto le proprie carte. Si dice che apre senza mani, con la chiave, in camicia, al buio, scalzo. Al buio. Al buio. La controlliamo dopo. Questo andava bene per mia madre. Eh? È una canita giocatrice. È una canita giocatrice, infatti lei sorride. Buon segno, buon segno. Numero 7. L'ultima. Quale paese non ha mai partecipato alla manifestazione sportiva giochi del Mediterraneo? Francia, Libano, Portogallo, Egitto oppure Italia. Giochi del Mediterraneo. Giochi del Mediterraneo. Il Libano. Il Libano. E anche questa la controlliamo dopo. Vi ricordo che se volete giocare all'eredità con il cellulare è molto semplice, ve lo ricordo, 48401 e inviare un messaggio con la lettera E di eredità. Sette domande, sette risposte, ne dobbiamo controllare cinque, tutto questo tra poco, quando prima andremo a giocare dopo i titoli del nostro regionale. Grazie. Buonasera, fra poco il Tg1 delle 20, centinaia di migliaia di persone in piazza a Madrid per dire no al terrorismo, solidarietà alle vittime, insieme ad Asnar, alla manifestazione anche Berlusconi e Prodi, fra gli altri. Sono saliti a 199, intanto i morti degli attentati di ieri, l'ultima a non farcela, è stata una bambina di pochi mesi. Andremo in diretta a Madrid con i nostri inviati, ancora incerta alla matrice degli attentati. C'è preoccupazione ma non allarme, dice il ministro Pisano al Tg1. E poi le condizioni di Bossi, le novità sul processo per la strage di Piazza Fontana e quelle sull'inchiesta Parmalat. Ospiti poi in studio l'attrice Penelope Cruz, spagnola, e Sergio Castellitto che parlano del film Non ti muovere. A fra poco. La signora Gruber ha visto la donna affogata, vale a dire la donna sfigurata dal coccodrillo, uscire dall'acqua viva e vegeta. Ma che fai? Non fare stupidaggini. E il suo amico Serge Batzek è stato assassinato. Cosa? Sua sorella prima della sua morte ha prelevato una notevole somma di denaro, lei era ricattata da Serge, perché? Il commissario Rex, i nuovi episodi. Questa sera alle 21 su Rai 1. Allora tu, volete dire come hai fatto la bella? Ve l'ho già detto! A quelle condizioni! Impossibilissimo! Impossibile ma vero. Da Expert, lavatrice Bosch da 6 kg in classe a più, a meno di 11 euro al mese. Expert, gli esperti, siamo noi. Ogni mattina riscopri il piacere della genuinità. Fette biscottate e molino bianco. Mangia sano e vivi meglio. Mmm, che polpa! Yuhuuu! Polpa di pomodoro mutti. Mai vista una polpa così. E per merenda, zio Diego, vi prepara una torta magica. Che si fa da sola, con i migliori ingredienti. Farina, uova, cioccolato. Trucchino, svegliati. Questa magia l'ha fatta Buitoni. Ed è tutta qui dentro. Apri, versa e inforna. Che profumino! E adesso, fatela sparire. Sì! Torte Buitoni, tre gesti, una magia. No, ma non ci fai la magia del limone. Sì. Caccia aperta al testimonial! Infostrada, cerca il testimonial per la sensazionale offerta Happy Night! Happy Night. Chiami gratis da casa in tutta Italia, dalle 8 di sera alle 8 del mattino. Chiama Infostrada al 159. Dante, te tu ci sa fare con la penna, eh? Anche se con la pasta. Pappardella a ragù di cinghiale. È la nuova ricetta di quattro salti in padella con la pasta fresca all'uovo. E l'è buona? L'è proprio buona! Quattro salti in padella Findus. Quelli buoni, per davvero. In rettilineo, la maggior parte delle auto ha buone prestazioni. Ma il mondo non è una linea retta. Per questo Audi A4 ha la trazione quattro. Sì, sono un salame. Casa Modena, però. Se non hai la morbidezza che vuole la tradizione, non sei di un colore perfetto, non sei Casa Modena. Casa Modena. Salumi che parlano. Lo sento mio, mi fa sentire a mio agio. Amo il nero e sto molto attenta a come lo lavo. Uso sempre Lip V Light Noir nel programma Delicati. Per un nero sempre nero, usa sempre il programma Lip V Light. Fosse grigio, addio emozioni. Ama i tuoi capi con Lip V Light. Sveltesse presenta Delizie. C'è ancora più gusto a scoprire l'ombelico. I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. So sexy it hurts. Nuovo Sveltesse Delizie. Gusti ancora più golosi. Irresistibile stracciatella. Esquisita crostata al limone. Ma con pochissimi grassi. 100% piacere, 0% complessi. Scopri l'ombelico con Sveltesse Delizie da Nestlé. Eccoci, 250.000 euro. Mezzo miliardo circa delle vecchie lire per Cristina da Torino. Signor Angela, venga vicino Cristina. Venga qui che dobbiamo verificare. Già ho fatto tutte e sette le domande a Cristina. mi ha dato due risposte esatte subito. Cinque da controllare. Lo facciamo insieme. Buonasera signora. Buonasera a lei. Grazie, buonasera. Lì vicino a Cristina. Nella sfera, eh sì, c'è Lorenzo. Che dobbiamo fare? È lì che sta gufando. Gufo. Gufa, gufa, Lorenzo da Padova. Andiamo a vedere subito la numero 7. L'ultima. Questa. Questa. Che temo. Dei giochi del Mediterraneo. Quale paese non ha mai partecipato alla manifestazione sportiva giochi del Mediterraneo? Francia, Libano, Portogallo, Egitto, Italia. Evidentemente perché uno di questi stati col Mediterraneo non c'è niente a che fare. La risposta esatta è il Portogallo. Non sapevo. È il Portogallo che non è bagnato la Mediterraneo, ma dall'altra parte. E questa la tenevo. Dall'oceano, l'oceano atlantico. Un errore, attenta Cristina e attento Lorenzo. Andiamo alla numero 6. Quella del poker. Un pokerista che punta il doppio della posta senza aver visto le proprie carte. Si dice che apre. E Cristina ha detto al buio, mia mamma gioca a carte. Questa non la posso sbagliare. E al buio, infatti, è la risposta esatta. Prima domanda. La costellazione. Eccola. Quale costellazione veniva raffigurata dagli arabi come un mulo con due barili d'acqua? Bilancia, pesci, gemelli, capricorno, acquario. Prima risposta a bilancia non esatta. E poi mi ha detto acquario. Gli arabi poi la raffigurarono appunto come un mulo con due barili d'acqua. E questa è l'acquario. Ed è la risposta esatta. Andiamo alla numero 5. Da Moby Dick. Anzi, dal capitano Aqab. Di cosa è fatta la gamba artificiale del capitano Aqab, lo spietato cacciatore che odia Moby Dick? Santucci, in genere la gamba di legno uno pensa, no? Questi vecchi marinai. Capitano Aqab era una persona con un'ossessione, no? Il cacciatore che odia Moby Dick. E quindi odia le balene. Sì, ma in realtà in particolare per Moby Dick, perché Moby Dick gli aveva appunto strappato questa gamba e lui aveva giurato di vendicarsi. E per non dimenticarselo mai si fece la sua gamba di legno con l'osso di un'altra balena. E quindi l'osso di balena è la risposta esatta. Mi dispiace, due errori per Cristina. Preparati Lorenzo, andiamo a vedere la numero 3. Eccola. Cosa fa lo struzzo per avvertire i suoi compagni che non ci sono pericolo in agguato? Prima hai detto tossisce e poi sputa in aria. Per avvertire che non ci sono pericoli e quindi tutti gli altri sono rilassati, lo struzzo sai che fa? Svadiglia, come vedi? Che noia, non ci sono pericoli, che noia. E tutti gli altri struzzi sono tranquilli. Cristina, tre errori. Prego, si accomodi signor Angelo, dobbiamo lasciare da sola Cristina perché ora Lorenzo tenta il colpaccio. Vieni Lorenzo! Ai ai ai, la sfortuna allora per seguito è Cristina. Ha detto sono sfortunata e infatti tre errori, ma vediamo che succede. Lorenzo sei pronto? Sì, pronto. Lorenzo da Padova, studente. Domanda del colpaccio. Riuscirà Lorenzo a portare via il titolo a Cristina? Dovrà rispondere in maniera esatta a questa domanda. A luglio, cosa ha aiutato i suricati dello zoo di Sydney a sopravvivere alle temperature di stagione? I suricati, Santucci possiamo dire quantomeno che sono degli animali? Se piccoli mammiferi. Questo lo possiamo dire, sono dei piccoli mammiferi, si chiamano suricati. Cubetti di ghiaccio, impermeabili, lampade termiche, piccoli ventilatori o borse d'acqua calda. Cosa ha aiutato questi animali dello zoo di Sydney a sopravvivere alle temperature di stagione? A luglio. A luglio, però siamo a Sydney, in Australia, quindi nell'emisfero opposto rispetto a quello nostro. Secondo me, io provo a dire borse d'acqua calda, anche se sembrerà un po' assurdo. Borse d'acqua calda. Allora, siamo nell'emisfero australe, quindi a luglio in Australia. Non è come da noi. Fa, non dico freddo freddo, ma insomma... Dovrebbe essere... Fa freddino. Fa freddino. Fa freddino. E siccome in questo, evidentemente, in questo zoo di Sydney, la temperatura si è abbassata molto rispetto alla media, hanno installato nelle gabbiette di questi animali, vediamo se delle borse d'acqua calda o altro. tra Cristina e Lorenzo. Cosa avresti detto, Cristina? A mezzo c'è un vuoto, ma sono troppo... Forse era lampade termiche. Eh? Sempre per scaldare, lampade termiche. Lampade termiche? Probabile, sì. E perché ti hai detto borse d'acqua calda, se adesso te mi disi lampade termiche? Eh, perché... No, prima che ho pensato comunque di rispondere al contrario di quello che avrei pensato normalmente, però lampade termiche l'ho letto dopo. Ho capito, tu hai fatto un ragionamento giusto. Poi hai detto, rispondo al controllo di quello che... No, no, rispondo, cioè, contrariamente a quanto uno avrebbe risposto, perché a luglio, a Sydney, uno pensa che ci sarebbe stato caldo, invece ho pensato al freddo, però ho letto dopo lampade termiche. Solo questo. Non capisco niente, ma è se stesso. Lo stesso. È se stesso. Tra Cristina e Lorenzo, il campione o la campionessa di questa sera è Cristina, perché lampade termiche, lampade termiche, era la risposta esatta. Col paccio fallito, Lorenzo, complimenti Cristina, invece, brava e fortunata. Vieni, vieni Cristina, che torna ovviamente domani come campionessa, e insieme a Giulia e Giannina a Tiguno, buona serata su Reuno, grazie, a domani. Tende da sole, tempo test. Parà, fin dalla notte dei tempi. Spere cosa vi piace, non vi piace, guardate, non guardate la nostra televisione. Siamo stati a Cagliari. A me piacciono i documentari, i telegiornali, non mi piace la pubblicità. I film comici, le sitcom, o in tv, programmi di musica anche, o in varietà del sabato sera. La televisione per me deve far divertire e distrarmi da delle cose che non mi piacciono nella vita. Ciò che mi piace della televisione sono i reality show, anche se sono falsi. Credo che non tutto sia vero, però mi piaccia perché posso anch'io esprimere un giudizio su quella, su una determinata persona, oppure sul premio che vince. Penso che i reality show e le telenovelas ci disorientano e sono molto diseducativi. E certe volte ci impongono quasi con prepotenza certi programmi molto volgari. I giornali mi interessano e mi piacciono anche, perché sentono notizie dal mondo, almeno si ha più cultura. Il telegiornale non mi piace perché da solo brutte notizie. A volte, molte volte, da brutte notizie. E quindi ho paura, penso sempre che potrebbe capitare anche a me. Non mi piacciono i dibattiti politici perché io resto indifferente alla politica. A me piace vedere tutto tramite un amore. Oggi, ragazzi, nelle nostre notizie vi parliamo del Darfur che si trova in Sudan, in Africa. Ve ne parliamo perché da due anni qui si combatte una guerra civile. Migliaia di uomini, donne e bambine sono stati uccisi o costretti a fuggire. Però adesso le Nazioni Unite hanno condannato questi crimini. Questo è Mohamed, a 13 anni, ed è stato ferito ad una gamba. E' una delle tante vittime della guerra che da due anni devasta il Darfur, una regione del Sudan, in Africa. Qui da mesi i ribelli locali combattono contro il governo, accusandolo di non favorire lo sviluppo dell'intera regione, peraltro arida e poverissima. E il governo per mesi ha lasciato che gruppi di soldati arabi attaccassero i villaggi dei ribelli, uccidendo decine di migliaia di uomini, donne e bambini e costringendo quasi due milioni di persone a lasciare le loro case. Le Nazioni Unite più volte hanno denunciato questa terribile catastrofe umanitaria. Per questo hanno istituito una commissione d'inchiesta che ora, dopo quattro mesi, ha presentato il risultato delle proprie indagini. Ha indicato chiaramente i nomi dei responsabili delle terribili violenze fatte agli abitanti del Darfur. Violenze definite come crimini contro l'umanità. Crimini dei quali, secondo la commissione ONU, si sono macchiati anche membri del governo sudanese, che per questo dovranno essere giudicati da un tribunale internazionale. Quando ci sono i ragazzi in studio a me piace fare delle domande e allora comincio facendone una ai ragazzi qui che è, voglio sapere se loro in casa hanno l'abitudine di riciclare. Voi riciclate? Sì! Io riciclo la carta e la plastica. E vediamo se stasanno perché è così importante riciclare. Perché gli alberi ci danno l'ossigeno e noi riciclando la carta salviamo anche un albero. Ecco, messaggio importante. E allora per continuare a riciclare non soltanto la carta e per spingere i comuni a farlo di più sono state inventate delle olimpiadi. Queste sono appunto le olimpiadi della carta. C'ho quattro secchi dove uno la metto la carta uno la calta, uno il vetro e uno le cose da mangiare che mangiamo. Ma perché si fa così? Perché almeno non speriamo materia prima. Immaginate due milioni di tonnellate di carta e cartone. Una vera e propria montagna che l'anno scorso invece di finire in discarica è stata riciclata e trasformata in nuove scatole e materiali da imballaggio con benefici per tutti. E io la raccolta differenziata la faccio perché così almeno rinquiniamo l'ambiente e poi così possiamo riciclare e farci altre cose con le cose che invece alcune persone buttano per terra così come capita. Si può fare di più. Per questo Comieco, il Consorzio Nazionale per il Riciclo della Carta ha lanciato le cartonia di le Olimpiadi del Cartone. L'obiettivo è convincere gli amministratori e gli abitanti di grandi città a riciclare di più con premi in denaro per i municipi migliori da usare per proteggere meglio l'ambiente. Oggi a Roma i bambini di alcune scuole hanno dato il via alla competizione. Che cosa vuoi dire alle persone che non fanno la raccolta differenziata? È meglio che iniziano a fare la raccolta differenziata così possono risparmiare energia elettrica e anche i soldi. Bene, adesso andiamo tutti quanti di corsa all'angolo delle... Curiosità! Come si dice, quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare. È proprio quello che stanno per fare i 3460 coraggiosi al via di questa corsa. Siamo a Wolverhampton in Gran Bretagna dove dal 1986 si svolge una curiosa competizione. Quasi 10 chilometri di corsa campestre con una trentina di ostacoli veramente tosti. Spagliere di tronchi, reti sospese, canali di acqua sporca e fredda, ponti di corde e tanto, tanto fango. Insomma, non si tratta proprio di una passeggiata. Faccia e tutto il resto affondati nella melma. Per non essere da meno ci sono anche alcune ragazze. Per la cronaca, ecco il vincitore, un poliziotto di 24 anni. Ma medaglie d'oro per chi ha finito il percorso e i premi più graditi, un bagno e cioccolata caldi. Roba da duri anche il carnevale di Noiburg. Barche mascherate e duemila coraggiosi si tuffano nelle gelide acque del Danubio. I più adeguatamente vestiti di muta, ma alcuni temerari in costume da bagno. Temperatura meno 8 gradi e lo chiamano divertimento. Curioso carnevale sulla neve anche quello di Gaisa che imbaviera nella Germania meridionale. Qui i partecipanti indossano costumi e parrucche e poi partono in sella ad antiche slitte di legno. Attenti alle curve e alle frenate. Ma la vera sorpresa è il salto finale. Spesso ragazzi sapete che ci piace parlarvi di cuccioli oggi però vi parliamo di un leone adulto. È malato e ha dovuto fare delle analisi accurate. Fortunatamente dormiva. Samson è un leone arrivato in questo zoo in Israele un anno fa insieme a sua sorella Delilah. Appena posate le zampe nella gabbia ha subito cominciato ad interpretare il suo nuovo ruolo di star. Giorni fa però il personale si è accorto che Samson non stava molto bene ed aveva problemi nel mantenere l'equilibrio. Gli sono state fatte allora diverse iniezioni di calmante ed è stato quindi trasportato in una clinica per sottoporlo ad un attack. L'attack è un'apparecchiatura molto costosa in genere usata dai medici per le persone. Serve ad individuare malattie all'interno del corpo umano. I raggi permettono agli specialisti di guardare dentro al corpo come se si volesse vedere dentro una pagnotta di pane tagliandola a fettine. I risultati dell'esame hanno permesso ai medici di capire che il leone ha un problema alle ossa del suo cranio perciò presto verrà operato. Samson intanto è tornato nella sua gabbia un leone feroce ora invece attorneato da attenzioni e coccole. Adesso pensateci bene che colore potrebbe avere il ruggito di un leone del leone che abbiamo visto e perché? Beh secondo me potrebbe avere il colore bianco perché il ruggito del leone ci infonde paura. Quindi bianca uno sbianca dalla paura giusto? Sì. Allora vi può sembrare strano eppure no suoni e colori possono essere abbinati almeno secondo questa lezione concerto che si è tenuta a Roma. Do e Re sono colori secondo me un po' più scuri poi il Sol è giallo e il Si è un giallo più forte più come la luce. Una musica calma rappresenta magari il celeste o il verde una musica più acuta magari il bianco e queste cose qua. Dare un colore alla musica è il cuore dello spettacolo musica colori messo in scena dai solisti dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia all'Auditorium di Roma. Protagonisti i colori gli strumenti e centinaia di bambini che hanno cantato il rosso il giallo e il blu e disegnato accordi e note proprio come faceva il grande pittore russo Vassili Kandinsky. Kandinsky è una persona che praticamente abbinava la musica ai colori e alcuni esempi di colori ad esempio lui abbinava il giallo come energia e il blu il blu era un colore profondo e ci hanno dato dei fogli dei cartelloni bianchi dei pennelli e dei dei colori e hanno detto disegnate quello che provate quello che sentite così la musica può essere bianca nera verde azzurra infinite combinazioni alle quali solo la creatività può mettere un limite io ho imparato che con la musica non è soltanto suonarla perché ti piace ma è anche un'emozione bene anche questa puntata del gt è terminata ci rivediamo ovviamente domani alle 16 e 15 mi raccomando non sbagliate orario 16 e 15 ciao 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 per un punto martin eh perse un po' di euro prima domanda Alfredo durante l'ora di disegno che cosa usano di solito i bambini per sciogliere i colori a tempera l'acqua 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 secondo giro Simone attento è un gioco di parole attenzione quale salata esclamazione di sorpresa può essere conservata anche sotto sale capperi bravo capperi bravo simone capperi enzo quale attore quale attore in uno dei suoi film ricevette un ciondolo appartenuto al pugile e rocchi marciano ai silvestre stalloni in rocchi 5 mi dispiace enzo un errore per te eccolo segnalato prima dell'incontro con appollo simona come detto l'insieme di oggetti mobili e tele dipinte che costituisce il set di un'opera teatrale scenografia la scenografia la scenografia galina tu la conosci la canzone che faceva lisa dagli occhi blu si l'ho sentita senza che cosa la stessa non sei più ai 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 mario tessuto sentiamo lisa dagli occhi blu senza le tre c'è la stessa non sei più ai 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 piove il silenzio tra noi tutte le sapete vorrei parlarti ma te ne vai galina mi dispiace un errore per te bravi 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 Nelly secondo un detto cosa riesce bene a chi razzola male predicare predica bene il razzola male un errore Nelly ahimè eccolo segnalato Stefano qual è l'unico dei nove pianeti maggiori del sistema solare che non porta il nome di un dio uranio no urano di urano questo la terra la terra c'è Venere Marte Giove Saturno Urano Nettuno Plutone la terra un errore Stefano ai 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 Alfredo quale premio cinematografico si consegna dal 1928 con la formula and the winner is premio Oscar premio Oscar Roberto Roberto Simone quali formazioni corne rivestono il dorso delle falangette degli uomini le narici no le falangette degli uomini le un è molto male mangiatele Simone un errore per te eccolo Enzo attenzione che è già un errore chi si addormenta su un materassino a mollo nel fiume Basento rischia di svegliarsi nel mar Ionio bravo Ionio perché Basento attraverso la basilicata e sbocca nel mar Ionio bravo Enzo Simona in quale sport ci si posiziona gambe larghe prima di colpire una pallina di circa 44 grammi golf golf e poi colpire bravo Simona Galina con quanti zeri va scritto il numero 100 miliardi 12 no ce n'hai messo uno in più 11 ah Galina doppio errore doppio errore Galina ma non è ancora detto l'ultima parola punta il dito contro Enzo Enzo andiamo da Enzo sfida quindi tra Galina ed Enzo e vediamo se Enzo è fortunato perché tu sai che in una sfera c'è una domanda molto semplice e una invece difficile e una consi consa quale la 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 leggiamola eccola via la e via la 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 allora la pignoccata è un dolce a forma di pigna preparato nei giorni di carnevale ed è tipico di quale regione questa pignoccata della Molise della Sicilia oppure della Puglia Molise Molise vediamo tra Enzo e Galina il primo concorrente ad essere eliminato è Enzo perché è tipico della Sicilia insieme a un dolce siciliano immerso nel miele molto buono mi dispiace Enzo consegni a Galina la tua parte di eredità e quindi Galina ha 100.000 euro e continua l'avventura mentre dobbiamo salutare Enzo grazie ahimè sei stato eliminato saluto la mia bambina Leonora Leonora quanti anni hai Leonora? due anni e mezzo ah vicine due anni e mezzo tutti i miei amici in particolare Fiorella e tutti quelli che mi conoscono grazie grazie a te Enzo ciao ciao Simona lì e Galina qui parto proprio da Simona con il vero o falso attenzione anche da casa Simona ti chiedo durante il palio di Siena i contradaioli possono spronare il loro cavallo usando delle cerbottane vero o falso? vero no figo di tutta la piazza Pino ognuno che lancia una freccetta al cavallo le mie origini toscane mi hanno traguita ai 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 Simona un errore per te eccolo segnalato Galina secondo un sondaggio il 44% delle donne inglesi preferisce dormire con il gatto che con il loro partner vero o falso? vero aspita le donne inglesi intervistate tra i 20 e i 40 anni che hanno ovviamente un gatto in casa hanno detto il 44% è quasi una donna su due è quasi il 50% preferisce dormire insieme al gatto che con il proprio partner perché dice che è più comodo il gatto del partner perché si sente più coccolata dal gatto che dal partner è perché non hanno mai conosciuto un italiano uè cicce diciamolo galina non mi ricordo più che hai detto ho detto bene perché non russe il gatto ha indovinato galina bravo bravo sì il gatto dorme il gatto dorme e lì preferisci dormire col gatto o con tuo marito? non ce l'ho il gatto e quindi? e me lo devo tenere e ti devi tenere il marito a Padova hanno istituito il polliclinico con due L polliclinico c'è un ospedale per soli volatili vero o falso? vero no falso falso ai 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 mi dispiagli hanno inventato un errore nel lì ecco lo signorale Stefano pronto un ometto verde che proviene da Marte oltre che marziano può dirsi marziale vero o falso? falso e invece è vero perché l'aggettivo marziale si riferisce di solito ad argomenti militari questo perché marziale significa di Marte e Marte era il dio della guerra dunque marziale si può applicare anche a Marte inteso come pianeta anche se è più raro un errore Stefano eccolo segnalato andiamo dal nostro campione Alfredo il regista Steven Spielberg è riuscito a laurearsi solamente a 55 anni vero o falso? è vero bravo solamente a 55 anni c'è da fare film c'è da fare dei film di successo quindi anzi bravo Alfredo risposta esatta Simone Eurolandia è il nome del nuovo parco giochi inaugurato a Bruxelles vero o falso? vero no falso perché il nominio è usato dai giornali per indicare gli stati membri che hanno adottato l'euro come moneta un errore Simone eccolo attenta Simona prima di divenire musicista professionista il grande Jimi Hendrix era stato paracadutista dell'esercito americano vero o falso? vero brava vero nel 61 Galina il primo campionato italiano di sci d'acqua è stato organizzato dalla federazione sport invernali vero o falso? vero no falso è stato organizzato dalla federazione italiana sci nautico ovviamente un errore Galina ecco attenta Nelly è Greta Garbo la famosa Greta Garbo prima di diventare attrice lavorò in un negozio di barbiere vero o falso? vero brava era un mestiere tipicamente maschile per cui lo abbandono presso per andare a lavorare in un grande magazzino di Stoccolma da lì incontrò il regista che poi la fece diventare attrice brava Nelly Stefano attento per sapere se un uovo è crudo o sodo basta farlo girare su se stesso e fermarlo con un tocco vero o falso? vero vero se una volta fermato con un colpetto di dito l'uovo continua a girare un pochino è crudo perché il suo contenuto liquido tende a girare ancora se invece è crudo si ferma e basta esatto cioè se è cotto si ferma se è crudo continua se è cotto continua continua se è crudo continua e se è crudo si ferma se è crudo se è crudo continua se è cotto si ferma non c'è un altro metodo più semplice Santucci aprirlo e mangiarlo io ho fatto la prova ho fatto la prova con le uova delle mie galline si e funziona 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 bravo Alfredo esistono dei pirania vegetali vegetariani esistono dei pirania vegetariani vero o falso? vero? vero sono i pirani erbivori vai a capire però quando è carnivoro erbivoro però esistono bravo Alfredo importante che esiste Simone c'è un sito internet che mostra in diretta le immagini delle presidente Ciampi al lavoro nel suo ufficio vero o falso? vero no falso ancora questo a questo non ci siamo arrivati è il grande fratello nell'ufficio del presidente Ciampi no vi prego attento Simone da chi si è accompagnato? da Daniele ed Elena da Daniele ed Elena che sono parenti amici sono un amico e una collega un amico e una collega collega perché spieghiamo che lavori dove Simone? una clinica privata a Piacenza a Piacenza perfetto buonasera ragazzi buonasera ciao Madeus come va? benissimo benissimo noi qui stiamo facendo un tifo mega svegliatato veramente e ci credo e ci credo chissà contro chi punterà il dito Simone ecco contro? contro il dito contro Nelly 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 sei pronta Nelly? ci provo ci provi? l'A la B o la C? A la A vediamo se sei fortunato guarda eh quale di questi animali non può sfoggiare un caratteristico mantello a strisce la zebra la giraffa la tigre è la giraffa la giraffa la giraffa la zebra ce l'ha sempre eh? tra Nelly e Simone il prossimo concorrente ad essere eliminato è Simone Nelly ha trovato sicuramente la più facile delle tre Nelly ti prendi la parte di eredità di Simone quindi sali a 100.000 euro ecco 100.000 euro per Nelly Simone io ti consegno la scatola gioco dell'eredità grazie mi dispiace ahimè sei stato eliminato ok ciao ragazzi ciao Simone Alì Galina Alì eh a cerchiamento Alfredo tutti lì vicino a te per la patata bollente attenta Simone attenta Simone ti chiedo trenette al pesto maialino al latte pasta al ragù visto l'orario cosa fai? l'accedo a Galina l'accedi a Galina grazie cara Galina che cosa usava Garibaldi per conquistare nuovi adepti? trenette al pesto trenette al pesto Garibaldi impegnato a diffondere i programmi della giovane Italia capì che il cibo poteva essere un buon mezzo di propaganda e iniziò a proporre trenette al pesto brava Galina l'errore a Simone eccolo segnalato eccolo qua Galina mi fermo da te 50 60 70 la tengo la tengo secondo una ricerca ogni 100 iscritti all'università della terza età quante sono le donne? 70 70 brava proprio 70 il 70% sono donne brava Galina Nelly Collan Perizoma Reggiseni eh le sconcia sta domanda ci provo ci provo la cittadina di Konyakov nel sud della Polonia ha salvato la sua economia producendo che cosa? Provo con Collante Collante allora questa cittadina ha salvato la sua economia producendo e vendendo in tutto il mondo Perizoma ai 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 Nelly un errore per te eccolo segnalato Stefano colla di pesce zucchero e limone latte e miele la tieni la tieni e leggiamo è possibile depilarsi anche con una ceretta fatta in casa scaldando colla di pesce colla di pesce ah l'abbiamo provata che parisotto funziona zucchero e limone zucchero e limone la tortura un errore Stefano Alfredo rosa viola margherita dai la tengo leggiamola nel film Shakespeare in love che nome porta la lady di cui il giovane Will Shakespeare si innamora eh non l'ho visto diciamo viola viola diciamo come si dice in Anconetano che fortuna non mi ricordo più bravo la risposta è salta viola simona poeta notaio o pensionato cosa fai? l'accedo a Stefano Stefano attenzione ho vinto la maratona delle sabbie in Marocco 179 ha vinto no io no ha vinto la maratona delle sabbie in Marocco 179 chilometri di corsa sotto un sole e cocente ma chi è? tempo pensionato pensionato si chiama Marco Olmo ed è la provincia di Cuneo ed è oggi in pensione ed è la risposta esatta mio compaesano bravo mio compaesano dopo gli errori quindi per Simona viva Cuneo contro chi punti il dito? Nelly Nelly giochiamo giochiamo Nelly Nelly eccoci Nelly come prima A B o C B B vediamo cosa c'è dentro la sfera B che domanda allora ti sarà capitato di acquistare del latte ovviamente allora sulle confezioni di latte fresco qual è la temperatura massima consigliata per la conservazione in frigo 3 gradi 4 gradi o 5 gradi si dice la temperatura massima di conservazione riportata è da 0 a 4 gradi a 4 gradi vediamo tra Nelly e Simona il prossimo concorrente ad essere eliminato è Simona perché 4 gradi è la risposta esatta brava Nelly hai eliminato pure Simona 150 mila euro per Nelly che continua a giocare Simona grazie e ovviamente un salutino sì certo mio marito Andrea la mia mamma Antonietta e tutte le persone che sono al palazzolo le mie colleghe le mie suocere e tutte le persone che mi conoscono va bene un bacione a te Simona sei stata eliminata ciao Galina Galina lì Nelly da questa parte grazie lì attenzione e inizio proprio da Galina con lei o l'altra attenzione Galina attenzione anche a casa ecco che cosa diventa un diamante quando gli si fanno 57 faccette un brillante o l'altro un brillante un brillante l'altro una perla no è un brillante e che brillante brava Galina Nelly un il mostacciolo è un dolce che tradizionalmente viene preparato in occasione di quale festività il Natale o l'altro 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 ferragosto no è un dolce tradizionale natalizio di varie regioni d'Italia pensavo al carnevale mi dispiace Nelly un errore eccolo andiamo da Stefano pronto quale coppia di eterni fidanzati si sono lasciati nel 2004 dopo 43 anni insieme Barbie e Ken o l'altro Barbie e Ken Barbie e Ken Minni e Topolino allora l'amore era sbocciato nel 1961 e i produttori della Bambola spiegano che si sono lasciati in amicizia e che da oggi inizierà una nuova era per la Barbie perché stanno lavorando una nuova immagine rimarrà single o Barbie avrà un nuovo fidanzato eh che ci tocca comprarlo poi tanto per saperlo abbiamo pochi problemi abbiamo pochi problemi pure il fidanzato nuovo di Barbie quando uscirà però il bambolotto di Parisotto sicuramente potremo bravo Sanducci vuoi vedere che sarà lui il nuovo fidanzato di Barbie noi ti chiamiamo per lui e mica una cosa brutta bravo ha andato bene Alfredo sì quale categoria di sportivi può vincere il guerrindoro i ciclisti o l'altro 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 i calciatori certo come si chiama l'imbarcazione con un albero un fiocco e un'unica vela maestra slup o l'altro 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 slurp no quello forse se c'è vento lo fa no no è slup non è facile un errore Galina è consigliato Nelly attenta Nelly David Podlesak ha messo a punto un test che analizzando l'alito degli uccelli consente di sapere la loro età o l'altro la loro età la loro età l'altro è cosa hanno mangiato che ci importa cosa hanno mangiato però è importante a me il Giacomino lo so che mangia glielo do io lo so ma gli uccelli migratori o uccelli che stanno in alcune condizioni anche di inquinamento è molto importante sapere cosa mangia per capire come varia l'ecosistema da dove vengono bravo Santucci avrei detto anche io la stessa cosa sapendolo ed è infatti cos'hanno mangiato cos'hanno mangiato Nelly doppio errore Nelly contro chi lo puntiamo il dito Stefano Stefano vediamo caro Stefano siamo pronti? prontissimi a b o c la A la A Alberto e Annarita vediamo cosa c'è nella A che forma ha una goccia di pioggia quando sta per toccare terra? ha una forma allungata una forma sferica o una forma schiacciata? la forma sferica la forma sferica abbiamo una fotografia? fammi vedere eh sì vabbè ci sono sopra? mi giro così eh questa è una forma se non un disco volante quasi allungata? in realtà schiacciata in realtà è schiacciata perché cade così cade nella mia direzione giusto Santucci? giusto sì perché le gocce sono sferiche quando partono poi quando si staccano sono a forma allungata a lacrima poi quando precipitano giù e stanno per schiacciarsi per terra hanno questa forma a causa dell'attrito dell'aria è un po' strano ma è così è così mi dispiace Stefano mi dispiace ma è schiacciata la risposta esatta Stefano consegna la prova parte a Nelly Nelly 200.000 euro li fai fuori tutti e continuo ovviamente a giocare grazie Stefano ma sei stato eliminato ciao Stefano Alfredo, Galina, Nelly attenzione attenzione vedo che Alfredo le sbaglia apposta signore suo marito fai il furbo le sbaglia apposta ho capito ma vedrai quando arriva a casa vedrai quando arriva a casa come gli fai ricordare tutte quelle sbagliate se ce vado a casa non si fa tornare vediamo allora bello sembravi una tartaruga ninja sono pronta sono pronta perfetto pure io quindi è rama dal basso questa è una rama presa da qui no no è il momento della scossa la che no bene i niet no no covid no and always will be There will be no white flag above my door I'm in love and always will be Brava! Brava! Grazie! Brava Giovanna! Grazie per essere stati buoni! Hai visto? Sì, grazie! Tu sei buona con noi Quindi siamo buoni con te! Grazie! Sono commossa! Sono commossa! Grazie! Giannina, vieni! Perché devi sapere? Ciao! Buonasera Giannina! Dovete sapere ragazzi, Alfredo è qui per voi, gli frega niente, gli euro... Poi lei mi crea una suggestione particolare Perché? Perché essendo io tifoso della Fiorentina insieme al mio futuro genero Sì, siamo un club di 10-12 Ad Ancona che... Un centinaio in Ancona Il suo accento mi evoca Firenze Firenze, c'è Anche se è Juventus Però io sono tipo Della Juventus Vabbè La Juventus Ah ma te l'avevo già detto Capito? Ma è perché io penso che col tempo tu... Cambi idea Cambi idea Vabbè ci penserò Cambi idea Cambi idea Leggi questa scossa Leggi questa scossa D'ingatto Quale tra queste grandi città europee non è bagnata dal mare? Ah, giocografia che ti piace tanto Allora Allora, speriamo l'accento sia giusto Spalato Se me la sbaglio me buttavo per terra Perché guarda Salonicco Granada Marsiglia Odessa Belfast Reykjavik Barcellona Helsinki Edimburgo Sai che sei meglio tu ti pari sotto Che mi dai in cuffia gli accenti Veramente Allora Alfredo Quale di queste grandi città europee Non è bagnata dal mare? Quindi sono tutte bagnate dal mare Meno una Dobbiamo dire quella che è bagnata Esatto Mi devi dire Scusa Quale è bagnata dal mare? Sicuramente Barcellona Sicuramente la bellissima Barcellona Scossa E infatti dal Mediterraneo Galina Odessa Scusa? Odessa 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 Scossa Brava perché? In Russia Dal Mar Nero Dal Mar Nero Ma è andata da zone eh? Ognuno Va nei troppi mari Nelly Spalato Spalato Vediamo Spalato Anche tu sei andata più o meno eh? Trieste Sei andata da Spalato Sono stata pure a Spalato E' stato Spalato Scossa Bravo in Croazia Una bellissima Spalato E quindi l'Adriatico L'Adriatico mi segue L'Adriatico mi segue Che segue Poi devo dire che Dalla parte della costa Della Isugoslavia Hanno un mare Lo diciamo Un Adriatico Che è splendido Direi che è splendido Alfredo Senti io direi Il porto più famoso Dei Noir francesi Marsiglia Dove si svolgeva tutto lì Certo Vediamo un po' Scossa Bravo infatti Mediterraneo Mediterraneo Brava in Grecia E quindi il mare Maregeo Nelly Belfast 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 Vediamo un po' Belfast Scossa No Mar di Irlanda Mar di Irlanda Infatti a nord Mar del nord Alfredo Dunque io direi Reykjavik Reykjavik Scossa Bene al freddo Siamo Atlantico Atlantico Siamo in Islanda Galina Helsinki 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 Anche qui siamo Belli in alto Siamo in Finlandia Vediamo Scossa Mar Baltico Baltico Brava Galina Nelly Due Edimburgo Edimburgo Andiamo su In Scozia Scossa Brava Maldernod Brava Bravi 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 Subito Subito Un'altra scossa Via Eccola Appare E scombare Secondo l'Istat In quale regione italiana Bene il 48,8% Delle famiglie Possiede più di un'automobile Trentino Alto Adige Marche Sicilia Lombardia Abruzzo Liguria Piemonte Umbria Lazio Toscana Ok Alfredo arriva dalle Marche Galina Dalla Lombardia Stando a Pavia E Nelly Abbiamo detto che arriva da Dall'Abruzzo Dall'Abruzzo Dalla bella Montesilvano Bravissima Allora Quindi vediamo Ci sono ovviamente Le vostre regioni Vediamo Intanto Alfredo Non è Eh no Volevo dire Scusa Se permetti In quale regione italiana Bene il 48% C'è però Può essere una regione Che ne possiede anche di più Devo individuare quella Io proprio Ecco una domanda E quella che ne ha di più E quella che ne ha di più Tra queste Ah ecco In assoluto anche Ah in assoluto In assoluto Ah ecco In assoluto Cioè tutte le altre sotto il 48% Esattamente Scusa no 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 Giusto giusto In assoluto Ora in assoluto Quindi meno Meno del 48% Suppongo L'Abruzzo L'Abruzzo Vediamo Scossa Brava Infatti l'Abruzzo 43% Eccolo qui 43,6% Al quarto posto Al quarto posto Pelo Eh non è Anche in Abruzzo Hanno molte auto Galina Io provo Trentino Alto Adige Trentino Alto Adige Scossa Brava Quanto è la percentuale? 35,7% 35,7% Quindi nettamente inferiore al 48,8% Nelly Liguria Liguria Vediamo se i Liguri hanno Come dire Le famiglie Liguri hanno più di un'automobile La maggior parte più di un'automobile A testa Scossa Brava Liguria 20,9% Pensate Pensate E si trova L'ultimo posto Ex equo Con un'altra regione Che non dico Liguria Poche auto Si bottiglia perché non c'è Scusa Santucci Si bottiglia perché non c'è Ah non c'è Allora L'ultimo posto Insieme alla Campania Quindi Liguria E Campania Sono le due regioni Come dire Che spendono meno Per acquistare automobili O la doppia auto Possiamo dire una famiglia Ecco più che Quindi si intende automobili di famiglia Sì sì Di famiglia La famosa doppia auto All'interno del nucleo familiare Non sul buncino Per lavorare No no L'auto in famiglia Penso Penso la Sicilia La Sicilia Vediamo Scossa Brava Come siamo messi 27,2% 27 Anche qui basta la percentuale in Sicilia Della doppia auto in famiglia Galina Umbria L'Umbria Vediamo L'Umbria Scossa Scossa In Umbria La metà Quasi la metà Delle famiglie Possiede almeno Due auto Almeno due auto Al secondo posto Ci sono le marche Eh infatti Mi ritenevo distante Brava Al secondo posto Le marche Che le scondo posto Le marche Allora Galina Alla tua destra Alfreda Tosistra Nelly Punta il dito Contro Nelly 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 Grazie Giannina Questo due è l'altra poco Grazie Benvenuti nello spazio Della classe Delle eleganza E della comodità Chateau Dax Che fa grande ogni casa Anche la vostra I negozi di Chateau Dax Sono gli unici in franchising In cui puoi trovare Non solo divani e poltrone Ma anche una nutrita proposta Di letti E complementi per la notte E il tutto da vestire E coordinare Con un'incredibile varietà Di 200 tipi di pelle E più di 1500 tessuti Tutti allo stesso prezzo Da poter valutare Scegliere Con l'aiuto di personale specializzato E di un totem Che dimostra La richiesta L'immagine del divano Con il rivestimento scelto E solo per questo mese Chateau Dax Vi offre un'occasione eccezionale Per fare grande La vostra casa Tutti i prodotti Chateau Dax Si possono acquistare Pagandoli in 12 comode rate E potete pagare La prima rata Fra un anno Un esempio? Allora Ammirate l'eleganza Il design E la comodità Del divano Flash In tessuto sfoderabile A tre posti Beh è davvero bellissimo E costa solo 1340 euro Pagabili in 12 comode rate Di 89 euro Mentre la versione Con chaise long E contenitore Costa solo 131 euro al mese E potrete pagare La prima rata Tra un anno Naturalmente Iva trasporto e montaggio Sono compresi nel prezzo Come pure la garanzia Di 5 anni Su tutta la struttura I 110 negozi Chateau Dax Vi aspettano Per fare grande Casa vostra Chiamate il numero verde 800 132 132 Per sapere Qual è il negozio Più vicino Oppure consultate il sito www.chataudax.it E ricordate Chateau Dax Fa grande ogni casa Anche le aquile di Vetz Preferiscono la naturale leggerezza Di acqua prata E alla prossima puntata La mamma non c'è Ma noi ce la caviamo Benissimo da soli Ma sono diverse Sembravano uguali Ma papà La merenda Ho fatto la spesa Ma non è Kinder Brioss E questa Sembravano uguali La tengono tante ore sotto un tuvaliolo Ed esce leggera Poi Mezzo C'è tanto latte Me l'ha detto la mamma Kinder Brioss È come la mamma Ce n'è una sola Ah ce la siamo cavata Benissimo Ho scoperto Nuovo smack brillacciaio Pulisce con cura l'acciaio Lo protegge E in più lo fa splendere a lungo Ma è come uno specchio Come ha fatto sorella? A me può confessarlo È lo splendore di smack brillacciaio Nuovo smack brillacciaio Un tocco in più per la tua casa Così fresca e invitante Certosa Galbani Da oggi è ancora più buona E ancora più cremosa Semplicemente irresistibile Certosa Galbani Tutto il gusto del benessere Il deodorante giusto È nuovo Deoinfasil Tripla protezione Regola la sudorazione È clinicamente testato Per essere delicato E tiene freschi a lungo Nuovo Deoinfasil Senza alcol Da oggi anche Roll On Cresci con Danito Controlliamo la tezza Per crescere bene Ci vogliono vitamine Proteine e calcio Io raccomando Danito Ogni giorno Danito è un concentrato Di latte e frutta Con tante vitamine Proteine e calcio Per crescere sani E più forti Buono Danito La merenda Mito Ecco le pizze Quando pulire non basta Ma ci vuole anche igiene Nuova Ace Igiene Casa L'unico detergente Con la candeggina Ace Per darti pulito brillante E l'igiene di Ace E tu vai su sicuro Dieci formaggi Ma come dieci formaggi non esiste? Nuova Ace Igiene Casa Pulito e igiene Sono di casa Tu sei bellissima Tu sei bellissima Tu sei bellissima Rocchetta è l'acqua che mi fa star bene Perché depura per le sue proprietà diuretiche Così mi sento più bella Acqua Rocchetta Puliti dentro Belli fuori Ma è Alice Tutti vogliono Alice Specie adesso che accelera gratis Fino a 640 kilobit al secondo Però Guidi bene Ma Sto imparando Ciao a tutti Violo Mitra Guidi batti e ribatti è il nuovo appuntamento con pierluigi battista ma è giusto che i militari italiani vadano via dall iraq batti e ribatti dal 15 marzo ogni giorno dal lunedì al venerdì dopo il tg1 delle 20 eccoci 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 la seconda parte dell'età è un momento importante perché allora possiamo dire che galina arriva da pavia ma ricordiamo nata esattamente in bulgaria vive a pavia da nove anni ha giocato molto bene ahimè però ha preso la scossa non ha puntato il dito contro il campione che quindi va sicuramente all'ultima sfida ma contro nelli attenta nelli come prima hai vinto tutti i duelli vediamo cosa fai adesso a b o c c c nel medioevo i servi della gleba erano costretti a lavorare i campi dei padroni ma la gleba che cos'è una zolla di terra un piccone una spiga di grano i servi della gleba una zolla di terra una zolla di terra tra nelli e galina prossimo concorrenti ad essere eliminato è galina perché zolla di terra e la risposta esatta brava nelli ragazzi che moglie che moglie 300 mila euro per nelli brava nelli continua a giocare galina grazie buon ritorno a pavia grazie ahimè si è stato eliminato arrivederci ciao galina grazie arrivederci nelli lì alfredo esatto sistematevi impostazione ultima sfida via eccoci alfredo nelli 50 mila euro nostro campione 300 mila euro nelli ha giocato benissimo una bella differenza economica come sempre ricordo che non vince chi ha più euro ma chi mi dà risposte esatte cinque risposte esatte per primo inizio dal freddo che la parte minore 3 2 1 via per alfredo prima domanda di questa ultima sfida la deutsch bank è un istituto bancario fondato nel 1870 in quale stato germania germania esatto uno a zero nelli quale regione del centro italia fino a qualche anno fa aveva il nome al plurale abruzzo molise bravo abruzzo bravo abruzzo e abruzzi perché comprendeva che brava nello uno pari alfredo quale angelo seguirono i ribelli cacciati dal cielo e trasformati in demoni lucifero lucifero esatto siamo 21 nelli ti chiedo quale rete televisiva di cecchi gori ha avuto come direttore del tg sandro cursi radio monte carlo tv monte carlo ho detto radio santucci monte carlo è esatto mi consulto con il notaio agli inizi c'era tele radio e tele monte carlo tutte e due insieme vabbè intanto sentiamo che cosa ci dice ovviamente il notaio ha detto sì va bene perfetto nelli due pari alfredo quale termine francese indica un'automobile decappottabile no coppè cabriolet cabriolet tagliata attenzione nelli puoi passare in vantaggio nella piazza di quale città il 28 maggio dell'ottanta sette atterrò un aereo guidato dal giovane mattias rust a mosca nella piazza di mosca 3 a 2 per nelli alfredo quale ora del di ha pure il significato di meridione d'italia mezzogiorno mezzogiorno esatto tre pari nelli come era comunemente chiamata la camera bassa del parlamento inglese la camera non dei lord ma dei comuni dei comuni attenzione alfredo quale ballerino e coreografo di origine americana creò il dada umpa delle kessler don l'urio don l'urio esatto 4 a 3 nelli ti chiediamo in quale sport da tavolo si fa una carambola tennis no il bigliardo il bigliardo dal tavolo torniamo ad alfredo in quale esercizio musicale si leggono ad alta voce le note scritte sul pentagramma solfeggio ed è la risposta esatta e alfredo si conferma campione ma nelli ti ha fatto sudare stasera brava brava nelli accoprati nella sfera nelli e con alfredo ci si riprova andiamo alla verità grazie giulia grazie genina conosci la strada a comodo alfredo eccoci qua allora 50 mila euro ci riproviamo un'altra volta 100 milioni delle vecchie lire c'è la torcida qua eh qua c'è la torcida torcida qui eh il circoscritto alla cosiddetta fascia verde della città durerà 4 ore dalle 15 alle 19 provvedimento che resterà in vigore fino al 31 marzo un nuovo centro trasfusionale di immunologia e medicina trasfusionale la struttura è stata inaugurata oggi al policlinico universitario di Tor Vergata intanto c'è attesa per l'apertura del nuovo pronto soccorso Paola Aristodemo sorgerà qui in questi locali il nuovo pronto soccorso di Tor Vergata ed è già partito il conto alla rovescia per la sua inaugurazione oggi già esiste un punto di primo soccorso al policlinico di Tor Vergata il trasferimento in questa nuova area che è un'area di 900 metri quadri avverrà a tempi brevissimi dalla regione rassicurano il pronto soccorso aprirà a giorni io credo che così come avevamo annunciato per fine marzo il pronto soccorso può diventare una cosa reale a disposizione dei cittadini della nostra regione locali nuovi di Zecca non solo per il pronto soccorso ma anche per il centro di medicina trasfusionale il dipartimento inaugurato dal presidente Storace in occasione della campagna di raccolta sangue promossa dalla regione nel Lazio mancano 30.000 unità di sangue io l'appello lo rivolgo a tutti gli studenti che numerosi popolano l'università di Tor Vergata e quindi spero tanto che con loro riusciremo a dare un impulso al centro e a raggiungere questa benedetta autosufficienza di sangue l'invita a donare il sangue anche della regione telefonate al numero verde per sapere come si può donare il sangue la risposta più bella da parte dei cittadini del Lazio il numero verde è 800 01 22 83 un nuovo servizio telefonico sperimentale gratuito favorirà la comunicazione fra gli udenti e i sordi del Lazio l'iniziativa la prima del genere in Europa nasce dalla collaborazione tra regione Lazio che finanzia il progetto e dente nazionale sordomuti in sostanza la persona sorda che ha necessità di parlare con un udente indirizza ad un operatore un messaggio attraverso uno speciale apparecchio in grado di funzionare come un normale telefono ma anche di trasmettere messaggi scritti il progetto appena ultimata la formazione degli addetti sarà raggiungibile attraverso il numero verde 8 0 0 0 6 7 5 9 0 il tempo del gioco oltre lo studio il consiglio dei bambini di Roma riunito al museo zoologico ha presentato le proposte dei piccoli cittadini della capitale fuori i compiti dal fine settimana in una lettera pubblica inviata a tutte le scuole elementari di Roma chiedono di avere spazi temporali da dedicare al gioco un diritto sempre più negato proprio per il carico di lavoro da svolgere a casa l'assessore alle politiche per la promozione dell'infanzia è scesa in campo chiedendo una modifica del regolamento di polizia urbana che vieta il gioco sul suolo pubblico si tingerà di giallo a fine giugno una striscia lunga 12 km del territorio di Aprilia in provincia di Latina Mauro Maolucci ce ne anticipa la soluzione vediamo sbarcano ad Aprilia i giapponesi pronti a realizzare una pista per collaudare gli pneumatici il marchio prestigioso è quello della Bridgestone Firestone che fornisce la Ferrari, la Sauber, la Minardi e la Jordan l'anello lungo 12 km sarà inaugurato a giugno e sull'asfalto potranno essere collaudate le gomme con qualsiasi condizione meteorologica simulata si passerà dal gelo al caldo tropicale, dalla pioggia al sole cosciente sarà un gioiello tecnologico dove trionferà l'elettronica nascerà anche un centro di formazione dove verranno a studiare i ricercatori della Bridgestone a pochi chilometri da qui per 30 anni la storica rivale alla Goodyear ha sfornato migliaia e migliaia di gomme il colosso degli pneumatici ha stanziato 80 milioni di euro all'inizio troveranno occupazione 50 persone poi si arriverà a 100 dipendenti a pochi chilometri a Castel Romano sorge uno stabilimento della stessa casa e questo progetto aiuterà a far decollare un polo industriale inoltre nella zona è prevista la realizzazione di una centrale a termocombustione che utilizzerà i copertoni per fornire energia elettrica il tutto a basso impatto ambientale ci spostiamo al sud della provincia di Latina dove fino all'esito delle analisi è vietato bere l'acqua dai rubinetti da quelli di casa esce infatti un liquido marrone probabilmente a causa di un'infiltrazione dal torrente Capodacqua straripato nei giorni scorsi in seguito alle abbondanti piogge lo ha comunicato l'acqua latina ai sindaci di Gaeta Formia, Minturno, Santi Cosma e Damiano Castelforte e Spigno Vertice Atto 3 per verificare la necessità del bacino idrico che serve la Sabina e 8 comuni della provincia di Roma Darieti, Tito Cheli La conferenza dei sindaci dell'ambito territoriale ottimale per la gestione dell'acqua comprendente 81 sindaci, 73 del Riatino e 8 della provincia di Roma si è riunita per verificare l'entità numerica del personale dei vari comuni e consorsi impiegati nell'attuale gestione degli acquedotti e della depurazione delle acque che dovrà passare al nuovo gestore dell'ambito la conferenza dei sindaci in una prossima riunione deciderà quanto di questo personale passerà alle dipendenze del lato 3 anche se il numero stabilito è di 120 unità si è parlato anche degli organismi da salvaguardare e di quelli esistenti per il solo consorzio del lucro industriale, Rieti Città Ducale è stato deciso di garantire una salvaguardia temporanea per un periodo prefissato di 3 anni la scarsa illuminazione nelle gallerie di viale del muro torto sarebbe all'origine della permanente situazione di pericolo di questa arteria urbana lo scrive nella vostra e-mail un nostro telespettatore sul posto è andato a verificare Lazzaro Pappagallo i più giovani di voi ricorderanno uno straordinario video del rapper italiano Frankie High Energy accompagnava una canzone intitolata Quelli che ben pensano ed era ambientato nelle tenebre del muro torto a ben pensare in questo caso è un nostro ascoltatore ci ha invitato a verificare se si riesce a vedere qualcosa nel segmento che conduce a Via Nomentano o al Policlinico a Castro Pretorio siamo andati lì e abbiamo visto che c'è sì un cartello segnaletico di ingresso in galleria con l'indicazione degli svincoli ma è in alto e bisogna saperlo molti non lo sanno e arrivati vicini allo svincolo iniziano a frenare disorientati e quando noi ci avviciniamo non riusciamo a leggere con la nostra telecamera direzione e nome degli svincoli da fermo all'esterno se guardate in alto a sinistra noterete che in uscita dalla galleria due lampade su una dozzina sono pienamente attive e il 40% non funziona tutto molto pericoloso per auto e soprattutto moto abbiamo girato l'assessore competente la nostra segnalazione protesta non solo accolta in tutto il sottopasso di Corso d'Italia fino a Flaminio noi rivedremo la illuminotecnica e metteremo parecchie lampade ma di tipo innovativo molto più luminose molto più diffusive come luminosità i lavori cominceranno alla metà di marzo e per la fine di aprile saranno ultimati e noi saremo lì a verificare come per le altre indicazioni da girare alla vostra email chiocciolarai.it o al numero di fax 06 331 70 149 il calcio archiviata la vittoria casalinga con l'Inter la Roma si concentra sui prossimi impegni di Coppa l'Alessio invece è di nuovo al lavoro a Formelo i servizi di Alberto Rimedio e Nuccio De Simone passaggio immediato dalle meraviglie della notte con l'Inter alle insidie della trasferta con il Villareal dunque Coppa UEFA impegno scomodo perché in grado di togliere energie preziose ha una squadra sempre convinta di poter raggiungere il Milan e allora capita pensando alla regina che Capello lascia a casa diversi giocatori da non rischiare niente Spagna per Totti, Candelà, Dacura, Kivu e Del Vecchio dopo tre mesi e mezzo torna invece Montella arma potenzialmente letali in un attacco che già oggi non ha rivali in Serie A con i suoi 55 gol segnati Otto li ha realizzati proprio Manzini la vera sorpresa giallorossa imprendibile con i suoi tagli improvvisi dalla destra verso il centro certo non ha fatto rimpiangere Cafu il suo predecessore ma il giovane brasiliano vola basso al cospetto del due volte campione del mondo beh a me non mi piace a Paragoni veramente chiusura dedicata a Belletti l'esterno brasiliano del Villareal che su un quotidiano avrebbe dichiarato di non sapere chi sia Manzini Voi hai detto che non mi conosci? Belletti sì Ma dove sentite? Sembra di sì Io ho giocato insieme con lui due anni e sembra di aver dichiarato questo Non mi dà fastidio ma è strano La giornata a Formello dove oggi sono ripresi gli allenamenti della Lazio è iniziata con la presa di posizione di Roberto Mancini su alcune notizie che lo vorrebbero già all'opera per programmare il mercato della futura Inter Inizialmente era un silenzio poi I miei silenzi vanno interpretati cioè io ho detto no ho detto un mese fa che non parlavo più di questa cosa se uno vuol fare il furbo lo interpreta come vuole ma io non ho risposto perché un mese fa ho detto non parlo più di questa cosa perché non mi sembra giusto parlare E il Mancio vuole dare poi un taglionetto anche alle polemiche sorte intorno alla data del recupero della sfida di Bologna fissata per il 25 marzo alle 20 e 30 Un giorno vale l'altro, non è molto importante Magari non lo so se si può ancora ma se si potesse anche per tutte e due le squadre non solo per noi anticipare di qualche ora forse sarebbe meglio Intanto fino a venerdì Cesar sarà in Brasile per problemi familiari ma Mancini non lo mette in dubbio per la sfida contro l'Udinese una sfida che precederà Juve e poi i derby il tutto in una settimana e in chiave Coppa Italia e Corsa Champions League Noi dobbiamo fare dei punti insomma per noi è importante battere l'Udinese e poi battere la Juve e poi pensiamo al derby i tre punti dell'Udinese valgono come quelli della Roma per noi Il consueto appuntamento del FAI per la giornata di primavera il 20 e il 21 marzo Maria Gabriella Susana Per gli amanti dell'Ottocento e degli intrighi familiari oltre Ponto Umberto c'è il Museo Napoleonico l'edificio è del Cinquecento ed è dedicato alla figura di Napoleone e della sua famiglia il museo è aperto gratuitamente in occasione della giornata del FAI e la storia di Napoleone tra queste stanze si svolge come in un film il periodo della grande ascesa, quello romano, il secondo impero e poi le opere d'arte ed i soffitti settecenteschi a prevetti dipinti un vero capolavoro Con la giornata di primavera sarà possibile accedere poi con un ingresso straordinario in uno dei musei più sconosciuti e più insoliti della città tra fischietti in terracotta la cui funzione era essenzialmente ludica sistri, sonagli e alcune statuine a simboleggiare il suono segno che nei tempi più remoti la musica aveva la sua importanza la storia del suono è rimasta un po' lontana dagli affollamenti del turismo di massa ma dietro Santa Croce, in Gerusalemme coltiva invece tesori da scoprire e da preservare un corno del VI-V secolo a.C. usato probabilmente per lanciare dei segnali ed una doppia tibia, forse romana ma più probabilmente etrusca spalancano le porte agli appassionati ed ai curiosi della materia rievocando note del passato fino al Medioevo e dal Rinascimento e dal Clavicembalo si passa a pezzi di rara autenticità del secolo XVII con le arpe di Louvè e di clarinetti d'amore fine di questa edizione del telegiornale regionale del Lazio grazie per l'ascolto la prossima alle ore 23.15 circa intanto buona serata e arrivederci tg regione con la partecipazione di parà tende da sole tempo test vi presenta il meteo regionale domani mattina sulla nostra regione si prevedono iniziali condizioni di bel tempo ma con tendenza ad aumento della nuvolosità alta e stratiforme a partire dalla costa domani pomeriggio ma soprattutto in serata estensione della nuvolosità a tutto il territorio regionale questo è il tempo e le temperature previste per domani minime della notte comprese tra meno 3 e 2 gradi massime tra 10 e 13 gradi venti deboli sud occidentali mare da poco mosso a mosso ah si? dai dai racconta ma no ti dico di no non mi disturbi affatto no guarda sta tranquilla ah finalmente per una chiamata così dovrei fare un muto ma no parlare con tutti mi costa solo 15 centesimi al minuto e se mi chiamano mi ricarico se hai 3 si vede 3 presenta Tuamatic l'auto ricarica che nessuno ti dà per ogni minuto di chiamata ricevuta ti ricarichi di 5 centesimi con quello che risparmi apri 2 tu con la forza di 3 senza con senza con senza con con senza con senza con 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 nuova Megane coupé cabriolet con tetto in vetro con è come senza le folly Megane a marzo scopri le sorprese sulla gamma Megane in tutta la rete Renault una Casper non lo sai che con un tappo di Carlsberg si vola in due agli Euro 2004 per premiare in Man of the Match Carlsberg vire ufficiale Euro 2004 accetteresti mai che qualcuno guidasse una Y identica alla tua tranquillo abbiamo pensato anche a questo nuova Lancia Y il piacere è tutto mio e comparir Lancia 5 anni di garanzia e assistenza stradale Alba assegnate il tuo indice felicità Alba e mo' ci hai scocciato eh con i team il tuo mondo è sul telefonino anche lo sport venite venite che profumo meraviglioso e beh d'altronde il parmigiano reggiano è assolutamente naturale fatto con metodi artigianali e senza additivi perché usiamo solo il latte delle nostre mucche che non mangiano foraggi fermentati loro simpatica però parmigiano reggiano non si fabbrica si fa per i 50 anni di Volkswagen in Italia i concessionari Volkswagen vi regalano da 1000 a 4000 euro di vantaggi fino al 31 marzo il compleanno è vostro i regali sono tutti vostri caccia aperta al testimonial infostrada cerca il testimonial per la sensazionale offerta happy night happy night chiami gratis da casa in tutta Italia dalle 8 di sera alle 8 del mattino chiama infostrada al 159 doc 3 presenta l'evoluzione dell'uomo durante l'era glaciale 24.000 anni fa quando il nostro pianeta era in gran parte ricoperto dai ghiacci solo l'ingegno ha permesso ai nostri antenati di sopravvivere il primo dei nostri antenati che possiamo effettivamente chiamare umano è l'uomo ergaster per sopravvivere il poteva contare solo sulla propria intelligenza il mondo dei ghiacci questa sera alle 23.40 su Rai 3 sabato 13 marzo siamo di nuovo su Rai 3 alle 23.25 con dove osano le quaglie 13 marzo? si non posso perché non puoi? ho una crescita e falla saltare ma è mio nipote posso? devi venire lo stesso cerco di organizzare la cosa 13 marzo 23.25 si vabbè non perdiamo tempo mi dia mi dia non perdiamo tempo si diceva una volta dal che la fame è un'esercizio 3 di centrocampo attacco e del Piero di Vaio punte di manovra servirà a segnare quei due gol indispensabili di un'esercizio di un'esercizio che si 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 di un'esercizio 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 perfetto e incredibilmente di un'esercizio un'esercizio di un'esercizio un'esercizio di 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 un'esercizio vero? vero Alison allora Carlo sei accompagnato da chi intanto? la mamma di Alison ah la mamma di Alison che si chiama? si chiama Lani Lani buonasera Lani buonasera 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 e da? mia nipote Claudia perfetto ciao Claudia buonasera buonasera a te allora Carlo beato tra le donne accompagnato dalle donne manca la terza manca la terza vedi? prima domanda Carlo secondo un modo di dire il pessimista cronico vede sempre la metà vuota di che cosa? del bicchiere del bicchiere per il pessimista è sempre mezzo vuoto e non mezzo pieno Maria Grazia ciao Maria Grazia ciao Maria Grazia è nata a Bisceglie però vive a Bollate qui vicino Milano consulente di sistemi informativi sposata con Diego che qui Diego eccolo qui ciao Diego avete un sogno mi ha detto che insomma tua moglie ha un sogno che è quello di avere tanti figli ma per poterlo fare dovete comprare casa perché attualmente vivete in un piccolo un monolocale in un monolocale e quindi ovviamente insomma il sogno è quello allargare questo monolocale allargare questo monolocale buttare le pareti insomma allora ci vuole la vincita all'eredità speriamo subito Maria Grazia ti chiedo della nazionale di calcio Giovanni Trapattoni è il CT la T sta per tecnico e la C sta per non lo so Diego consulente non consulente tecnico commissario tecnico il commissario tecnico della nazionale non lo so Maria Grazia un errore per te eccolo Cristina ciao Cristina ben arrivata ciao eh ah si certo dimmi ho sentito ho sentito di Cristina che abita in un appartamento piccolo piccolino sì quanti metri quadrati scusa quanti metri sono 30 30 metri quadrati quindi siete fortunati perché abitano in una tomba di famiglia praticamente io non ce la faccio più ma come questi vivono due cuori una capanna abiti in una tomba di famiglia ma è possibile che tu parli solo di tomba eh insomma ma dai ma come una tomba di famiglia due cuori una capanna ci sono i cuori l'importante è questo c'è ma non è possibile è 30 metri quadrati ma mica è un loculo è una tomba di famiglia una tomba di famiglia è un po' più grande mamma mia ragazzi toccate tutto ciò che avete che porta ferro ok Diego pure Cristina buonasera Cristina in quanti metri quadrati abita? un po' di più un po' di più quindi da Torino vero? Torino si sente si sente un pochino ancora no perché no no la cadenza alla cadenza vabbè noi abbiamo il nostro badante che è di Torino lì che ogni tanto si sente anche lui però è bello l'accento di Torino mica tanto come no io adoro gli accenti lavora nei negozi di mobili dei genitori si definisce terribilmente sfortunata ma come? non ha il fidanzato mi va tutto storto sono andata a vedere la Juventus e pioveva giocava contro l'Inter e come è finita? sei andato alla Juve ma non ho visto il gol come non hai visto il gol? eh ho visto per tutta la partita con l'attimo lì mi sono girato a parlare con il mio vicino con l'attimo il domo alto che è successo? ha segnalato la Juve ma è incredibile è incredibile che ci vogliono fare? dobbiamo togliere questa sfortuna come? e come? cominciando a vincere l'eredità è il primo segno di fortuna proviamo Cristina se chiamo Putin se io chiamo Putin e il suo ufficio di presidente in quale palazzo di Mosca squiderà il telefono? Cremlino brava il Cremlino bene Cristina Matteo buonasera Matteo buonasera dalla provincia di Como esattamente? esatto Cavallasca Cavallasca DJ a Radio Planet sì di Milano di Milano passione che ha da molto tempo molti anni tra l'altro metteva anche i dischi alle feste della sorella più grande che credo che sia qua si chiama? Eva ciao Eva buonasera era bravo a mettere i dischi? bravo lui metteva i dischi e tu ballavi e così quindi lui era quello che non cuccava mai perché chi mette i dischi in dischi? lui guardava solo i dischi lui guardava solo i dischi c'è tanto il mito del DJ ma è quello che lavora tutta sera comunque è certo è quello che deve guardare solo i dischi quindi Matteo attenzione prima domanda per te sì tirando una volta un dado a sei facce quante probabilità ho che esca il tre? una su sei bravo maura buonasera maura 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 nata a Roma vero? come no? vengo da Roma vieni da Roma sono nata a Firenze da famiglia fiorentina però mi hanno portato a Roma che avevo due anni però hai mantenuto hai conservato il tuo accento fiorentino io lo sento vabbè come no? poi tu sei molto pratico di accenti potresti fare il limitatore no io adoro gli accenti quindi avendo girato molto l'Italia mi piace mi fai molto bene grazie grazie sposata con Ivan il terribile Ivan il terribile posso dirlo da 47 anni da 47 congratulazioni dov'è Ivan adesso il terribile? neanche con due pistone dietro la schiena ci sarebbe venuto niente si vergogna si vergogna è un chimico è schivo diciamo è schivo è schivo mamma di 5 figli e nonna di 9 nipoti e mezzo che sarebbe mezzo sta per nasce a giugno Leonardo ah perfetto però prima o poi mi dovrai far dire tutti i nomi come no? al prossimo giro te li faccio leccano prima domanda ci tengono quale stato del continente americano deve il nome al genovese che scoprì il nuovo mondo? genovese? si la colombia brava la colombia da questo avolo colombo brava maura Lorenzo ciao Lorenzo da Padova da Padova studente universitario di economia e commercio si a Padova a Padova giovanissimo Lorenzo ma ti anni hai? vent'anni vent'anni giovanissimo suona il violino e passa tutti i pomeriggi in palestra ah suonai il violino? no no il violino lo suona a casa ah il violino a casa in palestra? in palestra faccio dell'altro fai dell'altro ovviamente ti piace sei uno sportivo mi piace molto lo sport curare questo aspetto fitness tutto il lavoro associato ah perfetto sei pronto Lorenzo? sono pronto sono accompagnato da Paolo che è qui dietro a me e chi te l'ha chiesto? no giusto no giustamente tu dici ti porti a me Paolo ciao Paolo ciao a tutti buonasera anche tu suoni il violino? suoni il violino? no no vai in palestra? no niente niente e quando vi incontrate? visto che lui suoni il violino tutto il giorno e sta in palestra tutto il giorno? compagni di scuola ah compagni di scuola di liceo e di corso e di corso bene Lorenzo prima domanda la giacca a falde lunghe che i signori indossano nelle serate di gala ha la coda di quale animale? la coda di un pinguino? no coda di pinguino coda di rondine quella coda di rondine ah Lorenzo un errore ecco l'ho segnalato non ti preoccupare il primo l'importante è non commetterne due Everardo 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 da malavicinamante Everardo e sapete se avete seguito la puntata di ieri ma ve ne sarete accorti anche all'inizio della puntata odierna che parlava un po' di un come è che l'ha definita? tomba di famiglia a tomba di famiglia e ha un'impresa di onoranze funebri ereditata da uno zio colleziona foto di carri funebri antichi tra gli altri da cavalli e accompagnato dalla fidanzata Graziella 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 certo buonasera Graziella buonasera ieri divertente Graziella ci ha raccontato anche il vostro incontro tutto quanto insomma come andai? è stata hai vinto 2000 euro ieri quindi sempre 4 milioni delle vecchie lire siamo stati contentissimi ci avete portato in un posto bellissimo cena a lume di candela suite col letto che gira attorno c'è una roba proprio ma penso che l'abbiate fatto opposta un po' per farmi arrivare stanco oggi no perché vogliamo trattarti bene non si sa mai ah dici no non vogliamo che tu vada a casa com'è stata l'esperienza di età ah un mortorio vabbè invece noi vogliamo che tu sia allegro a parte eh aspetta questa notte ho fatto un sogno brutto nel salotto no questa sì questa notte ho fatto un sogno brutto brutto ho sognato che mi hanno rubato la bara e penso e sì perché dovete sapere lo ricordiamo a casa che Everardo ha già la sua bara cioè che è antica 700 piemontese un 700 piemontese brutto ha detto la fidanzata di Pioti non ci capisce nulla no eh diciamo di certe cose e ti hanno te l'hanno rubata questa notte e penso che sia stato un furto sul commissione magari di qualcuno qua dello studio dell'erudità per te ah ma andai no fammi fare un giro va fammi fare un giro il tuo ragazzo scelgo fammi fare un giro qua sul cornello sarà stato Santucci Santucci buonasera è stata lei no non ho queste ambizioni ancora però Amadeus non ho capito una cosa di Cristina non hai capito una cosa di Cristina ho detto che fai i mobili o vendi i mobili te vendo e li faccio ah li fai cavolo io cercherei una tipa come te ti spiego perché ad Amadeus cioè non per scusa sa rabbia quella è terribile e siccome che io ad Amadeus tu non lo puoi sapere gli ho fatto un'idea sulla sua cassa sulla sua barra ma che cosa ma non lo voglio ma non lo voglio ma come una consulenza ti spiego è l'impero è una cassa che non è più in produzione una barra che non è più in produzione c'ha le colonne quelle romane di una volta e io penserei che il fracchè tu sai benissimo che il legno è il fracchè è un legno per chi non lo sa è un legno esotico assomiglia al miele ha delle venature nere cioè penserei a Amadeus che tu lì dentro quando arriverà il tuo giorno hai la tua bella figura col fracchè puoi fare un cassa è un legno che per una persona ma io ho detto un giorno no certo certo è il fracchè va bene intanto ci siamo a portare avanti va bene va bene ok è un'ottima scelta è un'ottima scelta hai scelto bene ma non che ci mettere pure tu che hai scelto bene tu hai bisogno una pensata basta prima domanda no 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 mi rifiuto di leggere questa domanda mi rifiuto come muore un gelato e non si può come muore un gelato che viene annegato nel caffè non si è al bar cosa gli chiedi mi dia un un affogato un affogà ma che gli importa a lui come muoiono è basta che muoiono è verardo ma dunci mi corre l'occhio di fare una precisazione perché a volte i casi del destino sono incredibili pensate noi facciamo le domande giorni e giorni prima e non sappiamo a chi capita una domanda quindi questa domanda che si è capitata è veramente una probabilità assolutamente bassissima eppure è capitato però quello che lei mi sta dicendo non è che mi tranquillizza quello e verardo ti vede un po' pallido un errore per te ecco signor Carlo è peggio della maratona mamma mia se i napoletani vogliono dire ora o adesso quale termine dialettale usano mo 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 bravo Maria Grazia attenta che è un errore quale tipo di munizione per arma da fuoco divisa a metà indica una persona che vale poco sei mezza tacca no mezza cartuccia ai 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 Maria Grazia doppio errore a rischio di eliminazione io non l'ho mai fatto Maria Grazia e non lo posso fare ti posso chiedere una coltesia punti il dito contro di lui sto scherzando guardati intorno e punta il dito contro Lorenzo perché mi sta di fronte Lorenzo vediamo vediamo Lorenzo allora Lorenzo tu sai che ci sono tre sfere l'A la B o la C con quale delle tre vuoi tentare la sorte proviamo con l'A bene vediamo questo duello tra Maria Grazia e Lorenzo vediamo se va bene per Maria Grazia o se va bene per Lorenzo a causa dei grossi debiti accumulati che cosa fu condannato a fare il commediografo Plauto a spingere una macina a trascinare un aratro o a riscuotere le tasse l'auto l'abbiamo anche studiato al liceo però non ricordo questo particolare proviamo con spingere una macina spingere una macina allora Plauto era un attore girovago investì ciò che aveva in rischiose operazioni commerciali perse tutto poi pensate che nel tempo cominciò a scrivere delle commedie che gli procurarono questa fama di massimo commediografo latino e tra Lorenzo e Maria Grazia il primo concorrente ad essere eliminato è Maria Grazia perché spingere una macina è la risposta esatta bravo Lorenzo perché non era facilissima Maria Grazia consegna a Lorenzo la tua parte di eredità la sua parte di eredità e quindi Lorenzo a 100.000 euro Lorenzo da Padova continua a giocare Maria Grazia ti consegno il videogioco che occupa poco spazio già la scatola ne occupava di più è stata in 30 metri quadrati mi dispiace un grande bocca al lupo due cuori e una capanna grazie ragazzi ahimè sei stata eliminata ciao Maria Grazia ciao Diego Cristina Lì Matteo qui parto da Cristina con il vero o falso e attenzione Cristina ti chiedo i cibi i cibi congelati crudi prima di essere ricongelati devono essere cotti vero o falso vero brava infatti non si scongela un cibo ne si mangia un po' e poi lo si ricongela assolutamente no brava Cristina risposta esatta Matteo pensa che le sorelle di Ilari Blasi si chiamano Misery e Tiffany in omaggio a due noti film che erano amati dai genitori vero o falso falso bravo si chiamano Silvia e Mallory bravo bravo maura un pallone da calcio un pallone da calcio prima dell'inizio della gara deve pesare non più di 400 grammi vero o falso vero no falso anche un po' di più 450 grammi ahi maura un errore eccolo segnalato non l'ho usato mai Lorenzo lo stato federato dell'unione indiana del Kashmir ha due capitali una è una capitale invernale e l'altra è una capitale estiva vero o falso proviamo col vero bravo perché una sorge a 1600 metri di quota ed è Snigar e l'altra è Giammu che sorge a 300 metri a sud e ha un clima migliore e praticamente hanno queste due capitali bravo Lorenzo risposta esatta Everardo San Cono San Cono come il gelato di prima San Cono molto venerato in Sicilia è il santo patrono di Naso vero o falso falso e invece è vero perché San Cono che è nato a Naso in provincia di Messina è un santo molto venerato in Sicilia e santo patrono di questa località un errore per Everardo eccolo l'ho segnalato Carlo secondo una ricerca inglese i giapponesi sono il popolo più geloso al mondo vero o falso falso bravo anzi tra gli ultimi popoli insomma la gelosia in Giappone in realtà non esiste il popolo più geloso pare che sia quello dei brasiliani al secondo posto gli svedesi strano ma vero gli svedesi e anche noi italiani non siamo messi male bravo Carlo risposta esatta Cristina il comune di Perugia risarcirà un'automobilista per lo stress subito da una contravvenzione ingiusta vero o falso vero brava la corte di Cassazione ha condannato il comune di Perugia a risarcire con 100 euro credo un'automobilista umbro per lo stress dovuto alla illegittima contestazione l'hai sentita vero perfetto brava Cristina Matteo Cleopatra era regina d'Egitto negli stessi anni in cui Gesù predicava in Palestina vero o falso? falso bravo falso Cleopatra morì oltre 50 anni prima che Gesù iniziasse a predicare in giro per la Palestina bravo Matteo risposta esatta attenta Maura prima di Simona Ventura fu Raffaella Carrà l'unica donna ad aver presentato il festival di Sanremo vero o falso? falso brava molte donne la Carrà la Fenec la Carlucci Loretta Goggi insomma tante tante donne brava Maura risposta esatta Lorenzo i coccodrilli non possono fare la linguaccia perché hanno la lingua saldata al pavimento della bocca vero o falso? falso e invece è vero e invece è vero eeeh niente non lo sapevo Lorenzo mi dispiace un errore per te ecco l'ho segnalato attenta Everardo che è già un errore nell'antichità i guerrieri greci andavano in battaglia con spada scudo e mitra vero o falso? falso è invece vero non la mitra questa era una fascia in tessuto eeeh quelli che servivano ad avvolgere diciamo i i guerrieri per difendersi ahi Everardo doppio errore il nostro campione attenzione guardati intorno e punta chi non lo guardate? nessuno lo guarda e punta e punta il dito contro Maura Maura attenzione Maura accompagnata dal pubblico si hai visto? duello quindi tra Everardo e Maura 50 e 50 quindi insomma 100.000 euro chi continuerà a giocare A B o C? B B Ancora sport e ciclismo chi è stato l'unico italiano capace di vincere due campionati mondiali di ciclismo consecutivi? Fausto Coppi Francesco Moser Gianni Bugno questa impresa è riuscita su strada no su pista vicecapiato mondiali di ciclismo consecutivi su strada su strada Fausto Coppi Fausto Coppi vediamo tra Maura ed Everardo il prossimo concorrente ad essere eliminato è Maura perché Gianni Bugno Gianni Bugno hai Maura consegni la tua parte di eredità Everardo che continua a giocare 100.000 euro per lui so che prima di salutare Maura c'è l'elenco dei saluti assolutamente prego Maura saluto Silvia Ludovica e Guglielmo Andrea Bianca Lucrezia Jacopo Sofia Vittorio e Leonardo arriverà è già una bella impresa proprio i nomi ricordarsi perfettamente brava Maura un bacio a tutti quanti a tutti ahimè sei stata eliminata ciao Maura attenzione tocca a Lorenzo siete in 5 è il momento della patata bollente prima però Elena grazie a tutti grazie a tutti Mi sento tondo la rosa, mi vuole più che danza, no, su grappoli di nuvole. Grazie Elena, grazie Elena, grazie, grazie. Attenzione Lorenzo, tre opzioni di risposta che sono le seguenti per la patata bollente, ovvero una vasca da bagno, una zattera di bottiglie e un maggiolino. Io la passo. A chi? A Carlo. A Carlo. Ok Carlo, nel 63 due bolognesi compirono un'impresa eroica attraversando lo stretto di Messina a bordo di... Tempo. Un maggiolino. Un maggiolino, attenzione perché avete pochi secondi eh. Un maggiolino ed è la risposta esalta, bravo Carlo. Bravo, bravo, l'errore va a Lorenzo, ecco l'ho segnalato. Everardo, vorace, svogliata, irrequieta. La passo. A chi? A Lorenzo. A Lorenzo, che se commette il secondo errore è già a rischio di eliminazione. Attenzione Lorenzo. Giovanna, vieni che non voglio parlare e dire delle cose a pronunciarle male. perché se... Se a Napoli, se a Napoli una madre dice... Sta creaturden l'artetaca. Vedi? Sta com'è che si dice? Sta creaturden l'artetaca. Ecco, se dice così una madre napoletana, cosa vuol dire che sua figlia è? Mia nonna me lo diceva. Ecco. Irrequieta. Irrequieta. Vorace, svogliata, irrequieta. Eh, la nonna c'era ragione. Arthetaca, irrequieta è la risposta esatta. Bravo Lorenzo. Grazie, è artetaca. Grazie. E Verardo, mi dispiace, un errore per te. Ed ecco, l'ho segnalato. Carlo. Quattro, otto, dieci. La tengo. Lo scorso gennaio ho trovato 50.000 lire. Quanti anni mi restano per poterle convertire in euro? Tempo? Cosa avresti detto? Otto. Otto. Peccato, perché avresti detto bene. Proprio otto. Carlo, un errore per te. Eccolo, eccolo, l'ho segnalato. Cristina. Canarino. Pare, sì, passerotto, 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 fringuello. La passo. La passi a chi? A Lorenzo. A Lorenzo. Lorenzo, attenzione. Cosa fa un cane sulle strisce pedonali? Attraversa la strada. Come è detto questo tipo di indovinello? Passerotto. Passerotto. E che indovinello è? Cosa fa un cane sulle strisce pedonali attraverso la strada? Viene chiamato uno scherzoso indovinello che sembra porre un quesito difficile, ma in realtà la risposta è banale e la palissiana. E viene detto passerotto. Passerotto. Bravo, Lorenzo. Sposta esatto. L'errore per Cristina. Eccolo, segnalato. Lorenzo, vogliono eliminarti ma non ce lo fanno. Fa duro a morire. È dura, è dura. Dura a morire, non lo devi dire. Non lo devi dire, dura a morire con Everardo vicino. Matteo, la storta, la rustica, la monaca. La passo a Everardo. La passo a Everardo. Ecco la Everardo. Quale di queste non è una località che fa parte del comune di Roma? La rustica. La rustica. Ai ai ai. Non è la monaca. Anche se c'è Torbella monaca, ma è la monaca che non c'è. Everardo, doppio errore, la rischia di eliminazione. Sempre tu adesso devi puntare il dito. Contro? Cristina. Cristina. Ma come, prima cerchi collaborazione e poi la vuoi eliminare. Se devo fare il funerale te lo faccio io. Ma mia! Cristina. Mi tocca. Che ci devo fare? Scegliela più facile, ti prego. Perché con la spiga che c'ho. Pure tu con la spiga che c'hai, è vero. Facciamo A. A. Quale politico appare nel film così lontano, così vicino, diretto dal tedesco, Wim Wenders. Mikhail Gorbachev, Ronald Reagan, Helmut Kohl. Gorbachev. Eh? Gorbachev. Gorbachev. tra Cristina e Everardo, il prossimo concorrente ad essere eliminato. Tu dici che sei sfigata? La sfortuna è finita. perché Everardo a essere eliminata. Incredibile. Gorbachev è la risposta esatta. Vedi Cristina, che la sfortuna finisce. Ti prendi l'eredità di Everardo, 150.000 euro e continui a giocare. Everardo. Sono qua. Hai qualcosa da chiedermi? No. Diciamo che... Sì, sì. Magari... Oh. Prima o poi ci si rivede, eh. Ciao, Everardo. Ciao. Grazie, state eliminate. Ciao. 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 Grazie, simpatico Everardo. Devo dire, molto simpatico. Lorenzo, lì, Matteo da questa parte, da questa parte. E un saluto naturalmente anche alla fidanzata. Coppia molto simpatica. Attenzione. Parto da Carlo adesso. Sicuramente questa sera abbiamo e avremo un nuovo campione, una nuova campionessa. Ed è il momento. Lei o l'altro. Via. Carlo. Cos'era Galatea di cui Pigmalione si sarebbe perdutamente innamorato, secondo una leggenda? Una stella o l'altro? Una stella. Una stella. L'altra una statua. Pigmalione era un famoso scultore che aveva scolpito questa statua d'avorio, la figurante di Afrodite, della quale poi si innamorò perdutamente. Un errore per Carlo ed ecco, l'ho segnalato. Cristina, a Ravenna la leggenda vuole che la donna che bacia la statua del capitano Guidarello Guidarelli si sposa entro l'anno o l'altra? Questa. Questa. L'altro è Resta Zitella. Allora, Guidarello Guidarelli era un capitano al servizio di Cesare Borgia, fu ucciso a tradimento da un altro capitano. Nell'Ottocento si diffuse la credenza che chi avesse baciato la statua del capitano si sarebbe sposata entro l'anno e da allora pare che sia stata baciata da, credo, 5 milioni di persone. Bene. Pensa, e vedi, Parisotto, bisogna mettere in giro sta voce. Chi ti bacia si sposa entro l'anno, vedrai che a quel punto... Cristina, brava, no, no, risposta esalta, no. Matteo, Frank Sinatra. Frank Sinatra all'anagrafe non era registrato solo come Francis, ma anche con un altro nome, mi si dire, quale? Vincent o l'altro? L'altro. L'altro. Albert Frank Sinatra e Francis Albert Sinatra. Risposta esatta, bravo Matteo. Lorenzo. Qual è lo sport nazionale del Bhutan, stato dal territorio montuoso, confinante con India e Tibet? Lo sport nazionale è il tiro con l'arco o l'altro? Ottengo. Tiro con l'arco. Lo l'arco. L'altro è nascondino, no, ed è tiro con l'arco. Tra l'altro riservato esclusivamente agli uomini. Bravo Lorenzo, risposta esatta. Attento Carlo che hai un errore. Cantava Gianni Meccia nel 1961. Il pullover che mi hai dato tu, sai mia cara, possiede una virtù. Quale? Il profumo che avevi tu o l'altro? L'altro. L'altro. Il calore che tu davi a me. Sentiamo. Il pullover che mi hai dato tu, sai mia cara, possiede una virtù. Hai il calore che tu davi a me, io e il milluro di stare in braccio a te. Pam, pam, pam. Bravo Carlo. Cristina. Che cosa inventò nel 1905 il figlio di un assaggiatore di caffè di Brema? Il decaffeinato o l'altro? L'altro. Ai, 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 dopo il gong. L'altro cos'è? Il tè in bustine. Comunque avresti sbagliato perché era il decaffeinato. Un errore Cristina, eccolo. Matteo, quante pubblicità presentava ogni sera Carosello ai suoi esordi? Tu sei giovane, non te lo ricordi. Noi andavamo a letto dopo Carosello. Quattro pubblicità o l'altra? L'altra. L'altra. Dieci. No, erano quattro pubblicità, però ogni pubblicità durava molto, eh, o più di due minuti. Era un piccolo film quasi, insomma, e quindi a volte anche cinque pubblicità, ma insomma mai dieci. Matteo, un errore per te ed ecco l'ho segnalato. Lorenzo, come si chiama l'ottava sonata per pianoforte di Beethoven? Patetica o l'altra? Patetica. Patetica. L'altra è stonata e invece è patetica che sta per passione, non per una cosa, poveraccia. Bravo, Lorenzo. Carlo. Come si chiama il bambolotto paffutello inventato da Gervasio Chiari nel 62? Cicciobello o l'altro? Cicciobello. Cicciobello. L'altra è parisotto. Eh, vedete, se ci fosse parisotto nei negozi giocattoli Cicciobello avrebbe paura, perché tutti andrebbero a struccare il parisotto, invece Cicciobello. Bravo Carlo. Cristina. Il 7 febbraio scorso, 100 uomini hanno manifestato a New York per ottenere il diritto di indossare la gonna o l'altra? L'altra. L'altra. Portare i tacchi alti. Eh, ecco perché è andato a New York lui. Che ci sei andato a fare parisotto a New York? E mi ha detto, devo andare a New York in 3-4 giorni. E io dicevo, ma chissà parisotto che ci va a fare a New York. Allora, uomini di diverse età, è vero, taglia e provenienza, di cui un italiano, hanno manifestato a Times Square il diritto di indossare, anche per una questione estetica, sottolineando che un'Europa, sino alla prima della rivoluzione francese, questo era permesso, la gonna. La gonna, 100 uomini vogliono indossare la gonna. Cristina, non si capisce più niente questo mondo. Le donne sono sempre i pantaloni, gli uomini vogliono andare in gioco la gonna. Eh, che salato. Non si capisce più niente. Non si capisce più niente. Cristina, doppio errore a rischio di eliminazione. Tre uomini. Carlo, tu nessuno in gonna, eh? Punta il dito contro... Carlo. 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 Carlo, vediamo che succede. A, B o C. A. A. Ecco le sfere. Scelta la A, via la B e la C. Nel moderno dizionario latino pubblicato dal Vaticano. Che cosa è chiamato? Telecomando, ex longinquo direzio. Il telecomando, il grattacielo o la freccia direzionale. C'è il moderno dizionario latino. Il telecomando non può esistere, il grattacielo non può esistere. Freccia direzionale. Freccia direzionale. Vediamo. Tra Carlo e Cristina, il prossimo concorrente ad essere eliminato... È Carlo! Perché la risposta esatta è telecomando. Cristina! È un miracolo sta succedendo. È un miracolo questo. A te va la parte d'età di Carlo. Sali a 200.000 euro e continui a giocare. Ecco 200.000 euro per Cristina. Mi dispiace Carlo. Grazie a te. Grazie a voi. Sei stato eliminato. Ciao Carlo! Cristina è lì al posto di Carlo. Voi rimanete lì. Attenzione a non prendere la scossa. Giovanna! Eccoci, eccoci. Buonasera Giovanna. Buonasera. Allora, che scossa facciamo questa sera? Prima della scossa per i concorrenti? Una veloce veloce. Oh, oh. Oh, oh. Perfetto. Però aspetta, aspetta. Devo fare gli auguri alla signora Donatella di Milano. Auguri. Baci baci. Perfetto. Auguri naturalmente. E adesso... Scossa! 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 La vita tan bella Mi chama Pra danza Pra samba Saúde A paz Pro mundo E vai! Grazie! Baci baci! Grazie, grazie Giovanna! Baci baci baci! Attenzione a casa questa scossa, eh! Non prendetela! E soprattutto Cristina, Lorenza e Matteo. L'undici febbraio scorso. Un tale Luke Trezoglavic, ma insomma, è un signore, non ha importanza il tanto il nome. Prima di liberare la sua gamba, ha dovuto guidare la propria automobile attaccato a... Pfff! Poi vi racconto ovviamente la storia, però più di questo non vi possiamo dire. Diciamo che lui ha dovuto guidare l'automobile con qualcosa attaccato alla sua gamba. Che era una lastra di ghiaccio, una rete da calcio, uno squalo, un blocco di cemento, la fidanzata... Poi l'hanno liberato però, eh! Un pezzo di parquet, una trappola per topi, la pattumiera, un pitone o una pinna da sub. C'è una storia ovviamente legata a questo strano e curioso aneddoto. Cristina, non è... Una lastra di ghiaccio. Una lastra di ghiaccio, tu dici magari si può anche sciogliere, quindi insomma, anche se avesse la gamba in una lastra di ghiaccio. Scossa! Brava Cristina, infatti non è una lastra di ghiaccio. Matteo, non è... Un blocco di cemento. Un blocco di cemento. Però magari lavorando ha messo il piede, no? Ma hai tirato fuori prima che diventasse duro. Prima che diventasse duro, brava, giusta osservazione, bravo. Matteo, scossa. Infatti, benissimo, non è... Non è una rete da calcio. Una rete da calcio. Uno si può anche organizzare da solo per togliere una rete, insomma, se il piede finisce in una rete da calcio. Scossa, infatti, Lorenzo. Bravo, Cristina. La fidanzata. La fidanzata. La fidanzata attaccata alla gamba, è lui che guidava con la fidanzata attaccata alla gamba. È un po' troppo violenta questa fidanzata. Non ti voglio più, no, io la fidanzata. Non mi lasciare, non mi lasciare. Scossa. Bravo, non ero la fidanzata. Matteo. Io direi uno squalo. Uno squalo. A meno che non aveva una station wagon. A meno che non aveva una station wagon. Scossa. E' questo il motivo. Questo ragazzo, questo Luke, era in acqua vicino a Sydney, in Australia. A un certo punto, uno squaletto di 60 centimetri, che però fa la sua bella figura, gli ha zannato una gamba. Lui è uscito, ma lo squalo non si staccava dalla gamba. Allora, lui che ha fatto? Ha preso, con tanto di squalo attaccato alla gamba, si è messo in macchina ed è andato in un centro, un club di bagnini, che era lì poco vicino. E il club di bagnini poi sono riusciti a liberarlo, se l'è cavata con una serie di punti di sutura, degli antibiotici, però ha avuto il sangue freddo, come dire, di prendersi lo squalo di 60 centimetri attaccato dal polpaccio e di guidare la macchina fino al posto, diciamo, di soccorso. Ahimè, Matteo, hai preso la scossa. Lorenzo, Cristina. Cristina. Eeeh! A, B o C, Cristina? Ma tentiamo sempre con l'A. Sempre con l'A che ti ha portato bene. Vediamo. Il comune di Arborio, in provincia di Vercelli, è noto per aver dato il nome a quale prodotto? Grappa. Mortadella. Riso. Il riso. Il riso. E tra Cristina e Matteo, il prossimo concorrente ad essere eliminato è Matteo, perché il riso è la risposta esatta. Cristina, ma la sfortuna non c'è più! Ma speriamo che sia un inizio buono. Ti prendi la parte di eredità di Matteo, 250.000 euro per Cristina. Ovviamente continua la sua avventura all'interno dell'eredità. Grazie, Matteo, per essere stato con noi. Saluto tutti quelli che mi conoscono, in special modo i miei colleghi di Radio Planeta Milano. Benissimo. Ciao, Matteo, sei stato eliminato. Ciao, ciao. Ciao, ciao. E tra poco, una nuova, ultima sfida. Troppo chissima, grazie. Ciao, Giovanna. Lo sai che ho una star da farti conoscere? Una star? Sono curiosissima, arrivo. Ciao, Ama. Oh, ciao, Giovanna. Ah, scommetto che lei è la star. Sei a Tibiza. Eh, proprio così. Con Sei a Tibiza guidare è un vero piacere. Ma guarda che linea, che design giovane, dinamica, curata nei particolari. Come se non lo sapessi. Sai, mi piace perché elegante, ma con una forte personalità. Hai ragione, infatti. La gamma Ibiza è dotata di motori tecnologici, benzina e diesel, che offrono grandi prestazioni. Certo che Sei a Tibiza è bella fuori, ma anche dentro uno scherza. È bella. E negli interni è soprattutto comoda. Anzi, su Sei a Tibiza la comodità del climatizzatore e la sicurezza dell'ABS e del doppio airbag. Sono di serie. Insomma, tutto compreso nel prezzo. In più, grazie ad un'iniziativa dei concessionari Seat, oggi su tutta la gamma Ibiza c'è un finanziamento a tasso zero in 36 mesi fino a 11.000 euro. Allora, vogliamo andare a farci un giro di piacere? Ah, certo. Devo dire con grande piacere, il piacere di guidare una Seat Ibiza. Andiamo. Anche i capelli hanno sete, allora bevono. Bevono latte vegetale. Garnier Ultradolce crea il nuovo shampoo idratante al latte vegetale. Per una morbidezza irresistibile, senza appesantire. Garnier Ultradolce, shampoo e balsamo al latte vegetale idratante. Garnier. Con Riso Scotti, la salute mangiando. E dai suoi chicchi di riso, nasce Kikolat. Riso da bere. Kikolat. 100% vegetale. Senza lattosio. Senza glutine. Senza colesterolo. Kikolat. Per una prima colazione buona e sana. Come fresca bevanda o per preparare saporiti dolci. Kikolat. Riso da bere. Grazie, dottor Scotti. Felicità. Alba, basta. Stasera a letto senza telefonino. Ehi. Io vado al mercato. Tocca a te a pulire. Ehi. Non hai una ricetta per pulire tutto questo? Sì. Nuovo Mastrolindo sgrassatore a aranciattivo. Uno spray. È il mio potere sgrassante con estratti di scorza d'arancia e addio grasso ostinato. Facile. Ehi ragazzo, un mago sei. Mastrolindo sgrassatore contro un grasso fa furore. La magia ha il suo potere. Anche Mastrolindo è tra le stelle del pulito. Qualità ad un prezzo irripetibile. Da prendere al volo. Dall'amore per la tradizione, le lasagne emiliane barilla. Per gustare tutta la passione delle vere emiliane. Lasagne emiliane barilla. Ci senti la passione. Mamma? No, mamma. No, mamma. Mamma. Ui. Ui. Regina carta camomilla. La nuova carta igienica con quattro soffici veli e una profumata essenza di camomilla. Quattro volte soffice. Actimel, con più di un miliardo di fermenti e le case immunitas, aiuta a rinforzare le difese naturali. Noi di Danone ne siamo convinti. Bevi una bottiglietta ogni mattina. Actimel, rinforza. Siamo i primi a crederlo. Davvero. Actimel, il tuo rinforzo ogni mattina. La grande festa Vodafone continua. Fino a 31 marzo, puoi avere tutti i cellulari Vodafone a 30 euro in meno. Vodafone, tutto intorno a te. Così fresca e invitante. Lì. Certosa Galbani da oggi è ancora più buona e ancora più cremosa. Semplicemente irresistibile. Certosa Galbani, tutto il gusto del benessere. la grande festa Vodafone è ancora più buona. E' un attacco all'Europa, la terribile strage di Madrid cambia il mondo, cambia la nostra vita, l'11 settembre dell'Europa, il giorno dopo, edizione speciale Ballarò questa sera alle 21 su Rai 3. E' un attacco all'Europa. E' un attacco di sensibilizzazione raccolta fondi per aiutare la ricerca per i trapianti. Nel 2004 ricorre il cinquantesimo anniversario del primo trapianto d'organo coronato da successo e da allora pensate che quasi 800.000 persone hanno ricevuto un trapianto e hanno continuato a vivere invece di morire o di dipendere da una macchina. Quindi fai viaggiare la ricerca una tre giorni ferroviaria per aiutare la ricerca sui trapianti. Avevo piacere di comunicarvi questo. Attenzione, Lorenzo, attenzione Cristina, Lorenzo Padva, Cristina Torino. Iniziamo da Lorenzo che è la parte minore di eredità. Pronto Lorenzo? Pronto. 3, 2, 1, via. Prima domanda. Vediamo chi arriva prima 5 e chi è il nuovo campione o la nuova campionessa. Ti chiedo Lorenzo, quale città un tempo, Repubblica Marinara, si trova in provincia di Salerno? Amalfi. Amalfi, esatto. 1 a 0. Cristina, come viene chiamata comunemente la cute del corpo umano? Pelle. Ed è la pelle, certo. 1 a 2. Lorenzo. Con quali organi di respirazione i pesci assorbono ossigeno ed espellano l'anidride carbonica? Con le branchie. Con le branchie, perfetto. 2 a 1. Cristina. Di che colore sono le strisce che delimitano sull'asfalto i parcheggi a pagamento? Blu. Blu, perfetto. 2 pari. Lorenzo. Il principe Alberto di Monaco ha due sorelle. Una si chiama Stefania e l'altra? Carolina. Carolina. Torniamo a Cristina. In che paese, in piena rivoluzione nel 1789, venne proclamata la dichiarazione dei diritti dell'uomo? Francia. In Francia, certo, durante la rivoluzione francese. Torniamo a Lorenzo. 3 a 2 il punteggio a favore di Cristina. Cosa si augura in Gran Bretagna dicendo Happy Easter? Pasqua. Bravo, buona Pasqua. Perfetto, 3 pari. Cristina. In quale regione italiana si trova la Barbagia? In Sardegna. Brava, in Sardegna. 4 a 3. Lorenzo. Ti chiedo, con quale nome è conosciuta la patologia che rende opaco il cristallino dell'occhio? Cataratta. Bravo, la cataratta. 4 pari. Attenta Cristina, puoi diventare la nuova campionessa. Nella Divina Commedia in quale delle tre cantiche Dante si imbatte in dieci bolge? L'inferno. Ed è la risposta esatta. È Cristina. È Cristina, è la nuova campionessa. Brava Cristina. Bravo Lorenzo. Accomadi nella sfera, pronto a gufare. Sì. E con Cristina si va all'eredità. Via. Vieni Cristina. Grazie, grazie Giulia. Grazie Giannina. È Cristina, nuova campionessa da Torino. 250 mila euro, Cristina. Dice, sono, ha iniziato la puntata e dice, sono sfortunata nel gioco, in amore, vado a vedere la partita, segnano quando sono girata, come paperino. Come paperino. Con tutte le sfortune del mondo. E invece, questa sera sei campionessa. Vuoi vedere che gira la cosa? Eh. Oh, facciamola girare bene. Facciamola girare, dai. Collo luminoso, Cristina, intanto. Sette domande, ovviamente ti auguro di rispondere a tutte e sette in maniera esatta. Vediamo quello che accade. Partiamo subito. La prima domanda, ovviamente, con la doppia risposta, così per le prime cinque. Eccola. Domanda numero uno. Quale costellazione veniva raffigurata dagli arabi come un mulo con due barili d'acqua? Bilancia, pesci, gemelli, capricorno, acquario. Un mulo con due barili d'acqua. Dagli arabi. Beh, io dico bilancia. Bilancia. Prima risposta, no. No. Era troppo banale. Acquario. Acquario, la controlliamo dopo. Domanda numero due. Eccola. Tra le regioni italiane bagnate dal mare, quale ha il minor numero di chilometri di costa? La Basilicata, il Molise, Friuli, Venezia e Giulia. Veneto, Abruzzo. Il Veneto non penso proprio. Penso che sia abbastanza esteso. L'Abruzzo anche. Friuli non lo conosco tanto bene. Azzardo col Molise. Molise. E' la tua prima risposta. Ed è la risposta esatta. Infatti. Domanda numero tre, Cristina. Eccola. Che cosa fa lo struzzo per avvertire i suoi compagni che non ci sono pericoli in agguato? Che non ci sono pericoli. Sbadiglia. Tossisce. Sputa in aria. Starnutisce. Strizza l'occhio. Strano, eh? Eh, sì. Lo struzzo di rango più elevato del gruppo Polo Struzzo Capo fa una di queste cose e permette quindi a tutti gli altri di stare tranquilli, rilassati e dice, va, non ci sono pericoli. Tossisce. Tossisce. Prima risposta questa. No. No. Sputa in aria. Sputa in aria. E poi lo verifichiamo. Domanda numero quattro. Per ottenere una frittata soffice e gonfia, cosa si può aggiungere alle uova prima di sbatterle? Due pugni di farina. Un pizzico di zucchero. Una bustina d'amido. Due cucchiai di latte. O una punta di cannella. Direi due cucchiai di latte. Diresti due cucchiai di latte. Cucini? Ma un po' qualcosa faccio. La mamma? Sì, lei è quella che è proprio a sé. È brava. È alle tue spalle la signora Angela, vero? Angela. Buonasera Angela. Buonasera. Buonasera. Ma insomma è sfortunata questa ragazza? Eh, un po'. Eh? Un po'. Un po'. Sì, sì. Un pochino. Questa sera lo è di meno. Stasera lo è di meno. Lo è stasera lo è di meno. E frittata, cioè per fare la frittata, due cucchiai di latte è la risposta esatta. Brava Cristina. Eh, l'ultima domanda con la doppia risposta, la numero cinque, eh. Leggiamola. Di cosa è fatta la gamba artificiale del capitano Aqab, che è lo spietato cacciatore che odia Moby Dick? Legno di un timone. Osso di balena. Ferro di una fiocina. Una vecchia ancora. O carapace di tartaruga. Ferro di una fiocina. Ferro di una fiocina. No, non aveva la gamba. Anche perché poi per camminare si piantava. Legno di un timone. Legno di un timone. Anche questa la controlliamo dopo. Attenzione, domanda numero sei. La prima con risposta secca, eh. Poi avrai la sette. Leggiamola. Un pocherista che punta il doppio della posta senza aver visto le proprie carte. Si dice che apre senza mani, con la chiave, in camicia, al buio, scalzo. Al buio. Al buio. La controlliamo dopo. Questa andava bene per mia madre. Eh? È una canita giocatrice. È una canita giocatrice, quindi... Infatti lei sorride. Bon segno, bon segno. Numero sette. L'ultima. Quale paese non ha mai partecipato alla manifestazione sportiva Giochi del Mediterraneo? Francia, Libano, Portogallo, Egitto oppure Italia. Giochi del Mediterraneo. Giochi del Mediterraneo. Il Libano. Il Libano. E anche questa la controlliamo dopo. Vi ricordo che se volete giocare all'eredità con il cellulare è molto semplice, ve lo ricordo, 48401, inviare un messaggio con la lettera E di eredità. Sette domande, sette risposte. Ne dobbiamo controllare cinque. Tutto questo tra poco, quando prima andremo a giocare dopo i titoli del nostro pregiornale. Buonasera, fra poco il Tg1 delle 20. Centinaia di migliaia di persone in piazza a Madrid per dire no al terrorismo, solidarietà alle vittime, insieme ad Asnar, alla manifestazione anche Berlusconi e Prodi, fra gli altri, sono saliti a 199, intanto i morti degli attentati di ieri. L'ultima a non farcela è stata una bambina di pochi mesi. Andremo in diretta a Madrid con i nostri inviati, ancora incerta la matrice degli attentati. C'è preoccupazione ma non allarme, dice il ministro Pisano al Tg1. E poi le condizioni di Bossi, le novità sul processo per la strage di Piazza Fontana e quelle sull'inchiesta Parmalat. Ospiti poi in studio l'attrice Penelope Cruz, spagnola, e Sergio Castellitto, che parlano del film Non ti muovere. A fra poco. La signora Gruber ha visto la donna affogata, vale a dire la donna sfigurata dal coccodrillo, uscire dall'acqua viva e vegeta. Ma che fai? Non fare stupidaggini. E il suo amico Serge Batzec è stato assassinato. Cosa? Sua sorella, prima della sua morte, ha prelevato una notevole somma di denaro. Lei era ricattata da Serge. Perché? Il commissario Rex. I nuovi episodi. Questa sera alle 21 su Rai 1. Allora tu, volete dire come hai fatto la bella? Ve l'ho già detto! A quelle condizioni! Impossibilissimo! Impossibile ma vero. Da Expert, lavatrice Bosch da 6 kg in classe a più, a meno di 11 euro al mese. Expert, gli esperti, siamo noi. Ogni mattina, riscopri il piacere della genuinità. Fette biscottate e mulino bianco. Mangia sano e vivi meglio. Mmm, che polpa! Yuhu! Polpa di pomodoro mutti. Mai vista una polpa così. E per merenda, zio Diego, vi prepara una torta magica che si fa da sola con i migliori ingredienti. Farina, uova, cioccolato. Luchino, svegliati! Questa magia l'ha fatta Buitoni ed è tutta qui dentro. Apri, versa e inforna. Che profumino! Mmm! E adesso, fatela sparire! Sì! Torte Buitoni, tre gesti, una magia. No, ma non ci fai la magia del limone. Sì. Caccia aperta al testimonial! Info strada, cerca il testimonial per la sensazionale offerta Happy Night! Happy Night, chiami gratis da casa in tutta Italia dalle otto di sera alle otto del mattino. Chiama in fuor strada al 159. Dante, te tu ci sa fare con la penna, eh? Anche se con la pasta. Fa pardella ragù di cinghiale. È la nuova ricetta di quattro salti in padella con la pasta fresca all'uovo. E l'è buona? Mmm! L'è proprio buona! Quattro salti in padella Findus, quelli buoni per davvero. In rettilineo, la maggior parte delle auto ha buone prestazioni. Ma il mondo non è una linea retta. Per questo Audi A4 ha la trazione 4. Sì, sono un salame. Casa Modena, però. se non hai la morbidezza che vuole la tradizione e non sei di un colore perfetto, non sei Casa Modena. Casa Modena. Salumi che parlano. Lo sento mio, mi fa sentire a mio agio. Amo il nero e sto molto attenta a come lo lavo. uso sempre Lip V-Lite Noir nel programma Delicati. Per un nero sempre nero usa sempre il programma Lip V-Lite. Fosse grigio, addio emozioni. Ama i tuoi capi con Lip V-Lite. Sveltesse presenta Delizie. C'è ancora più gusto a scoprire l'ombelico. Nuovo Sveltesse Delizie. Gusti ancora più golosi. Irresistibile stracciatella e squisita crostata al limone. Ma con pochissimi grassi. 100% piacere, 0% complessi. Scopri l'ombelico con Sveltesse Delizie da Nestlé. Eccoci, 250.000 euro. Mezzo miliardo circa delle vecchie lire per Cristina da Torino. Signor Angela, venga vicino Cristina, venga qui che dobbiamo verificare. Già ho fatto tutte e sette le domande a Cristina, mi ha dato due risposte esatte subito, cinque da controllare e lo facciamo insieme. Buonasera signora. Buonasera a lei, grazie, buonasera. Lì vicino Cristina, nella sfera, eh sì, c'è Lorenzo, che dobbiamo fare? È lì che sta gufando. Gufo. Gufa, gufa, Lorenzo da Padova. Andiamo a vedere subito la numero sette, l'ultima. Questa. Questa. Che temo. Dei giochi del Mediterraneo. Quale paese non ha mai partecipato alla manifestazione sportiva giochi del Mediterraneo? Francia, Libano, Portogallo, Egitto, Italia. Evidentemente perché uno di questi stati col Mediterraneo non c'è niente a che fare. La risposta esatta è il Portogallo. Il Portogallo. Lo sapevo. È il Portogallo che non è bagnato la Mediterraneo, sta dall'altra parte. dall'oceano, l'oceano atlantico. Un errore, attenta Cristina e attento Lorenzo. Andiamo alla numero sei. Quella del poker. Un pokerista che punta il doppio della posta senza aver visto le proprie carte si dice che apre e Cristina ha detto al buio mia mamma gioca a carte questa non la posso sbagliare e al buio infatti è la risposta esatta. Prima domanda La costellazione eccola quale costellazione veniva raffigurata dagli arabi come un mulo con due barili d'acqua bilancia pesci gemelli capricorno acquario prima risposta bilancia non esatta e poi mi ha detto acquario gli arabi poi la raffigurarono appunto come un mulo con due barili d'acqua e questo è l'acquario ed è la risposta esatta. Andiamo alla numero cinque da Moby Dick anzi dal capitano Aqab di cosa è fatta la gamba artificiale del capitano Aqab lo spietato cacciatore che odia Moby Dick Santucci in genere la gamba di legno uno pensa questi vecchi marinai capitano Aqab era una persona con un'ossessione il cacciatore che odia Moby Dick e quindi odia le balene si ma in realtà in particolare Moby Dick perché Moby Dick gli aveva appunto strappato questa gamba e lui aveva giurato di vendicarsi e per non dimenticarselo mai si fece la sua gamba di legno con l'osso di un'altra balena e quindi l'osso di balena era la risposta esatta. Mi dispiace due errori per Cristina preparati di Lorenzo andiamo a vedere la numero 3 eccola cosa fa lo struzzo per avvertire i suoi compagni che non ci sono pericoli in agguato prima ho detto tossisce e poi sputa in aria per avvertire che non ci sono pericoli e quindi tutti gli altri sono rilassati lo struzzo sai che fa? Svadiglia come per dire che noia non ci sono pericoli che noia e tutti gli altri struzzi sono tranquilli Cristina tre errori prego si accomodi signor Angelo dobbiamo lasciare da sola Cristina perché ora Lorenzo tenta il colpaccio vieni Lorenzo aiaiaiai la sfortuna allora perseguita Cristina ha detto sono sfortunata e infatti tre errori ma vediamo che succede Lorenzo sei pronto? Lorenzo da Padova, studente, domanda del colpaccio, riuscirà Lorenzo a portare via il titolo a Cristina? Dovrà rispondere in maniera esatta a questa domanda. A luglio, cosa ha aiutato i suricati dello zoo di Sydney a sopravvivere alle temperature di stagione? I suricati, Santucci possiamo dire quantomeno che sono degli animali? Sì, piccoli mammiferi. Questo lo possiamo dire, sono dei piccoli mammiferi, si chiamano suricati. Cubetti di ghiaccio, impermeabili, lampade termiche, piccoli ventilatori o borse d'acqua calda. Cosa ha aiutato questi animali dello zoo di Sydney a sopravvivere alle temperature di stagione? A luglio. A luglio, però siamo a Sydney, in Australia, quindi nell'emisfero opposto rispetto a quello nostro. Secondo me, io provo a dire borse d'acqua calda, anche se sembrerà un po' assurdo. Borse d'acqua calda. Allora, siamo nell'emisfero australe, quindi a luglio in Australia. Non è come da noi. Fa, non dico freddo freddo, ma insomma... No, non dovrebbe essere... Fa freddino. Fa freddino. Fa freddino. E siccome in questo, evidentemente, in questo zoo di Sydney, la temperatura si è abbassata molto rispetto alla media, hanno installato nelle gabbiette di questi animali, vediamo se delle borse d'acqua calda o altro, tra Cristina e Lorenzo. Cosa avresti detto, Cristina? A me so, c'ho un vuoto, ma sono troppo... Forse era lampade termiche. Eh? Sempre per scaldare, lampade termiche. Lampade termiche? Probabile, sì. E perché ti hai detto borse d'acqua calda, se adesso te mi dici lampade termiche? Eh, perché... No, la prima che ho pensato comunque di rispondere al contrario di quello che avrei pensato normalmente, però lampade termiche l'ho letto dopo e... Non capito, tu hai fatto un ragionamento giusto. Poi hai detto, rispondo al controllo di quello che... No, no, rispondo, cioè, contrariamente a quanto uno avrebbe risposto, perché a luglio, a Sydney, uno pensa che ci sarebbe stato caldo, invece io ho pensato al freddo, però ho letto dopo lampade termiche. Solo questo. Non capì niente, ma è se stesso. Lo stesso. È se stesso. Tra Cristina e Lorenzo, il campione o la campionessa di questa sera è Cristina, perché lampade termiche! Lampade termiche era la risposta esatta. Col paccio fallito, Lorenzo, complimenti, Cristina, invece, brava e fortunata! Vieni, vieni, Cristina, che torna ovviamente domani come campionessa, e insieme a Giulia e Giannina, a Tiguno, buona serata su Reuno, grazie, a domani! Tende da sole, tempo test. Parà, fin dalla notte dei tempi. A me piace cosa vi piace, non vi piace, guardate, non guardate la nostra televisione. Siamo stati a Cagliari. A me piacciono i documentari, i telegiornali, non mi piace la pubblicità. I film comici, le sitcom, o in TV, programmi di musica anche, o in varietà del sabato sera. La televisione per me deve far divertire e distrarmi da delle cose che non mi piacciono nella vita. Ciò che mi piace della televisione sono i reality show, anche se sono falsi. Credo che non tutto sia vero, però mi piaccia perché posso anch'io esprimere un giudizio su quella, su una determinata persona, oppure sul premio che vince. Penso che i reality show e le telenovelas ci disorientano e sono molto diseducativi. E certe volte ci impongono quasi con prepotenza certi programmi molto volgari. I giornali mi interessano e mi piacciono anche, perché sono notizie dal mondo, almeno si ha più cultura. Il telegiornale non mi piace perché dà solo brutte notizie, a volte, molte volte, dà brutte notizie. E quindi ho paura, penso sempre che potrebbe capitare anche a me. Non mi piacciono i dibattiti politici perché io resto indifferente alla politica. A me piace vedere tutto tramite un amore. Oggi, ragazzi, nelle nostre notizie vi parliamo del Darfur, che si trova in Sudan. in Africa. Ve ne parliamo perché da due anni qui si combatte una guerra civile. Migliaia di uomini, donne e bambine sono stati uccisi o costretti a fuggire. Però adesso le Nazioni Unite hanno condannato questi crimini. Questo è Mohamed, da 13 anni, ed è stato ferito ad una gamba. È una delle tante vittime della guerra che da due anni devasta il Darfur, una regione del Sudan, in Africa. Qui da mesi i ribelli locali combattono contro il governo, accusandolo di non favorire lo sviluppo dell'intera regione, peraltro arida e poverissima. E il governo per mesi ha lasciato che i gruppi di soldati arabi attaccassero i villaggi dei ribelli, uccidendo decine di migliaia di uomini, donne e bambini, e costringendo quasi due milioni di persone a lasciare le loro case. Le Nazioni Unite più volte hanno denunciato questa terribile catastrofe umanitaria. Per questo hanno istituito una commissione d'inchiesta, che ora, dopo quattro mesi, ha presentato il risultato delle proprie indagini. Ha indicato chiaramente i nomi dei responsabili delle terribili violenze fatte agli abitanti del Darfur. Violenze definite come crimini contro l'umanità. Crimini dei quali, secondo la Commissione ONU, si sono macchiati anche membri del governo sudanese, che per questo dovranno essere giudicati da un tribunale internazionale. Quando ci sono i ragazzi in studio a me piace fare delle domande, e allora comincio facendone una ai ragazzi qui, che è, voglio sapere se loro in casa hanno l'abitudine di riciclare. Voi riciclate? Sì! Io riciclo la carta e la plastica. E vediamo se sanno perché è così importante riciclare. Perché gli alberi ci danno l'ossigeno, e noi riciclando la carta salviamo anche un albero. Ecco, messaggio importante. E allora, per continuare a riciclare non soltanto la carta, e per spingere i comuni a farlo di più, sono state inventate delle Olimpiadi. Queste sono appunto le Olimpiadi della carta. C'ho quattro secchi, dove uno metto la carta, uno la calta, uno il vetro, e uno le cose da mangiare che mangiamo. Ma perché si fa così? Perché almeno non speriamo materia prima. Immaginate due milioni di tonnellate di carta e cartone. Una vera e propria montagna, che l'anno scorso invece di finire in discarica, è stata riciclata e trasformata in nuove scatole e materiali da imballaggio, con benefici per tutti. E io la raccolta differenziata la faccio, perché così almeno non inquiniamo l'ambiente, e poi così possiamo riciclare e farci altre cose, con le cose che invece alcune persone buttano per terra, così come capita. Si può fare di più. Per questo Comieco, il Consorzio Nazionale per il Riciclo della Carta, ha lanciato le cartonia di le Olimpiadi del Cartone. L'obiettivo è convincere gli amministratori e gli abitanti di grandi città a riciclare di più, con premi in denaro per i municipi migliori da usare per proteggere meglio l'ambiente. Oggi a Roma i bambini di alcune scuole hanno dato il via alla competizione. Che cosa vuoi dire alle persone che non fanno la raccolta differenziata? È meglio che iniziano a fare la raccolta differenziata, così possono risparmiare energia elettrica e anche i soldi. Bene, adesso andiamo tutti quanti di corsa all'angolo delle... Curiosità! Come si dice, quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. È proprio quello che stanno per fare i 3460 coraggiosi al via di questa corsa. Siamo a Wolverhampton, in Gran Bretagna, dove dal 1986 si svolge una curiosa competizione. Quasi 10 chilometri di corsa campestre, con una trentina di ostacoli veramente tosti. Spagliere di tronchi, reti sospese, canali di acqua sporca e fredda, ponti di corde e tanto, tanto fango. Insomma, non si tratta proprio di una passeggiata. Faccia e tutto il resto affondati nella melma. Per non essere da meno ci sono anche alcune ragazze. Per la cronaca ecco il vincitore, un poliziotto di 24 anni, ma medaglie d'oro per chi ha finito il percorso. E i premi più graditi, un bagno e cioccolata caldi. Roba da duri anche il carnevale di Neuburg. Barche mascherate e duemila coraggiosi si tuffano nelle gelide acque del Danubio. I più adeguatamente vestiti di muta, ma alcuni temerari in costume da bagno. Temperatura meno 8 gradi, e lo chiamano divertimento. Curioso carnevale sulla neve è anche quello di Geissach in Baviera, nella Germania meridionale. Qui i partecipanti indossano costumi e parrucche e poi partono in sella ad antiche slitte di legno. Attenti alle curve e alle frenate. Ma la vera sorpresa è il salto finale. Spesso ragazzi sapete che ci piace parlarvi di cuccioli, oggi parliamo di un leone adulto. È malato e ha dovuto fare delle analisi accurate. Fortunatamente dormiva. Samson è un leone arrivato in questo zoo in Israele un anno fa insieme a sua sorella Delilah. Appena posate le zampe nella gabbia ha subito cominciato ad interpretare il suo nuovo ruolo di star. Giorni fa però il personale si è accorto che Samson non stava molto bene ed aveva problemi nel mantenere l'equilibrio. Gli sono state fatte allora diverse iniezioni di calmante ed è stato quindi trasportato in una clinica per sottoporlo ad un'attacca. L'attacca è un'apparecchiatura molto costosa in genere usata dai medici per le persone. Serve ad individuare malattie all'interno del corpo umano. I raggi permettono agli specialisti di guardare dentro al corpo come se si volesse vedere dentro una pagnotta di pane tagliandola a fettini. I risultati dell'esame hanno permesso ai medici di capire che il leone ha un problema alle ossa del suo cranio. Perciò presto verrà operato. Samson intanto è tornato nella sua gabbia. Un leone feroce, ora invece attorneato da attenzioni e coccole. Adesso pensateci bene, che colore potrebbe avere il ruggito di un leone, del leone magari che abbiamo visto, e perché? Beh, secondo me potrebbe avere il colore bianco perché il ruggito del leone ci infonde paura. Quindi bianca, uno sbianca dalla paura, giusto? Sì. Allora, vi può sembrare strano, eppure no. Suoni e colori possono essere abbinati almeno secondo questa lezione, concerto che si è tenuta a Roma. Do e R sono colori, secondo me, un po' più scuri. Poi il Sol è giallo. E il sì è un giallo più forte, più... come la luce. Una musica calma rappresenta magari il celeste o il verde. Una musica più acuta, magari il bianco, e queste cose qua. Dare un colore alla musica. È il cuore dello spettacolo Musica Colori messo in scena dai solisti dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia all'Auditorium di Roma. Protagonisti, i colori, gli strumenti e centinaia di bambini che hanno cantato il rosso, il giallo e il blu e disegnato accordi e note, proprio come faceva il grande pittore russo Vassili Kandinsky. Kandinsky è una persona che praticamente abbinava la musica ai colori. e alcuni esempi di colori, ad esempio, lui abbinava il giallo come energia e il blu era un colore profondo. E ci hanno dato dei fogli, dei cartelloni bianchi, dei pennelli e dei colori e hanno detto disegnate quello che provate, quello che sentite. Così la musica può essere bianca, nera, verde, azzurra, infinite combinazioni alle quali solo la creatività può mettere un limite. Io ho imparato che con la musica non è soltanto suonarla perché ti piace, ma è anche un'emozione. Bene, anche questa puntata del GT è terminata. Ci rivediamo ovviamente domani alle 16 e 15. Mi raccomando, non sbagliate orario, 16 e 15. Ciao! Ciao! Per un punto, Martino, perse un po' di euro. Prima domanda, Alfredo. Durante l'ora di disegno, che cosa usano di solito i bambini per sciogliere i colori a tempera? L'acqua. L'acqua, certo. Secondo giro, Simone. Attento, è un gioco di parole. Attenzione. Quale salata esclamazione di sorpresa può essere conservata anche sotto sane? Capperi. Bravo! Capperi! Bravo, Simone! Capperi! Enzo. Quale attore, quale attore in uno dei suoi film ricevette un ciondolo appartenuto al pugile Rocky Marciano? Silvestre Stallone in Rocky 5. Mi dispiace, Enzo, un errore per te. Eccolo, segnalato. Prima dell'incontro con Apollo. Simona, come detto, l'insieme di oggetti mobili e tele dipinte che costituisce il set di un'opera teatrale? Scenografia. Scenografia. La scenografia. La scenografia. La scena. Grazie, Simone. Galina. Tu la conosci? La canzone che faceva Lisa dagli occhi blu. Sì, l'ho sentita. Senza che cosa la stessa non sei più? Mario Tessuto. Sentiamo. Lisa dagli occhi blu. Senza le tre c'è la stessa non sei più. Ai, ai, ai. Piove il silenzio tra noi. Tutte le sapete. Vorrei parlarti, ma te ne vai. Galina, mi dispiace, è un errore per te. Bravi, bravi. Nelly, secondo un detto, cosa riesce bene a chi razzola male? Predicare. Predica bene a chi razzola male. Un errore, Nelly. Ahimè, eccolo, segnalato. Stefano, qual è l'unico dei nove pianeti maggiori del sistema solare che non porta il nome di un dio? Uranio. No, urano di urano. Questo, a terra. A terra. C'è Venere, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno. Plutone, la terra. Un errore, Stefano. Ai, 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 ai. Alfredo. Sì. Quale premio cinematografico si consegna dal 1928 con la formula And the winner is... Premio Oscar. Premio Oscar, esatto. Roberto. Roberto. Simone. Quali formazioni corne rivestono il dorso delle falangette degli uomini? Le narici? No. No. Le falangette degli uomini. Le un... Ho capito male. Mangiatele, Simone. Sì. Un errore per te. Eccolo. Enzo, attenzione che c'è un errore. Chi si addormenta su un materassino a mollo nel fiume Basento, rischia di svegliarsi nel mar... Ionio. Bravo, Ionio, perché Basento attraverso la basilicata e sbocca nel marioni. Bravo, Enzo. Simona. In quale sport ci si posiziona a gambe larghe prima di colpire una pallina di circa 44 grammi? Golf. Golf, è più la spiglia di gambe e poi colpire. Bravo, Simona. Galina. Con quanti zeri va scritto il numero 100 miliardi? Dodici. No! Ce n'è messo uno in più. Undici. Ah, Galina, doppio errore. Doppio errore, Galina. Ma non è ancora detta l'ultima parola. E punta il dito contro... Enzo. Enzo. Andiamo da Enzo. Sfida quindi tra Galina ed Enzo e vediamo se Enzo è fortunato perché tu sai che in una sfera c'è una domanda molto semplice e una invece difficile e una... Meglio. Con si consa. Quale? La, la B e la C? La C. La C. Leggiamola. Eccola. Via la e via la B. Allora, la pignoccata è un dolce a forma di pigna preparato nei giorni di carnevale ed è tipico di quale regione questa pignoccata? Della Molise, della Sicilia oppure della Puglia? Molise. Molise. Vediamo. Tra Enzo e Galina il primo concorrente ad essere eliminato è Enzo perché è tipico della Sicilia insieme a un dolce siciliano immerso nel miele molto buono. Mi dispiace Enzo, consegni a Galina la tua parte di eredità e quindi Galina ha 100 mila euro e continua l'avventura mentre dobbiamo salutare Enzo, grazie. Ahimè, sei stato eliminato. Saluto la mia bambina, Leonora. Leonora, quanti anni hai Leonora? Due anni e mezzo. Ah, vicine, due anni e mezzo. Tutti i miei amici, in particolare Fiorella e tutti quelli che mi conoscono. Grazie. Grazie a te Enzo, ciao, ciao. Simona lì e Galina qui. Parto proprio da Simona con il vero o falso, attenzione anche da casa. Simona ti chiedo. Durante il palio di Siena i contradaioli possono spronare il loro cavallo usando delle cerbottane, vero o falso? Vero. No! Ficcati tutta la piazza Pino, ognuno che lancia una freccetta al cavallo e... Le mie origini toscane mi hanno tragica. Ai, 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 Simona, un errore per te, eccolo segnalato. Galina, secondo un sondaggio, il 44% delle donne inglesi preferisce dormire con il gatto che con il loro partner. Vero o falso? Vero. Vero. Aspita, le donne inglesi intervistate tra i 20 e i 40... anni che hanno ovviamente un gatto in casa, hanno detto il 44% è quasi una donna su due, è quasi il 50%. Preferisce dormire insieme al gatto che con il proprio partner, perché dice che è più comodo il gatto del partner, perché si sente più coccolata dal gatto che dal partner, e perché non hanno mai conosciuto un italiano. uè, uè, cicce, diciamolo! Galina, non mi ricordo più che erese io. Ho detto bene. Perché non russe il gatto, a me. Ma solo dormire. Hai indovinato, Galina? Bravo, bravo. Eh, sì, il gatto dorme. Il gatto dorme. Nellì, preferisci dormire col gatto o con tuo marito? Non ce l'ho il gatto. E quindi? E me lo devo tenere. A Padova hanno istituito il policlinico, con due L, policlinico. C'è un ospedale per soli volatili, vero o falso? Vero. No, falso, falso. Ai, ai, ai. Mi dispiagno, ho inventato. Un errore nel lì. Ecco lo signorale. Stefano. Pronto. Un ometto verde che proviene da Marte, oltre che marziano, può dirsi marziale. Vero o falso? Falso. E invece è vero. Perché l'aggettivo marziale si riferisce di solito ad argomenti militari. Questo perché marziale significa di Marte. E Marte era il dio della guerra. Dunque marziale si può applicare anche a Marte, inteso come pianeta, anche se è più raro. Un errore Stefano. Eccolo, segnalate. Andiamo dal nostro campione, Alfredo. Il regista Steven Spielberg è riuscito a laurearsi solamente a 55 anni. Vero o falso? È vero. Bravo. Solamente a 55 anni. C'era da fare film. C'era da fare dei film di successo, quindi, anzi. Bravo Alfredo, risposta esatta. Simone. Eurolandia è il nome del nuovo parco giochi inaugurato a Bruxelles. Vero o falso? Vero. No, falso. Perché è il nominio usato dai giornali per indicare gli stati membri che hanno adottato l'euro come moneta. Un errore, Simone. Eccolo. Attenta, Simone. Prima di divenire musicista professionista, il grande Jimi Hendrix era stato paracadutista dell'esercito americano. Vero o falso? Vero. Brava. Vero. Nel 61. Galina. Il primo campionato italiano di sci d'acqua è stato organizzato dalla Federazione Sport Invernali. Vero o falso? Vero. No, falso. È stato organizzato dalla Federazione Italiana Scinautico, ovviamente. Un errore, Galina. Eccolo, sicuramente. Attenta, Nelli, eh. Greta Garbo. La famosa Greta Garbo. Prima di diventare attrice, lavorò in un negozio di barbiere. Vero o falso? Vero. Brava. Era un mestiere tipicamente maschile, per cui lo abbandono presso per andare a lavorare in un grande magazzino di Stoccolma. Da lì incontrò il regista che poi la fece diventare attrice. Brava, Nelli. Stefano, attento. Grazie. Per sapere se un uovo è crudo o sodo, basta farlo girare su se stesso e fermarlo con un tocco. Vero o falso? Vero. Vero. Se una volta fermato con un colpetto di dito, l'uovo continua a girare un pochino, è crudo, perché il suo contenuto liquido tende a girare ancora. Se invece è crudo, si ferma e basta. Esatto. Cioè, se è cotto, si ferma e basta. Se è crudo, continua. Se è cotto, continua. Continua. Se è crudo, si ferma. Continua. Se è cotto, si ferma. Non c'è un altro metodo più semplice, Santucci? Beh, aprirlo e mangiarlo. Io ho fatto la prova. Ho fatto la prova con le uova delle mie galline. Sì? E funziona? Funziona. E funziona. Brava, Stefano. È più scientifico. Esistono dei piranha vegetali, vegetariani. Esistono dei piranha vegetariani. Vero o falso? Vero. Vero. Sono i piranha erbivori. Vai a capire però quando è carnivoro e erbivoro. Però esistono. Bravo, Alfredo. È importante che esiste. Simone. C'è un sito internet che mostra in diretta le immagini delle presidente Ciampi al lavoro nel suo ufficio. Vero o falso? Vero. No, falso. Ancora questo non... A questo non ci siamo arrivati. E' il grande fratello nell'ufficio del presidente Ciampi? No, vi prego. Attento, Simone. Da chi si è accompagnato? Da Daniele ed Elena. Da Daniele ed Elena che sono parenti, amici? Sono un amico e una collega. Un amico e una collega. Collega perché spieghiamo che lavori, dove, Simone? Una clinica privata a Piacenza. E' Piacenza, perfetto. Buonasera, ragazzi. Buonasera. Ciao, Madeus. Come va? Benissimo. Benissimo. Noi qui stiamo facendo un tifo mega sferiatato. E ci credo. E ci credo. Chissà contro chi punterà il dito, Simone. Ecco. Contro? Punto il dito contro Nelly. Nelly! Nelly, Nelly. Sei pronta, Nelly? Ci provo. Ci provi? L'A, la B o la C? A. La A. Vediamo se sei fortunato. Guarda, eh. Quale di questi animali non può sfoggiare un caratteristico mantello a strisce? La zebra. La giraffa. La tigre. Eh, la giraffa. La giraffa. La giraffa. La zebra ce l'ha sempre. Eh? Ah, non può. Non può. La giraffa. La giraffa. La giraffa. Tra Nelly e Simone, il prossimo concorrente ad essere eliminato è Simone. Nelly ha trovato sicuramente la più facile delle tre. Nelly, ti prendi la parte di eredità di Simone. Quindi sali a 100.000 euro. Ecco, 100.000 euro per Nelly. Simone, io ti consegno la scatola gioco dell'eredità. Grazie. Mi dispiace. Ahimè, sei stato eliminato. Ok. Ciao ragazzi. Ciao. Simone, è lì. Galina, è lì. Eh? Accerchiamento. Alfredo, tutti lì vicino a te. Per la patata bollente. Attenta, Simone. Attenta, Simone. Ti chiedo. Trenette al pesto, maialino al latte, pasta al ragù. Visto l'orario, cosa fai? Lacedo a Galina. Lacedi a Galina. Grazie. Cara Galina, che cosa usava Garibaldi per conquistare nuovi adepti? Trenette al pesto. Trenette al pesto. Garibaldi, impegnato a diffondere i programmi della Giovane Italia, capì che il cibo poteva essere un buon mezzo di propaganda e iniziò a proporre trenette al pesto. Brava Galina. L'errore a Simona, eccolo segnalato. Eccolo qua. Galina, mi fermo da te. Sì. 50, 60, 70. La tengo. Secondo una ricerca, ogni 100 iscritti all'università della terza età, quante sono le donne? 70. 70. Brava, proprio 70. 70, il 70% sono donne. Brava Galina. Brava. Nelly. Collan, Perizoma, Reggiseni. Eh, le sconcia sta domandando. La cittadina di Konyakov, nel sud della Polonia, ha salvato la sua economia producendo che cosa? Provo con collante. Collante. Allora, questa cittadina ha salvato la sua economia producendo e vendendo in tutto il mondo perizoma. Ai, ai, ai. Nelly, un errore per te, eccolo segnalato. Stefano, colla di pesce, zucchero e limone, latte e miele. La tieni. La tieni e leggiamola. È possibile depilarsi anche con una ceretta fatta in casa, scaldando... Colla di pesce. Colla di pesce. Oh, l'abbiamo provato che il parisotto funziona. Zucchero e limone, zucchero e limone. È una tortura. Un errore Stefano. Alfredo. Sì. Rosa, viola, margherita. Dai, la tengo. La teniamo, leggiamola. Nel film Shakespeare in Love, che nome porta la lady di cui il giovane Will Shakespeare si innamora? Eh, non l'ho visto. Diciamo viola. Viola, diciamo. Come si dice in Anconetano che fortuna che non mi ricordo più? Che pe... Ah, beh, no, ma sì. Bravo, è la risposta santa, viola. Simona. Poeta, notaio o pensionato, cosa fai? La cedo a Stefano. Stefano. Attenzione. Ho vinto la maratona delle sabbie in Marocco. 179... Ha vinto, no, io no. Ha vinto la maratona delle sabbie in Marocco. 179 chilometri di corsa sotto un sole coccente. Ma chi è? Tempo? Pensionato. Pensionato. Si chiama Marco Olmo. Ed è la provincia di Cuneo. Ed è oggi in pensione. Ed è la risposta esatta. Il mio compaesano. Bravo. Il mio compaesano. Dopo gli errori, quindi per Simona. Viva Cuneo. Contro chi punti il dito? Nelly. Nelly. Giochiamo. Giochiamo, Nelly, Nelly. Eccoci, Nelly, come prima, A, B o C. B. B. Vediamo cosa c'è dentro la sfera B. Che domanda. Allora, ti sarà capitato di acquistare del latte, ovviamente. Allora, sulle confezioni di latte fresco, qual è la temperatura massima consigliata per la conservazione in frigo? Tre gradi, quattro gradi o cinque gradi? Si dice che la temperatura massima di conservazione riportata è da zero a quattro gradi. A quattro gradi. Vediamo. Tra Nelly e Simona, il prossimo concorrente ad essere eliminato è Simona, perché quattro gradi è la risposta esatta. Brava, Nelly! Hai eliminato pure Simona! 150.000 euro per Nelly, che continua a giocare. Simona, grazie, ovviamente. Un salutino. Sì, certo. Mio marito Andrea, la mia mamma Antonietta e tutte le persone che sono al palazzolo. Sì. Le mie colleghe, le mie suocere e tutte le persone che mi conoscono. Va bene. Ciao. Un bacione a te, Simona, sei stata eliminata. Ciao. Galina, lì, Nelly da questa parte, grazie. Lì, attenzione. E inizio proprio da Galina con lei o l'altra. Attenzione Galina, attenzione anche a casa. Ecco. Che cosa diventa un diamante quando gli si fanno 57 faccette? Un brillante o l'altro? Un brillante. Un brillante. L'altro una perla. No, è un brillante. E che brillante! Brava, Galina! Nelly! Il mostacciolo è un dolce che tradizionalmente viene preparato in occasione di quale festività? Il Natale o l'altro? L'altro. L'altro. Ferragosto. No, è un dolce tradizionale natalizio di varie regioni d'Italia. Pensavo al carnevale. Mi dispiace, Nelly. Un errore. Eccolo. Andiamo da Stefano. Pronto. Quale coppia di eterni fidanzati si sono lasciati nel 2004 dopo 43 anni insieme? Barbie e Ken o l'altro? Barbie e Ken. Barbie e Ken. Minni e Topolini. Allora, l'amore era sbocciato nel 1961 e i produttori della Bambola spiegano che si sono lasciati in amicizia e che da oggi inizierà una nuova era per la Barbie perché stanno lavorando in una nuova immagine. Rimarrà single o Barbie avrà un nuovo fidanzato? Eh? Che ci tocca comprarlo poi? Tanto per saperlo. Ci abbiamo pochi problemi. Ci abbiamo pochi problemi pure il fidanzato nuovo di Barbie. Quando uscirà però il bambolotto di Parisotto sicuramente potremmo combinare una brutta. Bravo Sanducci. Vuoi vedere che sarà lui il nuovo fidanzato di Barbie? Noi ti fiamo per lui. E mica una cosa brutta. Bravo Stefano, bravo. È andato bene. Alfredo. Sì. Quale categoria di sportivi può vincere il guerrindoro? I ciclisti o l'altro? L'altro. L'altro. Calciatore. Certo, te la risposta esatta. Galina. Sì. Come si chiama l'imbarcazione con un albero, un fiocco e un'unica vela maestra? Slup o l'altro? L'altro. L'altro. Slurp. No, quello forse se c'è vento lo fa. No, no, è slup. Non è facile, ne so. Un errore, Galina. Eccolo, signorato. Nelly. Attenta, eh, Nelly. David Podlesak ha messo a punto un test che analizzando l'alito degli uccelli consente di sapere la loro età o l'altro. La loro età. La loro età. L'altro è cosa hanno mangiato. Che ci importa cosa hanno mangiato? Beh, no, è importante, eh. Va bene, Giacomino lo so che mangia, glielo do io. Lo so, ma gli uccelli migratori o uccelli che stanno in alcune condizioni anche di inquinamento, è molto importante sapere cosa mangio per capire come varia l'ecosistema e da dove vengono. Bravo, Santucci. Avrei detto anche io la stessa cosa sapendolo. Esatto. Ed è infatti cos'hanno mangiato, cos'hanno mangiato. Nelly, doppio errore. Nelly, contro chi lo puntiamo il dito? Stefano. Stefano. Vediamo. Caro Stefano, siamo pronti? Prontissimi. A, B, C. La. La. Alberto e Anarita. Vediamo. Cosa c'è nella A? Che forma ha una goccia di pioggia quando sta per toccare terra? Ha una forma allungata? Una forma sferica? Ha una forma schiacciata? La forma sferica? La forma sferica. Abbiamo una fotografia? Fammi vedere. Eh sì. Ci sono sopra? Mi giro così. E questa è una forma, se non un disco volante quasi. Allungata? In realtà schiacciata. In realtà è schiacciata perché cade così. Cade nella mia direzione. Giusto Santucci? Giusto sì, perché le gocce sono sferiche quando partono, poi quando si staccano sono a forma allungata, a lacrima, poi quando precipitano giù e stanno per schiacciarsi per terra hanno questa forma a causa dell'attrito dell'aria. E' un po' stiano ma è così. Mi dispiace Stefano, mi dispiace, ma è schiacciata la risposta esatta. Stefano consegna la propria parte a Nelly. Nelly, 200.000 euro li fai fuori tutti. E continua ovviamente a giocare. Grazie Stefano, ma sei stato eliminato. Ciao Stefano. Alfredo, Galina, Nelly, attenzione, attenzione, è entrata la scossa. Giovanna. Buonasera. Giovanna, buonasera, buonasera, buonasera. Grazie. Come va? Bene. Molto bene, di Alfredo esulta. La verità abbiamo scoperto che Alfredo le sbaglia apposta, signor. Suo marito fa il furbo, le sbaglia apposta. Ho capito, ma vedrai quando arriva a casa. Vedrai quando arriva a casa, come gli fai ricordare tutte quelle sbagliate. Se ce vado a casa. Non si fa tornare. Vediamo. Allora, sembravi una tartaruga ninja. Sono pronta, sono pronta. Perfetto, pure io. Quindi è una rama già dal basso questa? No, no. È una rama già presa da qui? No. No? No. È il momento della scossa. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Sono commossa, sono commossa! Grazie, ciao! Giannina, vieni, vieni! Buonasera, ciao! Buonasera Giannina! Dovete sapere ragazzi, Alfredo è qui per voi, gli frega niente, gli euro... Poi lei mi crea una suggestione particolare perché essendo io tifoso della Fiorentina insieme al mio futuro genero... Ah, siete tifosini? Sì, siamo un club di 10-12 in Ancona, un centinaio in Ancona, il suo accento mi evoca Firenze, anche se a Juventù... E' un tipo della Juventus, vabbè... La Juventus! Ah, ma te l'avevo già detto, capito! Ma è perché io penso che col tempo tu... Cambi idea! Cambi idea! Vabbè, ci penserò, dai! Cambi idea! Cambi idea! Leggi questa scossa, leggi questa scossa! Quale tra queste grandi città europee non è bagnata dal mare? Ah, una geografia che ti piace tanto da Alfredo! Allora, speriamo l'accento sia giusto... Spalato! Se me la sbaglio me buttavo per terra, perché guarda... Salonicco, Granada, Marsiglia, Odessa, Belfast, Reykjavik, Barcellona, Helsinki, Edimburgo... Sai che sei meglio tutti i pari sotto che mi dai in cuffia gli accenti, veramente... Allora, Alfredo, quale di queste grandi città europee non è bagnata dal mare? Quindi sono tutte bagnate dal mare, meno una... Dobbiamo dire quella che è bagnata? Esatto, mi devi dire... Scusa, quale è bagnata dal mare? Sicuramente Barcellona! Sicuramente la bellissima Barcellona! Scossa! Infatti, dal Mediterraneo, sono! Galina! Odessa! Scusa? Odessa! 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 Scossa! Brava, perché... In Russia! Il Mar Nero! Dal Mar Nero! È andata da zone, eh! Ognuno va nei propri mari! Nelly! Spalato! Spalato! Vediamo... Spalato! Anche tu sei andata più o meno a Trieste, sei andata a Spalato! Sono stata pure a Spalato! Sei stato a Spalato! Scossa! Bravo! In Croazia, la bellissima Spalato! E quindi l'Adriatico! L'Adriatico mi segue! L'Adriatico mi segue! Che segue! Poi devo dire che dalla parte della costa dell'Adriatico è un mare, lo diciamo, un Adriatico che è splendido, è che è splendido! Alfredo! Senti, io direi il porto più famoso dei Noir francesi, Marsiglia, dove si svolgeva tutto lì! Certo! Vediamo un po'. Scossa! Bravo, infatti, è il Mediterraneo! Il Mediterraneo! Galina! Salonico! Salonico! O come dicono i greci, Tessalonichi! Scossa! Brava, è Grecia! E quindi il mare Geo! Nelly! Belfast! 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 Vediamo un po'. Belfast! Scossa! No! Mar di Irlanda! Mar di Irlanda, infatti, è il nord, è il mar del nord! Alfredo! Dunque, io direi Reykjavik! Mmh, Reykjavik! Scossa! Bene, Alfredo! Siamo? Atlantico! Atlantico, siamo in Islanda! Galina! Helsinki! Helsinki! Helsinki, anche qui siamo belli in alto, siamo in Finlandia, vediamo Scossa! Mar? Baltico! Baltico! Brava, Galina! Nelly! Due! Edimburgo! Edimburgo! Andiamo su in Scozia! Scossa! Brava! Maldernod! Brava, bravi, 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 bravi! Subito, subito! Un'altra scossa, via! Eccola! Appare e scompare! Secondo l'Istat, in quale regione italiana, bene il 48,8% delle famiglie possiede più di un'automobile? Trentino Alto Adige, Marche, Sicilia, Lombardia, Abruzzo, Liguria, Piemonte, Umbria, Lazio, Toscana. Ok, Alfredo arriva dalle Marche, Galina insomma dalla Lombardia sta andando a Pavia, Enele abbiamo detto che arriva da? Dall'Abruzzo! Dall'Abruzzo! Dall'Abruzzo, quindi può essere bravissimo! Allora, quindi vediamo, ci sono ovviamente le vostre regioni, vediamo. Intanto Alfredo non è... Eh no, volevo dire, scusa, se permetti, in quale regione italiana è bene il 48%? Cioè, però può essere una regione che ne possiede anche di più. Devo individuare quella io proprio? Ecco, una domanda... E' quella che ne ha di più. E' quella che ne ha di più tra queste o tra queste? In assoluto anche. Ah, in assoluto, in assoluto. Ah, ecco, in assoluto. Cioè, tutte le altre sotto i 48. Esattamente. Scusa, no, perché... No, no, giusto, giusto, in assoluto. Ora, in assoluto... Ora, in assoluto... Galina... Io provo Trentino Alto Adige. Trentino Alto Adige. Scossa. Brava, quant'è la percentuale? 35,7%. 35,7%, quindi nettamente inferiore al 48,8%. Nelli. Liguria. Liguria. Vediamo se i Liguri hanno... Come dire, le famiglie Liguri hanno più di un'automobile, la maggior parte è più di un'automobile a testa. Scossa. Brava, Liguria. 20,9%. Pensate, pensate, e si trova l'ultimo posto ex equo con un'altra regione che non dico, eh. Liguria, poche auto. Si bottiglia perché non c'è. Scusa, Santucci. Si bottiglia perché non c'è. Ah, non c'è. Ah, non c'è? Allora, l'ultimo posto insieme alla Campania. Quindi Liguria e Campania sono le due regioni, come dire, che spendono meno per acquistare automobili. Senti, io... O la doppia auto, possiamo dire una famiglia, ecco, più che... Quindi si intende automobili di famiglia, no? Sì, sì, di famiglia, di famiglia. La famosa doppia auto all'interno del nucleo familiare. Non sul buncino per lavorare. No, no, l'auto in famiglia. Penso la Sicilia. La Sicilia. Vediamo. Scossa. Brava. Come siamo messi? 27,2%. 27. Anche qui basta la percentuale in Sicilia della doppia auto in famiglia. Galina. Umbria. L'Umbria. Vediamo l'Umbria. Scossa. Scossa! In Umbria, la metà, quasi la metà delle famiglie possiede almeno due auto. Avrei una pittata. Almeno due auto. Al secondo posto ci sono le Marche. Eh, infatti me li tenevo distanti dalle Marche. Bravo, al secondo posto le Marche. Le secondo posto le Marche. Allora, Galina. Alla tua destra, Alfredo. L'autosistra Nelly punta il dito contro? Nelly. Nelly, Nelly. Grazie, Giannina. Questo due è l'altro poco. Grazie. Benvenuti nello spazio della classe, dell'eleganza e della comodità Shadow Ducks, che fa grande ogni casa, anche la vostra. I negozi Shadow Ducks sono gli unici in franchising, in cui puoi trovare non solo divani e poltrone, ma anche una nutrita proposta di letti e complementi per la notte. E il tutto da vestire e coordinare con un'incredibile varietà di 200 tipi di pelle e più di 1500 tessuti, tutti allo stesso prezzo, da poter valutare e scegliere con l'aiuto di personale specializzato e di un totem che vi mostra richiesta l'immagine del divano con il rivestimento scelto. E solo per questo mese Shadow Ducks vi offre un'occasione eccezionale per fare grande la vostra casa. Tutti i prodotti Shadow Ducks si possono acquistare pagandoli in 12 comode rate e potete pagare la prima rata fra un anno. Un esempio? Allora ammirate l'eleganza, il design e la comodità del divano flash in tessuto sfoderabile a tre posti. Beh, è davvero bellissimo e costa solo 1340 euro, pagabili in 12 comode rate di 89 euro, mentre la versione con chaise longue e contenitore costa solo 131 euro al mese e potrete pagare la prima rata tra un anno. Naturalmente IVA, trasporto e montaggio sono compresi nel prezzo come pure la garanzia di 5 anni su tutta la struttura. I 110 negozi Shadow Ducks vi aspettano per fare grande casa vostra. Chiamate il numero verde 800 132 132 per sapere qual è il negozio più vicino oppure consultate il sito www.shadowducks.it e ricordate, Shadow Ducks fa grande ogni casa. Anche le aquile di Vetz preferiscono la naturale leggerezza di acqua prata. E alla prossima puntata! La mamma non c'è, ma noi ce la caviamo benissimo da soli. Ma sono diverse! Sembravano uguali! Ma papà, la merenda! Ho fatto la spesa! Ma non è Kinder Brioss! È questa! Sembravano uguali! La tengono tante ore sotto un tuvaliolo ed esce leggera. Poi, mezzo, c'è tanto latte. Me l'ha detto la mamma. Kinder Brioss è come la mamma. Ce n'è una sola. Ah, ce la siamo cavata benissimo! Ho scoperto nuovo Smack Brillacciaio. Pulisce con cura l'acciaio, lo protegge e in più lo fa splendere a lungo. Ma è come uno specchio! Come ha fatto, sorella? A me può confessarlo. È lo splendore di Smack Brillacciaio. Nuovo Smack Brillacciaio. Un tocco in più per la tua casa. Così fresca e invitante. Belli! Certosa Galvani da oggi è ancora più buona e ancora più cremosa. Semplicemente irresistibile. Certosa Galvani. Tutto il gusto del benessere. Il deodorante giusto è nuovo Deoinfasil tripla protezione. Regola la sudorazione. È clinicamente testato per essere delicato. E tiene freschi a lungo. Nuovo Deoinfasil senza alcool. Da oggi anche Roll On. Cresci con Danito! Controlliamo la tezza! Per crescere bene ci vogliono vitamine, proteine e calcio. Io raccomando Danito ogni giorno. Danito è un concentrato di latte e frutta con tante vitamine, proteine e calcio per crescere sani e più forti. Buono! Danito, la merenda mito! Ecco le pizze! Quando pulire non basta, ma ci vuole anche igiene. Nuova Ace Igiene Casa. L'unico detergente con la candeggina Ace per darti pulito brillante e l'igiene di Ace. E tu vai su sicuro. Dieci formaggi! Ma come dieci formaggi non esiste? Nuova Ace Igiene Casa. Pulito e igiene sono di casa. Tu sei bellissima Tu sei bellissima Tu sei bellissima Rocchetta è l'acqua che mi fa star bene perché depura per le sue proprietà diuretiche. Così mi sento più bella. Acqua Rocchetta. Puliti dentro. Belli fuori. Ma è Alice! Tutti vogliono Alice. Specie adesso che accelera gratis fino a 640 kilobit al secondo. Però, guidi bene? Beh, sto imparando. Tutti voglio. Sì! batti e ribatti è il nuovo appuntamento con pierluigi battista ma è giusto che i militari italiani vadano via dall iraq batti e ribatti dal 15 marzo ogni giorno dal lunedì al venerdì dopo il tg1 delle 20 eccoci 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 una della seconda parte dell'evità è un momento importante perché allora possiamo dire che galina arriva da pavia ma ricordiamo nata a barna esattamente bulgaria vive a pavia da nove anni ha giocato molto bene ahimè però ha preso la scossa non ha puntato il dito contro il campione che quindi va sicuramente all'ultima sfida ma contro anelli attenta anelli come prima hai vinto tutti duelli vediamo cosa fai adesso a b o c c c nel medioevo i servi della gleba erano costretti a lavorare i campi dei padroni ma la gleba che cos'è una zolla di terra un piccone una spiga di grano i servi della gleba una zolla di terra una zolla di la risposta esatta tra nelli e galina prossimo concorrenti ad essere eliminato è galina perché zolla di terra la risposta esatta brava nelli ragazzi che moglie che moglie eh 300 mila euro per nelli brava nelli continua a giocare galina grazie buon ritorno a pavia grazie ahimè sei stata eliminata grazie grazie nélli li alfredo esatto sistematevi impostazione ultima sfida via eccoci alfredo nelli 50 mila euro nostro campione 300 mila euro nel lì ha giocato benissimo una bella differenza economica come sempre ricordo che non vince chi ha più euro ma chi mi dà risposte esatte cinque risposte esatte per primo. Inizio da Alfredo che è la parte minore. 3, 2, 1, via per Alfredo. Prima domanda di questa ultima sfida. La Deutsche Bank è un istituto bancario fondato nel 1870 in quale stato? Germania. La Germania, esatto. 1 a 0. Nelly. Quale regione del centro Italia fino a qualche anno fa aveva il nome al plurale? Abruzzo Molise. Bravo Abruzzo, bravo Abruzzo e Abruzzi perché comprendeva che brava Nelly. 1 pari. Alfredo. Quale angelo seguirono i ribelli cacciati dal cielo e trasformati in demoni? Lucifero. Lucifero, esatto. Siamo 2 a 1. Nelly. Ti chiedo. Quale rete televisiva di Cecchi Gori ha avuto come direttore del TG Sandro Curzi? Radio Montecarlo. È Montecarlo, TV Montecarlo. Ho detto radio. Santucci, Montecarlo è esatto. Mi consulto con il notaio. Agli inizi c'era Tele Radio e Tele Montecarlo, tutte e due insieme. Vabbè, intanto sentiamo che cosa ci dice. Il notaio ha detto sì. Va bene? Perfetto, Nelly. Due pari. Alfredo. Quale termine francese indica un'automobile decappottabile? No, coupé. Cabriolet. Cabriolet. Coupé tagliata. Attenzione Nelly, puoi passare in vantaggio. Nella piazza di quale città il 28 maggio dell'87 atterrò un aereo guidato dal giovane Mattias Rustzi? A Mosca, la piazza rossa. Brava, nella piazza di Mosca. 3 a 2 per Nelly. Alfredo. Quale ora del D ha pure il significato di meridione d'Italia? Mezzogiorno. Mezzogiorno, esatto. 3 pari. Nelly. Com'era comunemente chiamata la camera bassa del Parlamento inglese. La camera? Dei Lorde. Non dei Lorde, ma dei comuni. Dei comuni. Attenzione Alfredo. Quale ballerino e coreografo di origine americana creò il Dada Umpa delle Kessler? Don Lurio. Don Lurio, esatto. 4 a 3. Nelly. Ti chiediamo. In quale sport da tavolo si fa una carambola? Tennis? No, no, il bigliardo. Il bigliardo. Torniamo ad Alfredo. In quale esercizio musicale si leggono ad alta voce le note scritte sul pentagramma? Solfeggio. Ed è la risposta esatta, è Alfredo. Si conferma campione. Ma Nelly ti ha fatto sudare stasera. Brava Nelly. Accoprati nella sfera Nelly. E con Alfredo ci si riprova. Andiamo alle realtà. Grazie Giulia, grazie Gianina. Conosci la strada. Accomodi Alfredo. Eccoci qua. Allora, 50.000 euro. Ci riproviamo un'altra volta. 100 milioni delle vecchie lire. C'è la torcida qua, eh? Eh? Qua c'è la torcida proprio, eh? Non è circoscritto alla cosiddetta fascia verde della città. Durerà 4 ore, dalle 15 alle 19. Provvedimento che resterà in vigore fino al 31 marzo. Un nuovo centro trasfusionale di immunologia e medicina trasfusionale. La struttura è stata inaugurata oggi al Policlinico Universitario di Tor Vergata. Intanto c'è attesa per l'apertura del nuovo pronto soccorso, Paolo Aristodemo. Sorgerà qui, in questi locali, il nuovo pronto soccorso di Tor Vergata ed è già partito il conto alla rovescia per la sua inaugurazione. Oggi già esiste un punto di primo soccorso al Policlinico di Tor Vergata. Il trasferimento in questa nuova area, che è un'area di 900 metri quadri, avverrà a tempi brevissimi. Dalla regione rassicurano, il pronto soccorso aprirà a giorni. Io credo che, così come avevamo annunciato, per fine marzo il pronto soccorso può diventare una cosa reale a disposizione dei cittadini della nostra regione. Locali nuovi di Zecca, non solo per il pronto soccorso ma anche per il centro di medicina trasfusionale. Il dipartimento inaugurato dal presidente Storace in occasione della campagna di raccolta sangue promossa dalla regione. Nel Lazio mancano 30.000 unità di sangue. Io l'appello lo rivolgo a tutti gli studenti che numerosi popolano l'Università di Tor Vergata e quindi spero tanto che con loro riusciremo a dare un impulso al centro e a raggiungere questa benedetta autosufficienza di sangue. L'invita a donare il sangue anche della regione. Telefonate al numero verde per sapere come si può donare il sangue. La risposta più bella da parte dei cittadini del Lazio. Il numero verde è 800 01 22 83. Un nuovo servizio telefonico sperimentale gratuito favorirà la comunicazione fra gli udenti e i sordi del Lazio. L'iniziativa, la prima del genere in Europa, nasce dalla collaborazione tra Regione Lazio che finanzia il progetto e Dente Nazionale Sordomuti. In sostanza la persona sorda che ha necessità di parlare con un udente indirizza ad un operatore un messaggio attraverso uno speciale apparecchio in grado di funzionare come un normale telefono ma anche di trasmettere messaggi scritti. Il progetto, appena ultimata la formazione degli addetti, sarà raggiungibile attraverso il numero verde 8 0 0 0 6 7 5 9 0. Il tempo del gioco, oltre lo studio, il Consiglio dei Bambini di Roma, riunito al Museo Zoologico, ha presentato le proposte dei piccoli cittadini della capitale, fuori i compiti dal fine settimana. In una lettera pubblica inviata a tutte le scuole elementari di Roma chiedono di avere spazi temporali da dedicare al gioco, un diritto sempre più negato proprio per il carico di lavoro da svolgere a casa. L'assessore alle politiche per la promozione dell'infanzia è scesa in campo chiedendo una modifica del regolamento di polizia urbana che vieta il gioco sul suolo pubblico. Si tingerà di giallo a fine giugno una striscia lunga a 12 chilometri del territorio di Aprilia in provincia di Latina. Mauro Maolucci ce ne anticipa la soluzione. Vediamo. Sbarcano ad Aprilia i giapponesi pronti a realizzare una pista per collaudare gli pneumatici. Il marchio prestigioso è quello della Bridgestone Firestone che fornisce la Ferrari, la Sauber, la Minardi e la Jordan. L'anello lungo 12 chilometri sarà inaugurato a giugno e sull'asfalto potranno essere collaudate le gomme con qualsiasi condizione meteorologica simulata. Si passerà dal gelo al caldo tropicale, dalla pioggia al sole cosciente. Sarà un gioiello tecnologico dove trionferà l'elettronica. Nascerà anche un centro di formazione dove verranno a studiare i ricercatori della Bridgestone. A pochi chilometri da qui per 30 anni la storica rivale alla Goodyear ha sfornato migliaia e migliaia di gomme. Il colosso degli pneumatici ha stanziato 80 milioni di euro. All'inizio troveranno occupazione 50 persone, poi si arriverà a 100 dipendenti. A pochi chilometri a Castel Romano sorge uno stabilimento della stessa casa e questo progetto aiuterà a far decollare un polo industriale. Inoltre nella zona è prevista la realizzazione di una centrale a termocombustione che utilizzerà i copertoni per fornire energia elettrica, il tutto a basso impatto ambientale. Ci spostiamo al sud della provincia di Latina dove fino all'esito delle analisi è vietato bere l'acqua dai rubinetti. Da quelli di casa esce infatti un liquido marrone, probabilmente a causa di un'infiltrazione dal torrente Capodacqua straripato nei giorni scorsi in seguito alle abbondanti piogge. Lo ha comunicato l'acqua latina ai sindaci di Gaeta, Formia, Minturno, Santi Cosma e Damiano, Castelforte e Spigno. Vertice atto 3 per verificare la necessità del bacino idrico che serve la Sabina e 8 comuni della provincia di Roma. Darieti, Tito Cheli. La conferenza dei sindaci dell'ambito territoriale ottimale per la gestione dell'acqua, comprendente 81 sindaci, 73 del Riatino e 8 della provincia di Roma, si è riunita per verificare l'entità numerica del personale dei vari comuni e consorsi impiegati nell'attuale gestione degli acquedotti e della depurazione delle acque, che dovrà passare al nuovo gestore dell'ambito. La conferenza dei sindaci in una prossima riunione deciderà quanto di questo personale passerà alle dipendenze del lato 3, anche se il numero stabilito è di 120 unità. Si è parlato anche degli organismi da salvaguardare di quelli esistenti. Per il solo consorzio del lucro industriale, Rieti Città Ducale, è stato deciso di garantire una salvaguardia temporanea per un periodo prefissato di tre anni. La scarsa illuminazione nelle gallerie di viale del Muro Torto sarebbe all'origine della permanente situazione di pericolo di questa arteria urbana. Lo scrive nella vostra e-mail un nostro telespettatore. Sul posto è andato a verificare Lazzaro Pappagallo. I più giovani di voi ricorderanno uno straordinario video del rapper italiano Frankie High Energy. Accompagnava una canzone intitolata Quelli che ben pensano ed era ambientato nelle tenebre del Muro Torto. A ben pensare in questo caso è un nostro ascoltatore. Ci ha invitato a verificare se si riesce a vedere qualcosa nel segmento che conduce a Via Nomentano o al Policlinico a Castro Pretorio. Siamo andati lì e abbiamo visto che c'è sì un cartello segnaletico di ingresso in galleria con l'indicazione degli svincoli, ma è in alto e bisogna saperlo. Molti non lo sanno e arrivati vicini allo svincolo iniziano a frenare disorientati e quando noi ci avviciniamo non riusciamo a leggere con la nostra telecamera direzione e nome degli svincoli. Da fermo all'esterno, se guardate in alto a sinistra, noterete che in uscita dalla galleria due lampade su una dozzina sono pienamente attive e il 40% non funziona. Tutto molto pericoloso per auto e soprattutto moto. Abbiamo girato all'assessore competente la nostra segnalazione, protesta non solo accolta. In tutto il sottopasso di Corso d'Italia fino a Flaminio noi rivedremo la illuminotecnica e metteremo parecchie lampade, ma di tipo innovativo, molto più luminose, molto più diffusive come luminosità. I lavori cominceranno alla metà di marzo e per la fine di aprile saranno ultimati. E noi saremo lì a verificare, come per le altre indicazioni da girare alla vostra e-mail www.chiocciolarai.it o al numero di fax 06-331-70149 Il calcio, archiviata la vittoria casalinga con l'Inter, la Roma si concentra sui prossimi impegni di Coppa. L'Alessio invece è di nuovo al lavoro a Formelo. I servizi di Alberto Rimedio e Nuccio De Simone. Passaggio immediato dalle meraviglie della notte con l'Inter alle insidie della trasferta con il Villareal. Dunque Coppa UEFA, impegno scomodo perché in grado di togliere energie preziose, ha una squadra sempre convinta di poter raggiungere il Milan. Il Vecchio nostro è il campionato. E allora capita, pensando alla regina, che Capello lascia a casa diversi giocatori da non rischiare. Niente Spagna per Totti, Candelà, Dacura, Kivu e Del Vecchio. Dopo tre mesi e mezzo torna invece Montella. Arma potenzialmente letali in un attacco che già oggi non ha rivali in Serie A con i suoi 55 gol segnati. Otto li ha realizzati proprio Manzini, la vera sorpresa giallorossa imprendibile con i suoi tagli improvvisi dalla destra verso il centro. Certo non ha fatto rimpiangere Cafu, il suo predecessore, ma il giovane brasiliano vola basso al cospetto del due volte campione del mondo. A me non mi piace a Paragoni, veramente. Chiusura dedicata a Belletti, l'esterno brasiliano del Villareal che su un quotidiano avrebbe dichiarato di non sapere chi sia Manzini. Lui hai detto che non conosci? Belletti, sì. Ma dove sentite? Io ho giocato insieme con lui due anni, atletico minero. E sembra di aver richiarato questo? Non mi dà fastidio, ma è strano. La giornata a Formello dove oggi sono ripresi gli allenamenti della Lazio è iniziata con la presa di posizione di Roberto Mancini su alcune notizie che lo vorrebbero già all'opera per programmare il mercato della futura Inter. Inizialmente era un silenzio, poi... I miei silenzi vanno interpretati. Cioè, io ho detto, no, ho detto un mese fa che non parlavo più di questa cosa. Se uno vuole fare il furbo lo interpreta come vuole, ma io non ho risposto perché un mese fa ho detto non parlo più di questa cosa, perché non mi sembra giusto parlare. E il Mancio vuole dare poi un taglionetto anche alle polemiche sorte intorno alla data del recupero della sfida di Bologna, fissata per il 25 marzo alle 20.30. Un giorno vale l'altro, non è molto importante. Magari, non lo so se si può ancora, ma se si potesse anche per tutte e due le squadre, non solo per noi, insomma, anticipare di qualche ora forse sarebbe meglio. Intanto fino a venerdì Cesar sarà in Brasile per problemi familiari, ma Mancini non lo mette in dubbio per la sfida contro l'Udinese. Una sfida che precederà Juve e poi i derby. Il tutto in una settimana e in chiave Coppa Italia e Corsa Champions League. Noi dobbiamo fare dei punti, insomma. Per noi è importante battere l'Udinese, poi battere la Juve e poi pensiamo al derby. I tre punti dell'Udinese valgono come quelli della Roma, per noi. Il consueto appuntamento del FAI per la giornata di primavera il 20 e il 21 marzo. Maria Gabriella Susana, vediamo. Per gli amanti dell'Ottocento e degli intrighi familiari, oltre Ponto Umberto c'è il Museo Napoleonico. L'edificio è del Cinquecento ed è dedicato alla figura di Napoleone e della sua famiglia. Il museo è aperto gratuitamente in occasione della giornata del FAI e la storia di Napoleone tra queste stanze si svolge come in un film. Il periodo della grande ascesa, quello romano, il secondo impero e poi le opere d'arte ed i soffitti settecenteschi a prevetti dipinti, un vero capolavoro. Con la giornata di primavera sarà possibile accedere poi con un ingresso straordinario in uno dei musei più sconosciuti e più insoliti della città. Tra fischietti in terracotta, la cui funzione era essenzialmente ludica, sistri, sonagli e alcune statuine a simboleggiare il suono, segno che nei tempi più remoti la musica aveva la sua importanza. La storia del suono è rimasta un po' lontana dagli affollamenti del turismo di massa, ma dietro Santa Croce in Gerusalemme coltiva invece tesori da scoprire e da preservare. Un corno del VI-V secolo avanti Cristo, usato probabilmente per lanciare dei segnali ed una doppia tibia, forse romana ma più probabilmente etrusca, spalancano le porte agli appassionati ed ai curiosi della materia, rievocando note del passato fino al Medioevo e dal Rinascimento. E dal clavicembalo si passa a pezzi di rara autenticità del secolo XVII con le arpe di Louvè e di clarinetti d'amore. Fine di questa edizione del telegiornale regionale del Lazio, grazie per l'ascolto. La prossima alle ore 23.15 circa. Intanto buona serata e arrivederci. Tg Regione, con la partecipazione di Parà Tende da Sole Tempo Test, vi presenta il Meteo Regionale. domani mattina sulla nostra regione si prevedono iniziali condizioni di bel tempo ma con tendenza ad aumento della nuvolosità alta e stratiforme a partire dalla costa. Domani pomeriggio ma soprattutto in serata estensione della nuvolosità a tutto il territorio regionale. Questo è il tempo e le temperature previste per domani. Minime della notte comprese tra meno 3 e 2 gradi, massime tra 10 e 13 gradi. Venti deboli sud occidentali, mare da poco mosso a mosso. Ah sì? Dai, dai, racconta! Ma no, ti dico di no, non mi disturbi affatto. No, guarda, sta tranquilla. Sono magic. Oh, finalmente! Per una chiamata così dovrei fare un mutuo. Ma no, parlare con tutti mi costa solo 15 centesimi al minuto. E se mi chiamano, mi ricarico. Se hai 3, si vede. 3 presenta Tuamatic, l'autoricarica che nessuno ti dà. Per ogni minuto di chiamata ricevuta ti ricarichi di 5 centesimi. Con quello che risparmi, apri tu, eh? Tu, con la forza di 3. Senza. Con. Senza. Con. Senza. Con. Senza. Senza. Con. Senza. Con. Senza. Con. Con. Nuova Megane Coupé Cabriolet con tetto in vetro. Con è come senza. Le Folline Megane. A marzo scopri le sorprese sulla gamma Megane in tutta la rete Renault. Una Casper. Non lo sai che con un tappo di Carlsberg si vola in due agli Euro 2004 per premiare in Man of the Match. Carlsberg. Viro ufficiale Euro 2004. Accetteresti mai che qualcuno guidasse una Y identica alla tua? Tranquillo. Abbiamo pensato anche a questo. Nuova Lancia Y. Il piacere è tutto mio. E comparir Lancia. Cinque anni di garanzia e assistenza stradale. Alba, assegnate il tuo indice. Felicità. Alba, e mo' ci hai scocciato? Eh. Con i team. Il tuo mondo è sul telefonino. Anche lo sport. Venite, venite. Che profumo meraviglioso. Eh beh, d'altronde il parmigiano reggiano è assolutamente naturale. Fatto con metodi artigianali. E senza additivi. Perché usiamo solo il latte delle nostre mucche. Che non mangiano foraggi fermentati. Loro. Simpatica però. Parmigiano reggiano. Non si fabbrica. Si fa. Per i 50 anni di Volkswagen in Italia, i concessionari Volkswagen vi regalano da 1000 a 4000 euro di vantaggi. Fino al 31 marzo. Il compleanno è vostro. I regali sono tutti vostri. Caccia aperta al testimonial! Infostrada, cerca il testimonial per la sensazionale offerta Happy Night! Happy Night. Chiami gratis da casa in tutta Italia, dalle 8 di sera alle 8 del mattino. Chiama Infostrada al 159. Doc 3 presenta L'evoluzione dell'uomo durante l'era glaciale. 24.000 anni fa, quando il nostro pianeta era in gran parte ricoperto dai ghiacci, solo l'ingegno ha permesso ai nostri antenati di sopravvivere. Il primo dei nostri antenati che possiamo effettivamente chiamare umano è l'uomo ergaster. Per sopravvivere, il poteva contare solo sulla propria intelligenza. Il mondo dei ghiacci. Questa sera, alle 23.40, su Rai 3. Oh, ringo facchia! Lui facchia me o hi! Facchia me o hi! Sabato 13 marzo, siamo di nuovo su Rai 3, alle 23.25, con Dove Osano le Quaglie. 13 marzo? Sì. Non posso? Perché non puoi? Ho una crisi. E falla saltare. Ma è mio nipote. Posso? Devi venire lo stesso. Ma cerco di organizzare la cosa. 13 marzo, eh? 23.25? Sì. Vabbè. Non perdiamo tempo, mi dia. Mi dia, non perdiamo tempo. Si diceva una volta che la fame aguzza l'ingegno per riprendere la vita. Prendere a fare indigestione di vittorie nella settimana delle massime difficoltà e indigenze. 5 titolari assente. 5 titolari assenti, da tre seghe a Zambrotta e Giuliano. Tutto in due notti per la Juventus stasera col Deportivo La Corugna e domenica col Milan. E allora ecco la strategia sorpresa di Lippi contro gli Spagnoli, vincitori all'andata 1-0. Il modulo è un inedito 4-1-3-2 con appia esterno-sinistro di difesa al posto di Zambrotta, indiscusso le grottaglie alla Pirlo davanti alla retroguardia, poi tre di centrocampo attacco ed il Piero Di Vaio punte di manovra. servirà a segnare quei due gol indispensabili. Grazie. 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 Grazie.